Musica Musica Subito la presentazione del dottor Andrea Fontanella da Napoli, past president Fadoi, che ci parlerà della profilassi del tromboembolismo venoso del paziente medico, quindi ricoverato nell'ambito dei reparti medici, a chi e per quanto tempo. Grazie dottor Antonella. Grazie, grazie a voi e davvero grazie a Fulvio che mi invita sempre, io vengo qui sempre con estremo piacere. Mi ha affidato un argomento oramai già discusso e che non finirà mai di essere discusso perché non potrà mai avere delle definizioni quantomeno cartesiane, ma sempre basate su quella incertezza che gli eventi biologici inevitabilmente danno. Bene, allora è chiaro che comincio, questa è la mia agenda di oggi, dall'annoso problema, dalla storia in sé per sé. E la storia è una storia semplice, perché è chiaro che nella medicina interna si concentra la maggiore incidenza del rischio tromboembolico. Vedete, il 43% o di sopra di qualunque altro dato di reparti chirurgici, oncologici o infettivologici. Ma l'aspetto più critico, questa è una diapositiva come molte delle mie, inevitabilmente molto datate, è che dalla seconda metà dello scorso secolo, all'inizio di questo nuovo millennio, mentre si è assistito nelle chirurgie dove c'è un preciso e definito momento di rischio trombotico a un crollo del 71% delle eborie polomonari fatali, nelle medicine questa riduzione è stata risibile del 18%. Ed è un problema universale per quel che riguarda l'incidenza degli eventi tromboembolici. Per forza devo nominare lo studio Endors, che è uno studio epidemiologico internazionale, vedete quanti paesi sono stati coinvolti, che confermano come l'incidenza del rischio tromboembolico venoso sia sempre intorno al 43-44% nei reparti medici. E la FADOI poi ha dato naturalmente il suo contributo, con un disegno preciso della realtà italiana, con il famoso studio Gemini, che è stato uno dei primi nostri studi, che ha segnato il nostro crescendo progressivo nell'ambito degli studi scientifici e dei trial fino ad arrivare sul New England, come ben sapete con il Caravaggio, dove si conferma, questo è lo studio del 40%, che i pazienti medici con indicazione a eseguire profilassi profilassi sono intorno al 41%, però la profilassi è stata non eseguita nel 40% dei pazienti che avrebbero dovuto eseguirla. E poi c'è stata anche della inappropriatezza in eccesso, all'opposto che non ho qui delineato, anche perché in coloro che hanno avuto il tromboembolismo venoso e lo hanno subito, ben il 65% non aveva effettuato la profilassi. Allora, se questa è la base di partenza, a chi profilassare, ricadda la inceste del 2012, che per quello che riguarda l'ambito profilattico poi non sono state più variate, sottolineano come la ospedalizzazione per una malattia medica acuta è associata ad un incremento di 8 volte del rischio di tromboembolismo venoso, che poi rappresenta circa un quarto degli eventi tromboembolici della comunità e tra i pazienti in cui si verifica dal 50 al 75% dei tromboembolismi venosi compresi l'embolia blomonare fatale, questi si verificano proprio nei reparti di medicina. Quindi il problema della profilassi nei reparti di medicina è un problema straordinariamente coggente. Allora, perché è così difficile stratificare il rischio tromboembolico nel paziente medico? Beh, innanzitutto tutto questo è legato prevalentemente alle criticità del paziente. Sono pazienti complessi e polipatologici, tra l'altro con deficit funzionali degli principali emuntori e quindi tutto questo si associa progressivamente e parallelamente a un elevato rischio emorragico. E poi naturalmente le altre difficoltà nascono proprio dal fatto che essendo pazienti che le cause acute più frequenti di ricovero sono la dispnea, sono lo scompenso cardiaco, con la broncopatia astruttiva riaudizzata, sono i primi posti, in questi pazienti la diagnosi è difficile perché ci sono le diagnosi alternative. Molte volte invece sono addirittura asintomatici e avendo una bassa sensibilità delle tecniche non invasive scegliere quando procedere in tecniche più importanti rappresenta il principale problema anche perché spesso questi pazienti assordiscono con l'embolia polmonare. E sappiamo bene come il tromboembolismo venoso è una patologia multifattoriale. Ma anche l'emorragia è una patologia multifattoriale. Ogni patologia acuta ha un rischio di tromboembolia e di emorragia diverso. E ogni paziente ha un rischio di tromboembolia venosa e di emorragia diverso. Quindi la complessità è intricata e intrigante. gli elementi essenziali di uno score come sempre devono essere innanzitutto applicabili a tutti i pazienti. Devono essere di una facile gestione per il medico. Devono essere efficienti nel identificare il rischio. Ci deve essere un cut-off ben preciso e quindi anche un punteggio per ogni item. Non è un'impresa facile. Tu li devi ipotizzare e poi li devi validare. E sappiamo benissimo e qui ve lo mostro senza naturalmente descriverlo e lo score è universalmente accettato per i pazienti ricoverati negli ambienti medici e che è stato validato in modo prospettico come devono essere tutti gli score e il padua prediction score di scuola italiana in cui i pazienti a basso rischio sono quelli che hanno meno di 4. Vedete come tra gli item ogni item ha un diverso ponteggio. Torniamo indietro. Il mio dito non è buono Allora torniamo indietro così ecco ha un diverso punteggio mentre invece i pazienti che sono ad alto rischio sono quelli che hanno uno score di 4 o più di 4. Lo score è stato recepito da CEST perché quindi sulla base di questo sottolinea in maniera assolutamente precisa che per i pazienti affetti da malattia medico-acuta e sono a rischio incrementato di trombosi noi raccomandiamo quindi la forza importante la terapia alla tromboprofilassi anticoagulante o con eparina a basso peso molecolare oppure con eparina non frazionata in duplice o triplice somministrazione o col fondaparinux alla stessa maniera per i pazienti invece che sono a basso rischio di trombosi noi raccomandiamo di non fare né profilassi farmacologica né profilassi meccanica e alla stessa maniera i pazienti medici acuti che hanno ad alto rischio ma che comunque hanno sanguinato hanno un alto rischio di bleeding noi raccomandiamo contro la profilassi farmacologica naturalmente e quindi ecco che è necessario identificare parallelamente il rischio emorragico e quello maggiormente usato ce n'è un'enorme quantità non mi mettevo mica a fare nuovamente la solita lista e l'impru quello che notate è che anche l'impru ha tanti valori differenti per i singoli fattori di rischio però la cosa che naturalmente più ci colpisce è che numerosi item che sono presenti negli impru che graduano il rischio emorragico sono ahimè naturalmente presenti anche nel Padua e in tutti gli altri score che graduano il rischio trombotico e un altro importante contributo che ha dato la Fadoi e che è stato pubblicato di recente è questo studio multicentrico controllato randomizzato a cluster in un contesto di vita reale che è lo studio ricco tra pazienti ricoverati in 36 reparti di medicina interna distribuiti in tutta Italia ed erano randomizzati 18 ad utilizzare gli score di rischio trombotico emorragico nel loro algoritmo decisionale se profilassare o meno e 18 reparti come succede in tanti e non vi meravigliate in cui invece la profilassi era basata sul giudizio clinico cioè sul sentire sul sentore sulla saggezza o conoscenza del medico ove mai ci fosse naturalmente qual era l'obiettivo principale dello studio analizzare se una valutazione sistematica fatta mediante gli score potesse avere effettivamente un'azione migliorativa rispetto all'utilizzo della tromboprofilassi o al suo non utilizzo basato sul sentore clinico non vi meravigliate perché spesso si sono trovate sorprese di questo tipo in cui certe volte la saggezza medica vale più di uno score però il problema è la necessità di una società scientifica e di rendere omogenei i comportamenti e quindi di rendere validi i comportamenti anche in coloro che l'intuito clinico non ce l'ha non ci si può basare sulle eccellenze o sulle esperienze quindi l'obiettivo principale è proprio questo analizzare questa efficacia e poi naturalmente c'era un point secondario esiti clinici alla dimissione ospedaliera valutazione degli atteggiamenti nei confronti della profilassi antitrombotica alla dimissione stabilito ammesso che l'abbia stabilito a chi ora come fare la profilassi e questi sono stradatati studi di validazione i tre grandi trial clinici il Medenox Prelenoxaparina che poi valutava se era meglio 20 o 40 mg nel bilancio vantaggi danni benefici il Prevent per la Dalteparina e il più recente l'Artemis per il fondo a Parinux a 2,5 mg non mi soffermo per non sforare nel tempo i criteri di elegibilità che sono sovrapponibili tra i tre studi forse la popolazione dell'Artemis è la più anziana quella un po' più vicina a noi tutti questi studi hanno come al solito essendo non studi di mondo reale ma trial randomizzati i soliti limiti che vengono imposti dai criteri di inclusione e di esclusione e i due principali che sono stati esclusi tutti quelli che avevano una conta piastrinica meno di 100.000 che a noi capitano è chiaro che noi ci regoliamo diciamo 80-70.000 per noi non conta molto poi dipende dalla patologia se il paziente è oncologico non conta nulla più o meno fino a quando è 50.000 ma il vero grosso problema è che noi abbiamo delle medicine e l'insufficienza renale questi trial escludevano coloro che avevano una carattina di sierica superiore a 1,7 mg per noi è un limite perché l'incidenza di insufficienza renale da moderata a grave va ben oltre il 40% nei nostri reparti medici e anche qui nel popolo Fadoi con Walter Ageno nostro amico quindi diciamo tra Fadoi e la società italiana di trombosi emostasi con numerosi partecipanti insieme naturalmente a Francesco Dentali come coordinatore come vedete Michela Reggina David Darioli insomma molti dei nostri ha dato il via a questo studio di corte prospettico multicentrico investigatore iniziat che è stato il Fondair il Fondair voleva valutare se un dosaggio ridotto di Fondaparinux anziché 2,5 mg 1,5 mg applicato a pazienti anziani con un'insufficienza renale da moderata grave una credenza della creatinina compresa tra 20 e 50 utilizzato da un minimo di 6 o massimo di 15 giorni mostrasse come principale outcome l'incidenza di sanguinamento maggiore e come outcome secondari sanguinamento non maggiore ma clinicamente rilevante come al solito è il tromboembolismo venoso sintomatico bene questo studio Fondair ha dimostrato come la dose profilattica di Fondaparinux in questi pazienti che venivano fondamentalmente esclusi dagli altri studi potesse essere una strategia sicura e relativamente efficace non abbiamo dati di validità statistica perché il simple sites non è stato sufficiente a darlo però questo era il risultato e poi dobbiamo anche guardare le schede mediche attenzione perché noi spesso facciamo cose che sono inevitabilmente un po' off-label però se noi guardiamo l'eparina non frazionata lascia libertà a tutti perché è indicata come profilassi della malattia tromboembolica venosa però se guardiamo l'eparina a basso peso molecolare solo l'enoxaparina paziente non chirurgico allettato e al rischio TEV nel fondo Aparinux è ancora più preciso paziente di pertinenza medica considerati ad alto rischio TEV padua e immobilizzati per una patologia acuta come l'insufficienza cardiaca l'insufficienza respiratoria acuta patologia infiammatoria ed infettiva era dei DOAC anche loro si sono voluti ricercare uno spazio nell'ambito profilattico sai la popolazione da profilassare è sempre più grande di quella da curare naturalmente ed ecco i tre grandi studi il Magellan qui abbiamo partecipato sicuramente molti di noi ne compreso l'Adopt rispettivamente per il Rivaroxaban la Pixaban e il Betrixaban però poi noi non utilizziamo sempre versus l'inoxaparina che era il loro standard di riferimento se andiamo a guardare sostanzialmente vedete efficace e sovrasponibile però questo al prezzo di un calo della sicurezza a 35 giorni quindi con un calo del beneficio clinico netto soltanto il Betrixaban era più o meno paro paro però nella sostanza dei fatti tutti gli studi profilassico e DOAC hanno dimostrato che non c'è nessun impatto sulla mortalità correlata al trombemolismo venuso minimo se non nessun impatto migliorativo rispetto all'inoxaparina sul TEV è sicuramente un aumento dei rischi di sanguinamento maggiori per cui in realtà tranne che in casi particolari non li adottiamo mai ecco il dilemma principale per quanto tempo perfetto allora guardiamo un po' le curve del Padua Prediction Score se guardiamo queste curve vedete il 60% della popolazione del Padua era a basso rischio poi abbiamo che il quasi il 40% invece era una popolazione ad alto rischio allora che la popolazione ad alto rischio veniva sottoposta a profilassi si avvicinava a quella a basso rischio però il dato che si desume da questa diapositiva che se questa è la durata media in giorni 7-8 giorni di ricovero ebbè ci sta un periodo dopo la dimissione che praticamente sfiora se non sfora il mese in cui i pazienti continuano ad essere di alto rischio e quindi cito adesso lo studio che ha avuto maggiore rilevanza per validare il protarsi dopo il ricovero della profilassi l'ex claim che ha testato l'enoxaparina verso Pacebo del proseguire la terapia con l'enoxaparina per 28 più o meno 4 giorni dopo aver fatto 10 più o meno 4 giorni nel secondo della durata del ricovero intraospedaliero sì si è avuto una riduzione del rischio 6 trombosi venose prossimali in meno per ogni mille pazienti però al prezzo analogo di un numero maggiore di emorragie allora nulla non serve a nulla la profilassi estesa in questi pazienti acuti e con ridotta mobilità beh nella popolazione globale fondamentalmente il beneficio clinico netto era quasi nullo praticamente perché il vantaggio che avevi nella riduzione degli eventi trombembolici era assolutamente pareggiato se era un po' peggiorato dall'emorragia però è stato visto che c'erano dei gruppi di pazienti in cui invece il beneficio clinico netto era sicuramente presente quindi selezionare questi pazienti e quali erano questi pazienti pazienti di età superiore ai 75 anni le donne e pazienti con un livello 1 di mobilità cioè non gli era concesso manco il beneficio del pubblico quindi in questi pazienti il vantaggio superava decisamente gli svantaggi però le guidelines hanno sempre più un atteggiamento protettivo del paziente da ciò che facciamo piuttosto che nei confronti di quello che può derivare dal nostro non operare per cui sulla base dell'ex claim fondamentalmente oltre che altri dati di rilievo sempre scientifico nei pazienti ospedalizzati per malattie mediche acute che ricevono un iniziale corso di tromboprofilassi perché identificati come a rischio il corso di ricovero noi suggeriamo ecco come più debole noi suggeriamo contro di estendere la durata della profilassi oltre attenzione oltre il ricovero in ospedale ma oltre l'immobilizzazione del paziente quindi non è che si dicono no per forza perché oggi la grande maggioranza dei pazienti nostri che vanno in ospedale continuano a stare immobilizzati e questo è il tipo di suggerimento ancora una volta interviene Fadoi in questa valutazione con lo studio notevole lo studio fatto con sotto la via presidenza con l'ottimo squizzato che ne è stato il gestore è uno studio nazionale osservazionale e retrospettivo su quello che è l'atteggiamento prescrittivo delle medicine interne italiane al momento della dimissione quindi era uno studio no profit che guardava l'atteggiamento nella stragrande maggioranza delle detegenze ordinarie ma anche delle detegenze intensive lo scopo principale era identificare quelli che fossero i principali fattori al momento della dimissione di pazienti che casomai erano stati o non stati sottoposti a profilassi che facessero decidere l'internista ospedaliero se profilassare o meno questo era il principale poi altri obiettivi era vedere quei fattori che si associavano alla scelta di proseguire la profilassi in degenza ordinaria o degenza breve un paziente ricoverato in meno di dieci giorni o più di dieci giorni valutare se la profilassi farmacologica fatta durante la degenza seguiva i dettami delle linee guida valutare se la durata della profilassi durante il ricovero seguisse i dettami delle linee guida e poi quali farmaci si utilizzassero i farmaci sono soprattutto le varine a basso molecolare di cui l'enoxaparina naturalmente la faceva da padrone però c'era stato lo spazio anche per il fondo a parinux le non frazionate 0,3% in un'analisi multivariata del notevole ecco guardate come qui ci sono tutti i fattori che hanno fatto propendere per indicare la profilassi in testa a tutti lo strucco ischemico poi viene l'ipomobilità la presenza di cateteri venosi centrali contro invece chiaramente un indice di emorragia molto alta durante l'ospitalizzazione la terapia antiaggregante in corso o le piastrine meno di 70.000 verso chi ne ha più di 70.000 questo cartoon in maniera molto più esplicita dell'analisi multivariata fa vedere come un paziente su 5 ricevesse profilassi alla dimissione sulla base di quei dati che si è visto nello schema precedente e guardate il 31% alla dimissione erano pazienti che in ospedale avevano un padua di 4 o più di 4 con un improved bleeding score meno di 7 quindi abbastanza tranquilli c'era un 30% che aveva un rischio trombotico ed erano stati consigliati da profilassi pur avendo un improved bleeding che era 7 o più di 7 e poi c'è stata l'inappropriatezza in eccesso un 10% aveva in fin dei conti un padua meno di 4 però più o meno tranquilli perché avevano un improved meno di 7 ma un 15% assolutamente improprio avevano un padua meno di 4 e un improved più di 7 o più di 7 quindi come vedete c'è spesso inappropriatezza in difetto ma c'è spesso inappropriatezza in eccesso pochi giorni fa abbiamo ricevuto tramite il nostro presidente la notizia che una subanalisi dello studio notevole che è stata condotta per delineare molto meglio l'atteggiamento e il perché delle scelte degli internisti è stata accettata dall'Internal Emergency Medicine e questo fa sempre piacere Fadoi va molto avanti rapidissimamente l'esperienza col covid noi sappiamo come il covid oramai adesso non più sta imperversando in tutta Italia per fortuna però è ritornato ad essere quello che è stato per millenni prima che venisse un po' manipolato diciamo la verità però dopo la sua manipolazione aveva un'aggressività protrombotica terrificante vedete a tutti i livelli e sapete come la determina AIFA era stata abbastanza precisa nel prendere questo tipo di decisione no? le parine a basso peso molecolare nel covid quando si collocano o nella fase iniziale della malattia di pazienti che pure stavano a casa e avessero una polmonite che determinava ipomobilità e allora in questo caso deve essere utilizzata dose profilattiche poi spesso sul territorio è stata fatta tra tutti anche se camminavano in piedi ma la profilastria era indicata per questi mentre invece nei pazienti ricoverati proprio per contenere i fenomeni trombotici del circolo polmonare in conseguenza dell'esplosione flogistica cui drammaticamente abbiamo assistito tanti di noi di chi ha gestito un reparto covid allora utilizzata a dossi terapeutiche molti di noi me il mio Pierpaolo eccetera hanno partecipato a questo studio sul fondo Enoxavid il quale ha valutato invece a scopo profilattico visto che si parlava di eparina della determina AIFA anche del fondo Aparinux ed è stato visto che in un'analisi retrospettiva il fondo Aparinux alla dose fissa di 2,5 mg al giorno non era inferiore all'Enoxaparina tanto per quello che riguardava l'efficacia che per la sicurezza andiamo a concludere la grande maggioranza degli eventi TEV avviene dopo la dimissione ospedaliera soprattutto da quando sono accorciate le degenze medie i grandi trial hanno dimostrato che la profilassi farmacologica oltre i 14 giorni è efficace ma non è sicura e quindi dobbiamo identificare i sottogruppi a rischio che potrebbero beneficiare di questa è fondamentale quindi personalizzare il bilancio rischio-beneficio rivalutando la profilassi prima della dimissione e dando precise indicazioni al territorio se io fossi il generale Jacques de la Palisse potrei rispondere così quali pazienti non chirurgici devono fare la profilassi? tutti coloro nei quali il rischio trombotico supera quello emorragico e a che dosaggio l'eparina basso peso molecolare? beh adeguato a garantire copertura antitrombotica efficace senza incremento emorragico e che durata la profilassi? deve essere protratta fin quando il rischio trombotico supera quell'emorragico e quindi dobbiamo per forza utilizzare l'arte medica grazie allora questi sono i miei conflitti di interesse questo è il mio punto di partenza lo metto perché sono uscite sapete sostanzialmente pochissimi giorni fa dieci giorni fa le linee guida nuove ESC sulla fibrillazione atriale devo dire per chi ha avuto la pazienza di leggere che non ci sono delle grossissime novità ci sono alcuni punti che vi volevo far vedere e ci tenevo a valutare insieme a voi beh la prima cosa è questa che rimane non è diversa da prima però noi siamo invasi da iwatch cose strane e varie ma la fibrillazione atriale ha ancora una sola diagnosi ed è questa qui con un ECG a 12 derivazioni se no se no non è una diagnosi di fibrillazione atriale può essere un sospetto un grande sospetto un sospettone tutto quello che volete voi ma non è una fibrillazione atriale quindi dovete documentarla questo lo dico perché i nostri iphone iwatch e tutto quanto fanno una serie di tachicardie e dopo ci ritornerò su che non sono fibrillazione atriale questo è invece un altro punto molto interessante tutti noi valutiamo il CZVASC e tutti noi speriamo insomma quasi tutti valutiamo il CZVASC per decidere se squagulare o meno il paziente e tutti noi diamo la nostra interpretazione al CZVASC invece ha un'interpretazione chiara limpida precisa finalmente l'hanno scritto questo è il CZVASC quindi se uno ha una pressione che non è quella lì non è iperteso e non va dato il punto quindi guardatevi perché corrisponde esattamente a quello che dobbiamo fare ricordo ai più giovani e per chi è sopravvissuto fino adesso che il CZVASC serve sostanzialmente per evitare in pochi pazienti in Italia quasi nessuno di fare l'anticoagulante il terzo punto è questo definiscono finalmente anche il rischio omorragico e non mettono più i last blood Dio grazie e questo è già qualcosa lo mettono nel testo ma non è più dentro nelle raccomandazioni prima era la raccomandazione diceva fai last blood ma non tenerne conto quindi adesso siamo a non tenerne conto e basta quindi valuta una serie di fattori di rischio omorragici usa a limite uno score se ti piace uno score che non sia last blood tra l'altro però questo è molto interessante molto molto interessante vi invito a guardarlo lavora sui fattori di rischio modificabili che è la cosa interessante dei fattori di rischio omorragici perché nel testo è scritto e anche nelle raccomandazioni è scritto chiaramente che i fattori di rischio omorragici non ti devono impedire di squagulare il paziente lo dico di nuovo per i più giovani non vuol dire che se il paziente sta sanguinando noi dobbiamo squagularlo quindi c'è un limite a tutto e non vuol dire neanche che se il paziente ha sanguinato l'altro ieri noi dobbiamo per forza squagularlo oggi quindi si può aspettare e ripensarci non è proprio così netto e se proprio dovete usare uno score io sono un ex super fan degli score ma poi quando c'è la validazione quando derivate uno score vanno tutti benissimo perché c'è l'overfitting si chiama e dopo quando lo validate su una popolazione che sia diversa da quella dove l'avete derivato fanno tutti malissimo tendenzialmente male, malissimo comunque peggiorano tutti questo qui peggiora effettivamente il doach score ma non peggiora così tanto quindi almeno mantiene un'area sotto la curva che è superiore al giudizio clinico quindi è già qualcosa la spread in alcune validazioni è 0,55 quindi 0,5 è il caso voi avete un giudizio clinico che spero sia meglio di 0,55 quindi non guardate la spread questa è la gentissima fatta così le linee guidesc ve le ho già fatte vedere i dubbi sono possiamo scorgolare il paziente con insufficienza renale questo è lo studio Xaveno che ormai ha un po' di anni e un paio d'anni e prende i pazienti tra 15 e 50 di clearance della creatinina e i DOAC vanno meglio che il warfarin sodico non perché i DOAC vadano bene in generale ma perché il warfarin sodico va malissimo in insufficienza renale quindi questo lo dovete sapere è importante allora possiamo scorgolare i pazienti in dialisi ci hanno detto che la Pixaban non passa da rene e ci hanno detto che negli Stati Uniti scorgolano con a Pixaban i pazienti in dialisi da noi no quindi se lo fate dovete fargli firmare un consenso informato se lo fate non gli fate firmare un consenso informato e gli viene qualcosa sono un po' cavoli vostri quindi non vi conviene tantissimo però questo è uno dei due studi randomizzato controllato doveva randomizzare 500 pazienti ne ha randomizzati molti molti meno tipo 150 beh questo è l'end point di primario cioè quante emorragie ti vengono nei pazienti in dialisi se li sottoponi ad a Pixaban o se li sottoponi a Waffarin quindi non è che c'è un grande miglioramento questo sugli eventi schemici ma ovviamente troppo poco uno può dire beh hanno dato anche un sacco di 5 mg è vero no e chi aveva 5 mg due volte al giorno effettivamente come potete vedere aveva dei livelli di attività antidecimo più alta del normale rispetto a 2.5 mg quindi se avessero dato a tutti 2.5 mg per 2 sarebbe andato tutto benissimo la risposta è probabilmente no perché l'area sotto la curva cioè la concentrazione ematica di chi ha un'emorragia di a Pixaban è più o meno la concentrazione ematica di chi non ha un'emorragia quindi il problema dialisi rimane rimane ve lo dico perché anche il warfarin va malissimo quindi tanto è vero che alcune linee nefrologiche dicono ma se per caso il paziente fosse a basso rischio dal punto di vista cardiovascolare non vale nemmeno la pena squagularlo vi do una notizia pazienti in dialisi che sono a basso rischio cardiovascolare non esistono quindi non è però questo è qua possiamo usarlo nelle valvole reumatiche noi ci siamo detti io l'ho detto più volte ho detto non c'è nessuna ragione perché noi che ci sia una differenza tra valvole reumatica mitralica sì o no e in realtà poi è uscito randomizzato e controllato e non ci sarà nessuna ragione ma lo studio non va bene quindi la risposta è o no non possiamo usarlo perché lo studio ci chiaramente ci chiaramente ci dice chiaramente che vedete lo stroke e l'embolia sistemica sono di più e la mortalità è di più quindi possiamo usarlo o no e questo è quanto dal punto di vista del sanguinamento ovviamente qui il riva oxen va molto bene ecco perché vi dicevo della questione delle tachicardie atriali insomma tutto quello che volete che non sia davvero una fibrillazione atriale diagnosticata possiamo usare i doc nelle tachicardie atriali o aritmie sopraventricolari che non sono fibrillazione atriale e che noi diagnostichiamo magari con qualche non so tipo se il paziente è un pacemaker o al defibrillatore o al telefono questo è uno studio questa volta con le doc e di nuovo la risposta è o no non possiamo non possiamo utilizzarlo qui era come vedete contro placebo bello studio randomizzato di fase 3 ovviamente con una bella numerosità dal punto di vista dell'efficacia nessun vantaggio nella riduzione dello stroke e embolia sistemica e quindi la risposta è non possiamo usarlo ovviamente se io faccio un anticoagulante che pure è un anticoagulante abbastanza safe contro il placebo il rischio emorragico aumenta quindi aumenta il rischio emorragico senza riduzione del rischio cardiomolico quindi ai noi dobbiamo diagnosticare la fibrillazione atriale poi che duri un minuto sei minuti ventiquattro ore quattro ore sapete che ci sono 85 studi che dicono 85 cose diverse comunque sotto i sei minuti no però in realtà non si sa cosa 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 possiamo fare visto che fino adesso vi ho dato una serie di cose che non sono molto insomma molto migliorative no perché fino adesso negli studi degli ultimi anni nessuno ha dato risultati francamente positivi e vi ricordo che l'avvento dei doc che ha fatto tantissime cose tra cui ridurre il numero di emorragie intracraniche che sono un grande proxy per la mortalità non c'è un singolo studio che ha ridotto la mortalità come un point primario davvero con i doach rispetto al warfarin quindi la più grande rivoluzione che noi abbiamo avuto in assoluto che sono i doach verso warfarin non ha portato ad una riduzione della mortalità totale questo è importante saperlo bene allora questo gruppo di ricercatori ha detto ma se noi facciamo una cosa che noi internisti dovremmo fare sempre cioè prendiamo il paziente in carico per la sua totalità no non per la fibrillazione e lo squagulo ma guardo tutto nel suo insieme il paziente questo porta a un miglioramento degli end point che per me sono importanti beh lo hanno fatto e lo hanno fatto in due registri prospettici e questi sono i dati sono registri prospettici non sono studi randomizzati controllati ma sono molto molto interessanti perché è interessante il fatto che si riduca la mortalità ma si riduca la mortalità per tutte le carose del 27% che è un qualcosa veramente veramente molto importante questo è un altro modo di prendere in carico il paziente con l'approccio ABC che è scritto anche nelle linee guida vedete tenendo conto questa volta anche di tutte le comorbidità e di nuovo l'approccio ABC guardate che impatto potenziale ha impatto che va ovviamente confermato però è un impatto super quindi più che cercare farmaci strani ma questo vale in generale più che cercare farmaci strani facciamo in modo di prendere in carico il nostro paziente nella sua globalità difatti poi l'hanno riportato con questo acronimo perché nelle linee guida gli piacciono sempre gli acronimi e AF-CARE e CARE è qui è scritto meglio qui è un po' piccolo io non voglio farvi perdere tempo elencando tutto che sono già le 6 e qualcosa però è molto interessante ma sostanzialmente ripercorre le due cose che vi ho fatto vedere prima cioè prendiamo in considerazione il paziente nella sua totalità nel prenderlo nella sua totalità ovviamente le comorbidità però è interessante anche la R che è RATE o RITM CONTROL cioè devo controllare la frequenza e il ritmo chi sa rispondere è il più bravo di tutti perché ovviamente non c'è nessuna risposta però è scritto bene è esplicitato bene ci sono tutti i modi per valutare paziente per paziente se è meglio il controllo del ritmo o è meglio il controllo della frequenza per chi è un po' diversamente giovane sa che all'inizio era tutti i controlli del ritmo poi ci siamo accorti che il controllo del ritmo aumentava la mortalità quindi era tutti i controlli della frequenza poi adesso siamo ritornati con un paio di studi al controllo del ritmo adesso c'è questo dipende dal paziente c'è controllo del ritmo e controllo della frequenza tra l'altro ci sono degli studi per esempio sull'ablazione del paziente con fibrillazione atriale con scompensa frazione deiezione ridotta cioè quindi pazienti che noi non riporteremmo in ritmo mai mai perché dici ha già uno scompensa frazione deiezione ridotta bene qui studio randomizzato riduce tutta una serie di end point molto importanti tra cui sicuramente i sintomi migliora l'outcome del paziente quindi uno o l'altro sostanzialmente non si sa però insomma questo secondo me è interessante l'ultimo punto vedete che noi non dobbiamo mai dimenticarci tutti i pazienti in special modo quelli cronici che noi vediamo non sono gli stessi pazienti tre mesi prima sei mesi prima un anno prima quindi rivalutate il paziente quindi va rivalutato periodicamente perché possono cambiare le cose vado quasi 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 a finire e allora questo è i NOAC qualcuno ancora chiama NOAC dei farmaci che hanno 15 anni quindi va bene che noi siamo per noi è tutto nuovo però insomma dopo 15 anni siamo oltre all'usato sicuro quindi veramente siamo all'usato strausato quindi questo invece è NOAC davvero finalmente nuovi anticoagulanti finalmente medio nel senso che questo è lo studio Oceanic con l'Arsundexian sapete che lo studio Oceanic è uno studio di fase 3 super mega enorme 18.000 pazienti con fibrillazione atriale Apixaban contro l'Arsundexian molto interessante faceva a seguito allo studio di fase 2 Pacific AF l'Arsundexian contro Apixaban fase 2 fase 2 andava molto bene era non inferiore all'Asundexian per l'efficacia e francamente superiore per la sicurezza questo ha provocato il fatto che si ci si lanciasse in un bello studio di fase 3 che è stato introdotto dopo 14.000 pazienti è presentato nella sua versione definitiva all'ESC dieci giorni fa e pubblicato lo stesso giorno su New England vedete l'incidenza di strocco in bolia sistemica ai noi ai noi è 3 volte virgola 7 sicuramente fa una cosa riduce il rischio emorragico questo è interessante allora io mi sono chiesto prima della pubblicazione dello studio ma non è per caso che gli anti-undici non funzionino non funzionino moltissimo in realtà io poi quando ho letto lo studio penso di no penso che funzionino perché questi pazienti vedete sono stati seguiti per 348 quindi un anno un anno e hanno un chatzvask medio di 4 quindi se è vero il chatzvask con un chatzvask medio di 4 dovrebbero avere 3% dipende 4% di strocco o embolia sistemica in realtà no lo strocco o embolia sistemica è l'1% l'1.3 mi sembra adesso non mi ricordo una roba così quindi qui mette dentro anche la mortalità e tutto e quindi è sicuramente basso quindi sicuramente funzionano però non funzionano come i DOAC almeno in questo studio a questo dosaggio per questo farmaco per questo setting no perché in altri setting non lo sappiamo non lo sappiamo quindi le aziende farmaceutiche invece ci dicono che molti dei nostri dei DOAC in fase di sviluppo stanno dando dei risultati buoni speriamo perché gli studi di fase 2 2b alcuni sono veramente molto buoni quindi io continuo a crederci e continuo a crederci anche nell'assumdexian che ovviamente per questa indicazione così no però può avere altre indicazioni come per esempio la profilassi secondaria del TEV o in aggiunta nelle sindrome coronariche acute quindi non lo sappiamo però diciamo che il programma di sviluppo è molto molto vasto finito anzi quasi finito perché ho ancora una diapositiva ruolo limitato nella valvulopatia reumatica nella dialisi e nelle tacche aritmie miglioramento del outcome grazie a un management più adeguato questa è la novità che sembra incredibile ma è quella che porta a miglioramenti dell'outcome più grandi i nuovi anticoagulanti anti-11 attivato tra gli è piccolo insomma mi spiace sono ancora in fase di studio quindi per intanto non possono essere utilizzati l'altra novità delle novità è questa ma non ne parliamo perché è lunghissimo questa ovviamente l'intelligenza artificiale che fa diagnosi diagnosi di fibrillazione atriale con la foto quindi questo è e ha un'accuratezza molto superiore a noi col fonendo quindi però su questo non vado avanti grazie mille proseguiamo con l'ultima relazione della sessione che è dal dottor professor Campanini e Paspezian Fadoi e direttore della medicina interna all'ospedale di Novara che ci parla di un altro tema in cui l'arte medica è fondamentale ossia come gestire una terapia anticoagulante dopo un episodio di sanguinamento grazie per la presentazione gentili colleghi ovviamente grazie a Fulvio per l'invito e i complimenti per l'organizzazione del congresso che si ripete ormai da qualche anno ed è sempre di altissimo livello un po' meno per l'argomento che mi ha assegnato in quanto vedete che già come ha anticipato e già sia spontaneo sia invece determinato da un trauma decidere quando riprendere la terapia anticoagulante vedete dice considerando i rischi e i benefici quindi un po' la stessa cosa che ha detto il dottor Fontanella nel senso che siamo sospesi fra scille e caridi perché il rischio spesso è molto alto ma al tempo stesso è molto alto il rischio di re-bleeding il problema il problema qual è che il ritardare il riprendere la terapia anticoagulante vedremo poi sia nel trombembolismo venoso sia nella fibrillazione atriale espone ad un elevato rischio di avere un evento trombembolico e spesso dal punto di vista poi della mortalità in realtà questo aumento del rischio trombotico legato alla non attuazione della terapia tende a essere veramente rilevante oppure riniziare troppo presto e quindi riaumentare il rischio di un nuovo sanguinamento questa è la mia agenda qual è il problema dei sanguinamenti in corso di terapia anticoagulante parlerò prevalentemente della ripresa dopo un'emorragia cerebrale e dopo un'emorragia maggiore non a livello cerebrale in realtà il problema rilevante è che spesso noi ci troviamo a dover affrontare emorragie in altre sedi per esempio a livello retroperitoneale la settimana scorsa abbiamo ricoverato un paziente che aveva una voluminosissima emorragia dopo colpi di tosse in terapia anticoagulante a livello della parete addominale ma con la perdita di 3-4 grammi di emoglobina e quindi vedete come in realtà è molto più complessa la gestione è vero che negli ultimi anni abbiamo avuto a disposizione la possibilità in queste forme di sanguinamento di utilizzare ormai da qualche anno l'angio TC con ovviamente la visualizzazione del vaso e la riuscire a trombizzare il punto della perdita però sta di fatto che rimangono molto rilevanti soprattutto per quanto riguarda anche la prognosi di questi pazienti e l'incidenza sulla mortalità e le emorragie intracerebrali hanno un minore impatto sulla mortalità ma hanno un impatto importante sulla gestione dei pazienti e sanguinamenti a livello dell'apparato gastroenteri il dato importante è che in realtà questi sanguinamenti non sono correlati al fatto quando si utilizzi il warfarin al fatto di essere fuori dei range accettati quindi sopra valori elevati perché sanguinano anche quando l'INR è nei limiti della norma e lo stesso vale anche per gli inibitori diretti anche quando questi sono a concentrazione tali da non superare i range terapeutici il dato importante è che tendenzialmente vedete come se si considera il case fatality rate in realtà il trattamento con inibitori diretti tende a dare un vantaggio in generale rispetto sostanzialmente sui sanguinamenti maggiori nel mondo reale rispetto al warfarin e questo vantaggio è prevalentemente legato a che cosa? al fatto che con varie proporzioni sia gli inibitori della trombina sia gli inibitori del fattore decimo attivato danno un'incidenza significativamente inferiore di emorragia cerebrale che poi vedremo come sono quelle che incidono pesantemente sulla mortalità un altro dato importante è che consideriamo spesso l'eparina a basso peso molecolare come un farmaco che in realtà faccia sanguinare poco anche questo non è vero perché vedete come ha una incidenza di sanguinamenti maggiore che è simile agli inibitori del fattore decimo e anche l'aspirina in realtà non è innocua in questo senso nel senso che vedete che rispetto al dabigatra nella pixab ha un'incidenza di sanguinamenti a livello cerebrale che è sostanzialmente simile un altro elemento importante anche a livello del tromembolismo venoso questi sono gli studi registrativi tutti hanno dimostrato un'incidenza minore di sanguinamenti maggiori con il trattamento con gli inibitori diretti rispetto al varco allora il problema qual è? che in realtà il discorso è che nei pazienti che sono ad alto rischio vedremo quali il problema è che da un lato il trattamento è troppo precoce la ripresa è troppo precoce della terapia anticoagulante li espone sostanzialmente ad un rischio emorragico ma in realtà al tempo stesso il fatto di avere un rischio trombotico molto alto è ritardare il trattamento e spesso la tendenza è quella di tendere a ritardare il trattamento perché è un qualcosa che quando noi facciamo chiaramente poi dipende direttamente da quello che noi mettiamo in atto quindi abbiamo un po' più paura a sostanzialmente riprendere la terapia anticoagulante rispetto a ritardare o sospendere la ripresa o meno della terapia anticoagulante va discussa col paziente nel senso che va chiaramente spiegato in maniera chiara che il ritardare il trattamento della terapia anticoagulante lo espone ad un rischio trombotico importante quali sono i pazienti ad alto rischio di avere un evento trombotico che sono in terapia anticoagulante beh quelli che hanno delle protesi valvolari meccaniche variamente associate ad altre cose il fatto che ci sia una fibrillazione atriale e che questi pazienti abbiano avuto un T o uno stroke entro un tempo breve entro tre mesi o comunque che abbiano sostanzialmente come è stato visto ieri una malattia reumatica delle valvole soprattutto se c'è una stenosi mitralica e un tromboembolismo venoso o un'embolia polmonare che è stata recente quindi dove sostanzialmente il trattamento anticoagulante che abbiamo fatto è durato per un tempo breve un altro elemento vedete che ho sottolineato è che in realtà sono ad alto rischio quelli che facevano un trattamento anticoagulante che è stato sospeso quindi proprio quelli che noi stiamo trattando adesso cioè quelli nei quali noi abbiamo sospeso il trattamento anticoagulante perché in qualche modo ha avuto un sanguinamento maggiore sono ad alto rischio di avere un evento trombotico porto a questo caso di questa signora di questa paziente di 87 anni vedete come ha tutte queste comorbidità che non vi illustro era già stata ricoverata da noi per un'insufficienza respiratoria con scompesso cardiaco giunge pronto soccorso perché mentre a casa assistito alla badante cade si procura una importante ferita lacerocontusa a livello frontale fanno la tag la tag dimostra come c'è una emorragia subaracnoidea ci sono anche delle emorragie interparenchimali viene vista dal neurochirurgo che dice di sospendergli i farmaci anticoagulanti meno male e di ripetere l'attacca a distanza di tempo non sto a leggervela ma ripete l'attacca e l'attacca va peggio decisamente peggio comincia ad esserci un leggero spostamento anche del setto tende ad avere un po' di edema effetti di massa sostanzialmente va peggio ma come funziona? funziona che nonostante che il neurochirurgo dice che va peggio non dice che lo deve osservare lui viene ricoverato da noi in medicina e quindi noi siamo contenti anche se in realtà un'osservazione un pochettino più lunga forse in ambiente protetto neurochirurgico ma forse era era il caso va beh comunque viene ricordata da noi sospendiamo la terapia anticoagulante ricontrolliamo l'attacca dopo qualche giorno due volte e in realtà si dimostra una stabilità non peggiore la paziente rimane lucida e quindi la dimettiamo dimettiamo sospendendo la terapia anticoagulante e altre terapie che faceva che nel momento non erano indicate ritorna il 2 di settembre rifà l'attacca che non dimostra un sostanziale miglioramento ma neanche un peggioramento decidiamo per non riprendere la terapia anticoagulante in questa partita possiamo poi in discussione decidere se è giusto o non è giusto ma decidiamo così allora quali sono le cause principali di emorragia cerebrale soprattutto le malattie dei piccoli vasi sia la geopatia miloide sia quella appunto dei piccoli vasi che in realtà vedete come l'emorragia intracerebrale costituisce dal 6 al 20% questo dipende un po' dalla regione poi vedremo dal regione nel senso dell'area geografica dove avviene quelle primitive sono la maggior parte un 20% sono secondarie e circa l'80% delle emorragie però da imputare alla malattia dei piccoli dei piccoli vasi che è quella che si manifesta per esempio nell'ipertensione il dato importante è che quando abbiamo un'emorragia cerebrale che è legata alla terapia anticoagulante è più grave è più estesa e ha un'aumentata mortalità vedete che la mortalità è alta sia a 30 giorni sia a 90 giorni quindi questo incide pesantemente a differenza dell'emorragia a livello del tratto gastrointestinale sulla prognosi dei nostri pazienti e come l'annual rate è tra lo 0,3 e lo 0,6% dei pazienti in trattamento anticoagulante prevalentemente con emorragie intracerebrali ma anche sono rappresentate quelle subdurali meno le subracnoidee allora è chiaro che incidono i fattori del paziente nel determinare un evento emorragico sia fattori genetici ed etnici sappiamo come la popolazione asiatica ad esempio è più a rischio di avere eventi emorragici ma attenzione non è più a rischio di avere rebleeding quando si ritorna quando riprendono la terapia anticoagulante dopo aver avuto un evento sicuramente l'ipertensione è un fattore importante è stato sottolineato ieri da Francesco Dentali come le nuove linee guida del 2024 sulla fibrillazione atriale spingono a considerare i pazienti nel suo insieme cosa che d'altro canto noi forse ci illudiamo facciamo ci illudiamo di fare su tutti i pazienti e un altro elemento importante che condiziona la prognosi dei nostri pazienti se sono presenti in realtà i microblez cioè delle deposite di emosiderina perché l'emosiderina rimane a lungo nel cervello una volta che c'è stata una precedente emorragia cerebrale bene quando questi questi depositi di ferro sono presenti soprattutto a livello lobare e sono numerosi espongono il paziente ad un aumentato rischio di emorragia cerebrale ma soprattutto lo espongono ad un aumentato rischio di avere un rebleeding le emorragie profonde sono quelle che sono collegate alla malattia dei piccoli vasi mentre le emorragie lobare sono quelle dell'angiopatia miloide bene non è indifferente far la diagnosi differenziale è sostanziale con la risonanza magnetica perché perché i pazienti che hanno una cerebropatia miloide sono caratterizzati dal fatto che se noi li scoaguliamo hanno una riduzione degli eventi che è simile a quelli che hanno un'emorragia profonda ma vedete come hanno 150 emorragie cerebrali in più rispetto alle 19 dei pazienti che hanno una malattia dei piccoli dei piccoli vasi e in più hanno un rischio di rebleeding che è molto più alto vedete il 15% una volta che si riprende la trattamento anticoagulante rispetto al 2,1% di chi ha avuto un'emorragia profonda allora il riprendere la terapia anticoagulante in questi pazienti cosa determina chi ha sanguinato a livello cerebrale sul lungo periodo vedete che la linea tratteggiata dimostra che chi riprende la trattamento anticoagulante vive di più chi non fa il trattamento anticoagulante o fa l'aspirina invece ha una minore sopravvivenza al di là che deve essere veramente proprio anedotti col fatto di utilizzare la cardiospirina l'aspirina nei pazienti che hanno fibrillazione atriale ma in realtà nella pratica clinica lo vediamo ancora è un compromesso sbagliato perché non riduce per niente il rischio i dati iniziali che dimostravano che anche nei pazienti con fibrillazione atriale si riduceva il rischio è perché in realtà erano pazienti che non avevano avuto eventi embolici cerebrali legati alla fibrillazione atriale ma legati alla malattia dei piccoli vasi che corre la colipertensione e l'altro dato è che vedete che riprendere la terapia la terapia anticoagulante rispetto al non riprenderla riduce ovviamente gli eventi schemici quindi questo incide sulla sopravvivenza a fronte del fatto che non aumentano il rischio emorragico c'è da dire che questi studi hanno un bias nel senso che quelli che riprendono la terapia anticoagulante ma questo vale un po' che la nostra pratica clinica sono quelli più giovani e anche quelli che hanno avuto un minor interessamento emorragico a livello encefato questo lavoro estremamente recente nel 2024 si pone il problema di quando ricominciare la terapia anticoagulante in pazienti che hanno sanguinato a livello cerebrale ma che hanno una protesi valvolare meccanica che sono quelli nei quali spesso e volentieri la scelta è particolarmente complessa per la paura appunto della trombosi intracardia che al tempo stesso però quando stanno sanguinati in maniera importante deve riniziare allora non entro in dettaglio sullo studio che è molto complesso sta di fatto che questi pazienti avevano un chaz-vasc maggiore di 4 quindi un discreto rischio trombotico e sono stati randomizzati riceve la terapia a riprendere la terapia entro 7 giorni metto un po' di allarme tra 7 e 30 giorni dopo i 30 giorni non riprende nella sostanza vedete che in realtà riprendere in maniera precoce non aumenta il rischio emorragico in questa categoria di pazienti in realtà il problema non è proprio così perché se si legge attentamente lo studio era un end point combinato che era legato agli eventi emorragici e agli eventi schemici quindi è possibile che abbiamo agito di più sugli eventi schemici rispetto a quelli emorragici tanto che poi si va a vedere quelli che hanno sanguinato che hanno ripreso precocemente la terapia in realtà avevano delle emorragie più severe sta di fatto che il non riprendere la terapia anticoagulante che è questa in realtà sta ad indicare che in realtà i pazienti vanno comunque quest'altro studio ha valutato invece i pazienti che facevano o il varfarin o un inibitore diretto vedete che il concetto qual è? che al di là del fatto che riprendere la terapia anticoagulante sostanzialmente incide sulla prognosi in senso favorevole questi erano pazienti che avevano un rischio più alto il tempo di ripresa della terapia anticoagulante era di 6 settimane il dato importante è che chi faceva la ripresa della terapia anticoagulante non con l'inibitore della vitamina K ma con l'inibitore diretto aveva una minore mortalità questo probabilmente ancora perché si incideva in maniera chiara sulla riduzione di emorragia a livello encefalico che danno comunque gli inibitori diretti è in corso questo studio che termina l'arruolamento ora nel 2024 con le doxaban i pazienti appunto che hanno sanguinato a livello cerebrale sulla premessa degli studi precedenti e i dati preliminari sembrano molto molto interessanti in realtà se noi vogliamo così riassumere un po' il quadro è chiaro che se abbiamo una causa di emorragia cerebrale che è rimovibile dal neurochirurgo è necessario che lo faccia al di là della sospensione della terapia anticoagulante se poi l'emorragia è profonda è molto diversa dall'emorragia lobare e la risonanza magnetica è in grado di dimostrarcelo perché? perché se l'emorragia è legata all'angiopatia miloide e quindi è un'emorragia lobare periferica è ad altissimo rischio di risanguinato quindi bisogna considerare il discorso in questi pazienti ad alto rischio la chiusura della chiusura dell'auricola anche se anche qui nel momento e nei primi giorni dopo la chiusura deve fare una terapia antiaggregante quindi insomma non è così così sicuro oppure invece nei pazienti dell'emorragia profonda valutare quando c'è qui dice una completa riassorbimento del focolare emorragico e della terapia anticoagulante in realtà non è proprio mai così io ho cercato di sintetizzare quella che è l'opinione degli esperti perché in realtà di dati chiari che dicono cosa fare basati sulla scienza cioè tra i randomizzati e i controllati non c'è in realtà la ripresa della terapia anticoagulante tra le 4 e le 8 settimane in funzione ovviamente del rischio emorragico del paziente si può ragionare su un tempo più breve vi ricordo lo studio sulla trombosi sulle protesi meccaniche nei pazienti appunto che hanno una protesi e che hanno un'embolia polmonare recente e una trombosi cardina in realtà il dato fondamentale ancora una volta vedete lo diceva già nel 2016 quindi quest'anno 2024 non è che abbia aggiunto molto attenzione ai fattori concomitanti cioè il trattamento con farmaci antinfiammatori con l'aspirina e il trattamento corretto dell'ipertensione la seconda parte riguarda invece si è molto più corta riguarda invece il sanguinamento a livello gastenterico questa paziente di 84 anni vedete ha tutta una serie di patologie molto importanti come diceva Andrea anche un'insufficienza renale molto severa di quarto stadio quello che è abbastanza incredibile è che nel mese di maggio ad 84 anni fa un intervento di osteotomie per l'alluce valgo fa questo intervento e di lì viene fuori un disastro apocalittico perché gli viene una infezione a livello della gamba si complica con il ricovero con la trombosi venosa profonda il problema è che dopo tre giorni di trattamento con l'eparina a basso peso molecolare ovviamente un milligrammo pro chilo sanguina sanguina terribilmente melena melena importante con necessità di trasfusioni e fra l'altro di trasfusioni continue nel corso della settimana ovviamente fa una gastroscopia in urgenza e qui c'è la supercazzola che voi vi ricorderete perché durante la gastroscopia cosa dice il gastroenterologo questa è un enorme ulcera perforata larga sanguinante è ad alto rischio che sanguini quindi dovete sospendere la terapia anticoagulante però se la sospendete c'è il rischio trombotico allora provate a non sospendere fate usare il dosaggio più ma è di fatto che in realtà abbiamo dovuto poi gestire noi non abbiamo ricominciato la terapia anticoagulante per paura che si perforasse fra l'altro ma solo successivamente con un piccolo dosaggio allora a livello delle emorragie digestive cos'è? che è chiaro che è molto diverso tra quelle che sono lievi delle matocchezze per esempio per sanguinamento dalle emorroidi o dalle forme moderate dove non c'è instabilità emodinamica da quelle severe con shock è chiaro che i fattori di rischio ci sono dei pazienti con fattori di rischio aumentato che sono quelli più anziani quelli che hanno insufficienza renale perché come ben sappiamo sono pazienti che sono ad alto rischio trombotico ma ad alto rischio emorragico che fanno anti-aggreganti insieme che hanno delle comorbidità allora in questi casi forse si può cercare di scegliere il farmaco che sia in grado sostanzialmente di ridurci un po' il rischio rispetto ad altri quindi si può cercare di essere un po' più precisi nel trattamento anticoagulante scegliendo le molecole che a livello gastroenterico sono meno sono meno danno minore effetti collaterali per esempio anche noi nel nostro studio del Caravaggio che ha citato Andrea sul trattamento del trombembolismo veloce nei pazienti con cancro abbiamo dimostrato come l'utilizzo della Pixaban rispetto alla dalteparina riduceva l'incidenza di sanguinamenti del trattamento gastroenterico allora è chiaro che siamo in un setting diverso rispetto alle emorragie cerebrali perché è un setting diverso perché è chiaro che non danno una disabilità maggiore perché l'emorragia cerebrale oltre alla mortalità elevata ma dà una disabilità spesso e volentieri quindi questo va altrettanto in questo caso ovviamente no e poi i sanguinamenti sono in sedi che in realtà sono raggiungibili più facilmente non so qual è la vostra esperienza ma nella nostra esperienza un problema grosso è coinvincere quando non si trova una sede di sanguinamento i colleghi gastroenterologi a dare avanti delle indagini per esempio con la videocart perché noi se abbiamo bisogno poi di trattarli anche se queste hanno le angiodisplasia non interessa perché altrimenti in qualche modo poi sanguina un altro elemento importante sia nei pazienti di trattamento antiaggregante che anticoagulante è la ricerca dell'elicobacter pylori perché la presenza dell'elicobacter pylori aumenta nettamente il rischio il rischio trombotico allora i problemi quali sono quando se sospendere quando sospendere come sospendere come riprendere allora è chiaro che quando c'è un sanguinamento di piccola entità si può sospendere per un breve periodo poi nel caso degli anticoagulanti diretti sappiamo che il principale antidoto è non darli più perché nel giro di breve tempo non sono più in circolo è chiaro che il discorso è diverso quando il sanguinamento ovviamente è notevole ho riporato solo questo studio per dirvi come vedete che se noi riprendiamo la terapia anticoagulante nei pazienti che hanno avuto un sanguinamento maggiore a livello gastrointestinale entro 30 giorni si riduce la mortalità entro i primi 7 giorni la recidiva di sanguinamento e tra 7 e 15 giorni non aumenta né il tromembolismo né il sanguinamento allora non esistono in realtà dei dati randomizzati e controllati che ci dicono con gli anticoagulanti la tempista esistono per gli antiaggreganti ma non per gli anticoagulanti generalmente entro 7 giorni vedete come questo working group della società europea dei cardiologi dice che cosa che nella maggior parte dei casi si possa riprendere entro la settimana la terapia qui abbiamo un parametro che è semplice che è quello del controllo del valore di emoglobina e del sangue occulto nelle feci ovviamente se c'è la melena è evidente che questo non è necessario e quindi questo sostanzialmente ci permette di avere un migliore atteggiamento allora nei pazienti che hanno avuto un sanguinamento gastrointestinale il problema qual è? è che in realtà qualora non si trovi la sede del sanguinamento è un problema è il discorso che ritorna a dover fare le videocapsule o no perché? perché le angiodisplasie del tratto gastrointestinale soprattutto nei pazienti anziani sono molto frequenti ma hanno un trattamento che è un trattamento sia meccanico ma anche un trattamento medico per esempio con l'octerop e poi chiaramente il problema che anche in questo caso sono i fattori concomitanti cioè gli antinfiammatori l'abuso di alcol e degli antiaggreganti allora è chiaro che a seconda dell'entità del sanguinamento e di quelli che sono i fattori associati si possa decidere sostanzialmente di riprendere la terapia anticoagulante o anche in questo caso in alcune situazioni della chiusura della origine chiudo con l'ultimo dilemma una persona che ha sanguinato in testa dopo una caduta può riprendere e andare in bicicletta o no? grazie per l'attenzione pulvio per l'ennesimo gradito invito di questo interessantissimo congresso io sono il dottor Mumoli e coordinerò questa tavola rotonda veramente molto molto interessante molto molto calda ho visto che ci sono anche tanti medici di medicina generale quindi la discussione sarà molto accesa la tavola rotonda parlerà proprio della gestione del TEV alla luce della nota 101 che ancora è obsoleta perché la rinviano ogni sei mesi quindi fino al 7 ottobre mi pare è bloccata nota 101 che appunto lo diranno ora i relatori è molto più complessa della nota 97 io faccio una piccola introduzione poi inviterò qui accanto a me l'esperto internista prima parla il medico di medicina generale appunto Andrea ci sarà anche un'infermiera Federica e poi Fulvio farà il consulto quindi si parlerà proprio della nota 101 e vedremo appunto tutte le difficoltà io la piccola introduzione che faccio è proprio dovuta al fatto vi ricordate benissimo l'ondata covid che in pratica chiuse tutti gli ambulatori quindi fu fatta la nota 97 che in pratica era sulla gestione del rischio cardiembolico durante fibrillazione atriale è stata sdoganata anche perché noi in ospedale ci occupavamo proprio del covid non avevamo la possibilità di rinnovare i piani terapeutici nel 2023 alla luce della nota 97 è stata fatta la nota 101 ma non è mai partita perché come vi diranno i colleghi effettivamente una cosa è trattare la prevenzione cardiembolica in corso di fibrillazione atriale molto più complessa invece il trattamento la prevenzione della recidive quanto deve durare la terapia anticoagulante in corso di trombosi nella soprofonda endembolia polmonare i problemi sono tanti e si sono aggiunti ancora più problemi proprio nella descrizione della nota vedrete che effettivamente si parlerà non tanto bene dell'eparina sulle complicanze del trattamento anticoagulante sul varfarin ci sono altri piccoli problemi comunque do la parola ad Andrea che è il medico di medicina generale che ci parlerà appunto della nota grazie per la presentazione buongiorno a tutti grazie Pulvio ripeto le stesse parole di Marta per l'invito e ringrazio in particolare i medici di medicina generale presenti oggi credo che queste occasioni siano molto importanti per noi non ho confetti di interesse negli ultimi anni sono uscite una serie di note AIFA parto da questo perché scudendo magari la nota 96 dalla nota 97 è uscita in pieno covid per quanto riguarda appunto i NAO nella fibrillazione notaria non valvolare il ruolo del medico e di famiglia per la prescrizione di questi farmaci che vedete quindi anche per quanto riguarda i LABALAMA ICS nella VPCO o ancora più recentemente con la nota 100 per inibitori del SGLUT2 gli analoghi del GLP1 e inibitori della DPF4 ha dato a noi medici di famiglia un ruolo molto più importante per la gestione di queste patologie e anche la necessità di dover maneggiare dei farmaci che hanno anche un notevole costo normalmente la reazione di noi medici di famiglia quando alla luce anche delle note appena uscite quando viene pubblicata una nuova nota AIFA dipende principalmente dall'età i più vicini alla pensione normalmente reagiscono un po' come nel quadro dell'urlo di Munch perché forse ne hanno due scatole quelli come me nati tra gli anni 70-80 hanno una reazione più alla Kevin di mamma ha perso l'aereo i più giovani perché come sapete ci sono tantissimi giovanissimi medici di medicina generale reagiscono con la versione rivisitata dell'urlo di Munch questo perché inizialmente ci sembra una tragedia no? dover affrontare tutta questa nuova burocrazia mi sono chiesto se Fulvio non mi avesse dato questo incarico che cosa fosse questa benedetta nota 101 e la risposta in realtà cercheremo di darvela nei prossimi minuti ma allo stesso tempo ho posto la domanda a qualche collega tutti con queste facce qua la nota 101 come dicevi poco fa Nicola in realtà è uscita un anno fa o meglio la prima determina appunto del 5 ottobre dell'anno scorso c'era stata girata anche via Pec e dall'Ase se non ricordo male per cui qualcuno di noi ha cominciato in fretta e furia a leggerla qualcuno però poi come dicevi è stata rimandata e rimandata e poi Fulvio probabilmente dopo ci darà anche delle motivazioni forse di questi rimandi e l'ultimo appunto rimando è del 5 luglio e forse il 6 ottobre nascerà che cos'è la nota 101? allora la nota 101 riguarda la prescrizione appunto della terapia anticoagulante orale l'entramento domiciliare della trombosi avvenosa profonda nell'embolia polmonare ovviamente nella prevenzione delle recidive e poi c'è una seconda parte di cui oggi non tratteremo che riguarda la prevenzione primaria del TEV nei pazienti chirurgi sottoposti a sostituzione di anco o di ginocchio quali sono i farmaci che riguardano appunto l'ottacento 1? sono appunto gli antivitamina K e quindi Varfarin principalmente i Naodoac e come ci ha anticipato in realtà la nota specifica che per quanto riguarda le parine non dà un ruolo all'interno appunto del trombomobriso venoso nella gestione domiciliare proprio perché normalmente riguarda la fase acuta la fase ospedaliera questa probabilmente questo è lo schema che puoi andare a vedere sulla nota 101 che è la parte principale direi che riassume un pochino tutta la nota e cioè per il trattamento ovviamente c'è una fase iniziale quella in cui fondamentalmente dobbiamo iniziare una terapia anticoagulante che va da appunto i 5 a 21 giorni in questa fase appunto è prevista eventualmente l'utilizzo delle parine ma già si potrebbe iniziare vedremo dopo con i Doac poi c'è una fase a lungo termine che è quella di solito di 3 mesi in alcuni casi è estendibile a 6 mesi e poi un'ultima che è quella del paziente che continuerà per X tempo la terapia detta anche fase di estensione però diciamo per la prescrivibilità bisogna ragionare su alcuni criteri generali che la nota secondo me specifica abbastanza bene innanzitutto che la diagnosi deve essere confermata e questa deve essere fatta ovviamente un esame strumentale per valutare ovviamente la sede l'estensione e la gravità questo è abbastanza fondamentale poi per alcune decisioni dall'altro lato ovviamente avendo un evento a differenza della nota 97 di cui dovevamo calcolare un rischio trombotico qua invece l'evento c'è e quindi bisogna valutare principalmente per le controindicazioni e poi ragionare e qui è l'altro punto su quello che vabbè ovviamente quantificare il rischio emorragico da un lato e dall'altro lato stratificare il rischio di ricorrenza perché questo appunto impatta abbastanza nel percorso che abbiamo visto poco fa no? poi va scelto il farmaco ora la nota ci dà la possibilità di iniziare o con un'eparina come abbiamo visto prima e poi proseguire con un'antivitamina K o principalmente con un DOAC per le fasi successive tenuto presente però che alcuni principi attivi come il dabigratan e le doxaban e anche le antivitamina K non possono essere assunti nei primi giorni mentre invece si potrebbe iniziare con la pixaban o rivaroxaban con dosaggi diversi ovviamente nei primi giorni rispetto alle fasi successive e poi in ultimo la durata ecco la nota 101 divide bene il paziente neoplastico in fase attiva dal paziente neoplastico non neoplastico perché ci dà delle indicazioni di valutazione ovviamente sempre del suo rischio emorragico e in base alla sede come dicevo prima va a darci indicazioni su quello che è la durata del trattamento indicazioni che ovviamente poi bisogna capire chi vedremo dopo il medico di medicina generale è lo specialista chi gestisce questa fase qui vi ho messo semplicemente sembra un po' confusionaria però è proprio l'allegato 1 cioè la famosa scheda di valutazione della prescrizione nella prima fase a differenza poi vedremo della nota 97 che aveva questa scheda simile chiamola così per la fase iniziale del proseguimento questa è cartacea prima problematica che fortunatamente per noi medici famiglia si è risolta nel tempo è l'informatizzazione e poi vale per tutti anche per gli specialisti sul sistema TS che permette a parte anche una questione diciamo di controllo dall'AIFA di tutto quello che è la prescrivibilità di queste note vedremo dopo però in effetti anche lì burocrazia nuova no? il discorso della tragedia di prima qual è la situazione in questo momento? questi pazienti quindi fino all'entrata in vigore della nota 101 come sono gestiti? sono gestiti totalmente dal centro TAO adesso vi faccio riferimento alla nostra ASL e abbiamo un ASL più o meno guardavo ieri di 175 180 mila abitanti un ospedale un centro TAO quindi per noi medici famiglia che siamo un 100 110 abbiamo un unico riferimento non so mi sono posto questa domanda ho detto ma i colleghi delle altre ASL magari più grandi che hanno notevoli distretti a Torino ci sono molti ospedali a quale centro TAO fanno riferimento? in questo momento ognuno avrà delle indicazioni specifiche oppure se saranno in difficoltà nella gestione alla luce anche di questa nuova nota 101 qual è come dicevo prima il ruolo che dobbiamo avere noi medici di medicina generale in quale punto del percorso dobbiamo dobbiamo intervenire possiamo intervenire effettivamente fin dall'inizio e in ultimo il ruolo dell'infermiere che è comunque una figura molto importante del centro TAO e quindi darei la parola a Federica buongiorno a tutti sono Federica Scavarda sono una delle infermiere del centro TAO centro fombosi dell'ospedale di Verduno ringrazio sicuramente il primario come ero per l'opportunità e per insomma forse anche farci un pochino conoscere sulla realtà visto che ci sono molti medici di base e diciamo che è un lavoro di sinergia come ora c'è nel nostro gruppo perché insomma siamo diversi infermieri diversi medici lavoriamo sicuramente in grande sinergia c'è un'ottima collaborazione perché l'infermiere è sicuramente il primo filtro tra quello che è il nostro centro e quello che poi è l'accoglienza e la presa in carico in totale quando quando noi accogliamo un paziente che viene inviato da noi o dal pronto soccorso o per la maggior parte delle volte dai medici di base lo lo accogliamo attraverso appunto sicuramente un primo appuntamento dando già delle informazioni di massima su come come arrivare al nostro centro su determinate documentazioni che è preferibile avere già il primo accesso quando poi arriva presso il nostro ambulatorio noi facciamo già una prima raccolta dati attraverso sicuramente anche iniziando a valutare se c'è un caregiver il paziente oppure la sua diciamo possibile aderenza a tutta una serie di trattamenti raccogliamo tutta la parte di anamnestica su quello che riguarda la dermatologia che si sta prendendo attualmente controlliamo che abbia gli esami del sangue determinati esami del sangue facciamo il calcolo anche della clearance abbiamo visto che normalmente non è proprio così attendibile quella che viene già calcolata in laboratorio analisi valutiamo se ha già un ecodopler piuttosto che una tac quello che può essere sicuramente inserito in cartella un'altra fase che poi diciamo lo chiamo come infermiere come ponte perché noi facciamo la maggior parte del counseling sia al paziente sia al familiare soprattutto per quello che riguarda poi il warfaring perché è un parvo che spaventa molto il paziente e diciamo che diventiamo il filtro poi tra il medico del centro trombosi e noi abbiamo un numero dedicato con degli orari dedicati ma poi tanto rispondiamo praticamente sempre al telefono e quando poi il paziente viene a visita facciamo tutta una parte di counseling per cui rilasciamo le informative riguardo i farmaci consigliamo il rispetto dei dosaggi degli orari diamo anche un'informativa sul momento in cui può succedere che il paziente dimentichi una somministrazione di un farmaco diamo supporto al medico nella gestione dei tempi di sospensione ripresa poi degli anticoagulanti spesso può succedere un intervento endoscopico un intervento maggiore in ortodonzia siamo anche come supporto diciamo nelle emergenze per un allerte eventualmente del medico e diamo le indicazioni al paziente in caso appunto ci sia una fase emorragica per cui o l'invio al soccorso piuttosto che rivolgersi al medico curante e poi diamo delle tempistiche eventualmente per risentirci giorno dopo giorno facciamo anche una sorta di educazione all'utente e alla sua eventualmente alla famiglia quando ad esempio si devono assumere delle terapie sia steroidee oppure in caso di infiltrazioni quando sono ovviamente strettamente necessarie questa fase diciamo che la utilizziamo sia in presenza quando abbiamo il patente con noi in ambulatorio sia sicuramente telefoniche questa sicuramente è la mole di lavoro che più ci impegna per quanto riguarda la nota 101 diciamo che noi siamo eravamo e rimaniamo infermieri sicuramente di riferimento eventualmente anche per sicuramente i medici di base per cui lascio la parola al dottor Promeo di sicuro la nota 101 ricaricarà sugli infermieri 1100 telefonate buongiorno a tutti la prima cosa che potreste chiedervi è ma con tutte le note che abbiamo già disponibili e attive perché parlare di una nota che non esiste ancora e non è ancora attiva in realtà noi non stiamo parlando della nota ma stiamo parlando della presa in carico del paziente con TEV alla luce della potenziale nota 101 e questo fa un po' la differenza la presa in carico del paziente con TEV è un qualcosa che è estremamente difficile per vari motivi il primo dei quali è che il paziente con TEV prima di essere un paziente con TEV è un paziente con sospetta TEV e quindi già c'è un momento di difficoltà tra categorizzare un paziente con sospetta TEV a un paziente con TEV banalmente se arriva con una dispnea in pronto soccorso il percorso è molto chiaro e molto semplice oggi troppe volte il paziente con trombosi venoso profondo sospetta tale arriva ancora in pronto soccorso e questa è una pratica che vorremmo provare almeno nel tempo a migliorare e cancellare questo è un primo motivo di discussione abbiamo iniziato ieri mattina a parlare di appropriatezza per mantenere una sostenibilità e allora questo potrebbe essere un momento di ragionamento sulla appropriatezza per decidere quanti posti dobbiamo dare disponibili al territorio per pazienti con sospetto di trombosi venosa profonda io se faccio due conti la prevalenza del TEV nel territorio è un caso 1,5 ogni 1.000 abitanti all'anno facendo i conti grossolani dovremmo trovare 30 trombosi venose profonde all'anno in ASL 1 o 2 poi c'è da fare il conto che per fare una diagnosi Nicola correggimi ma probabilmente dovremmo fare una quindicina di ecodoppler perché 10 15 ecodoppler quindi noi per fare 30 diagnosi dobbiamo mettere in conto di fare 400 ecodoppler per fare 400 ecodoppler non è una roba di cui non si può parlare se ne può parlare il problema è che dobbiamo capire da dove dobbiamo togliere gli altri ecodoppler quelli per esempio dei tronchi sovraortici in situazioni meno cogenti per un conto avere un paziente con un sospetto di trombosi venosa profonda che devo decidere se mandare in pronto o se non mandare in pronto oppure mandare in un ambulatorio dedicato che mi fa la diagnosi domani oppure è quel paziente che ha un ecodoppler dei tronchi sovraortici che può fare più in là e di questo già potremmo parlare perché in realtà questo potrebbe diventare proprio per la struttura che hai descritto tu Andrea prima un centro e cento medici di medicina generale rende molto semplice questo rapporto che però non spenderei solo a livello clinico a questo punto rilancerei e proverei a fare un ragionamento di clinica e anche raccolta di dati clinici per farci un ragionamento di ricerca perché fare una diagnosi precoce con un ambulatorio dedicato modifica gli outcome e questo è una prima cosa la nota 100 ha delle motivazioni per cui non è andata in onda nell'anno scorso ma ha tutto questo ritardo la motivazione principale è che alcune società scientifiche che si occupano da tempo sempre di trombosi venosa ritengono poco opportuno andare in scena diciamo così prontamente dando l'opportunità a tutti di fare tutto e questo è stato quello che ha frenato un pochino la nota in realtà la nota contiene dei fatti molto positivi uno dei quali è il seguente quanti di noi hanno avuto nel corso di questi anni la necessità di trattare una trombosi venosa profonda dell'arto superiore e di fatto sono stati parzialmente inibiti dal fatto che con la scheda terapeutica AIFA devono cliccare che la diagnosi è stata fatta con un ecodopler degli arti inferiori allora dire che faccio la terapia di un arto superiore cliccando la terapia è stata fatta con un ecodopler degli arti inferiori come minimo vuol dire sbagliarsi di fatto la nota 101 porta a superare questo problema perché nella nota 101 questo aspetto non c'è più c'è scritto dove la trombosi non fa questa differenza e quindi la trombosi dell'arto superiore trova una collocazione ben precisa e si può fare la terapia così come c'è scritto altro e per altro credo noi potremmo scrivere trombosi portale quindi questa è un'apertura enorme che fa la nota 101 d'altra parte la nota 101 non so se sono ancora presenti le diapositive di Andrea se voi guardate questa diapositiva qui bisognerebbe che parlassimo insieme a chi ha intenzione di mettere fuori questa diapositiva perché in questo punto qui voi vedete che nella terapia acuta del tromboembolismo venoso prendono in considerazione il rivaroxaban 20 mg per 3 settimane 10 mg per il successivo periodo scusate 20 mg per il successivo periodo e poi ci scrivono che se vogliamo possiamo usare il 15 mg perché qui c'è scritto motivare la variazione della dose quando noi da anni andiamo dicendo che se un dosaggio non è stato studiato in uno studio clinico randomizzato e controllato quel dosaggio non deve essere utilizzato nella nota 101 ci viene chiaramente detto che possiamo cliccare questo dosaggio ora secondo me questo è un vero errore così come possiamo dire 110 per 2 di Dabigatran è assolutamente fuori da qualsiasi studio clinico randomizzato e controllato e ci diciamo sempre di non utilizzarlo perché non abbiamo dati e del tutto off-label bene la nota 101 secondo me potrebbe chiarirlo un po' meglio se non cancellare questo dosaggio di brutto e questo è un dato che potrebbe ingannare qualcuno che magari si approccia a questo problema senza avere un brainstorming particolarmente efficace per il resto io credo davvero che il tromboembolismo venoso abbia bisogno di un approccio rapido che dobbiamo concertare con il territorio e verosimilmente dedicare dei posti alla diagnostica col sospetto di trombosi venosa profonda dobbiamo fare in modo che lì dentro ci arrivino le persone che davvero hanno il sospetto di trombosi venosa profonda magari non solo sulla base del giudizio clinico magari sulla base di uno score predittivo positivo ha bisogno di una fase di scelta terapeutica iniziale che molto spesso è non così semplice ma poi ha bisogno la cosa più difficile non è tanto mettere un anticoagulante a un paziente che ha una trombosi venosa profonda quanto quella di togliere l'anticoagulante al momento opportuno e questo credo sia il motivo principale di attesa nel mettere in giro questa nota perché giusto ieri parlavo con un collega che mi chiedeva un confronto una giovane paziente che ha avuto una trombosi della vena iliaca una trombosi completamente occlusiva della vena iliaca dopo meno di un mese dall'inizio della pillola e mi diceva io applico le linee guida e dico quella trombosi è una trombosi che posso legare all'utilizzo della pillola e quindi la terapia devo farla per tre mesi giusto? allora giusto ma la trombosi della vena iliaca può dare delle sindrome post trombotiche pazzesche per cui è giusto se al controllo al terzo mese la trombosi della vena iliaca è scomparsa perché altrimenti questo è un caso particolare allora questi casi particolari nella maggior parte delle società scientifiche specialistiche sono proprio quelli che frenano dal mettere in pista questa nota così ipso facto io credo che l'applicazione di questa nota però sia importante per tutta quella fase in cui il paziente è stato già definito come un paziente che deve fare la terapia a tempo indefinito e da quel momento in poi il paziente diventa molto molto simile al paziente che ha la fibrillazione atriale dove il vedere il paziente calcolare i suoi rischi di sanguinamento calcolare i suoi rischi di recidiva che però abbiamo già deciso siano sufficientemente alti per non sospendere la terapia quello sia un paziente in cui il management può passare tranquillamente completamente nelle mani del medico di medicina generale e questo fa sì che il centro trombosi possa avere più agio nel prendere in carico pazienti più rapidamente e più diciamo così e più a tutto tondo questo è quello che è il mio pensiero al di là del fatto che questi sarebbero errori che dovrebbero essere corretti più o più forza la domanda che faccio io ad Andrea è prima di mettere in campo la nota 101 e quindi vederne le conseguenze abbiamo dei dati relativi all'applicazione della nota 97 che è arrivata a tempo fa e che sappiamo esprime un mondo completamente diverso però potrebbe uscarsi grazie Ulvio io guarda ti rispondo hai citato un caso ho provato a applicare su un mio paziente la nota 101 recentemente paziente che a maggio ha impiantato un ICT dopo dieci giorni comincia a avere no forse meno sette giorni comincia a avere un edema alla mano all'arto superiore sinistro e me lo dice ma il giorno dopo aveva già la visita a Cuneo cardiologica di controllo e il collega gli prescrive un ecodopper arti superiori urgente è ancora qua a doverlo fare se non che collaborazione pronto poteva essere una soluzione ci conosciamo qualche collega l'hanno visto l'ho visto Fulvio una collega diagnosi benissimo iniziato terapia non è un paziente oncologico da nota dopo tre mesi teoricamente poteva sospenderlo il nostro ruolo a volte noi in medici famiglia ci incagliamo in stupidaggini il piano terapeutico scadeva se non ricordo male il 10 di agosto aveva già avuto i suoi tre mesi di terapia la visita era il 20 per cui va a fare l'ecodopper l'ultima pastiglia fortunatamente l'aveva presa quando la mattina prima di fare l'ecodopper che ha fatto privatamente di controllo perché anche quello era impossibile per notarlo continua cioè c'è ancora persistenza allora ovviamente andava continuato abbiamo prescritto nell'attesa di perché ovviamente il paziente doveva continuare la terapia e ovviamente adesso continuerà ancora per un anno a dosaggio ridotto eccetera però per dire avessimo applicato io medico di famiglia la nota 101 mi ponevi la domanda sull'esperienza nota 97 io ho trovato questi dati interessanti e cioè l'AIFA ha fatto il report 2022 quindi a fine 22 di quante schede dopo in pratica un anno e mezzo due dall'uscita della nota 97 erano state nuove schede prescritte sul sistema TS da parte dei medici in medicina generale ed erano il 47,6% quindi vuol dire che cardiologi ematologi internisti tutti quelli che si occupavano fino a prima di giugno 2020 della prescrizione perché era l'esclusiva compito dello specialista per quanto riguarda appunto INAO nella fibrillazione atriale in realtà quasi il 50% in pochissimo tempo è stata fatta poi dai medici in medicina generale quindi sgravando sicuramente un carico di lavoro direi in parte inutile da parte dello specialista nel momento in cui ovviamente abbiamo esami matochimici di norma non ci sono stati eventi emorragici cioè perché consultare lo specialista quindi questo già ci fa dire che in un paziente che utilizza INAO in cronico senza particolari problemi perché dover coinvolgere lo specialista mi sono posto una domanda che qualcuno prima ha citato forse riguardo all'estrazione dei dati dai nostri software e dei nostri gestionali e mi sono chiesto qual era appunto la prevalenza riguardo però all'FA in Italia e appunto c'è questo studio che dice che più o meno l'1,7% ed è il 2017 non ricordo male allora io ho cercato di estrarre nei giorni scorsi quanti pazienti con fibrillazione atriale o in NAO che sono 33 e che più o meno in base al numero dei miei pazienti siamo lì 2,1% allora mi sono detto ma quanti pazienti cioè quanti problemi ci stiamo facendo per questa nota 101 quanti sono i pazienti che attualmente hanno una TEV e sono in NAO e sono 10 quindi anche il carico di lavoro probabilmente non è così importante oltretutto commentavo ieri con Fulvio di questi 10 quanti saranno in terapia poi cronica e quanti invece dopo 3 mesi oppure a un anno sospenderanno l'anticoagulante grazie grazie Claudio troppo gentile grazie davvero per la presentazione Julio ti toccano anche questi ringraziamenti anche questi complimenti eccetera eccetera peraltro sono assolutamente dovuti Fulvio Pomero per chi non c'era ieri noto come sua maestà da ieri quindi sappiate i regolari allora la comunicazione in medicina che è un titolo molto roboante non aspettatevi una comunicazione una cosa di tipo tecnico e anche meno filosofico quello che cercherò di fare di condividere per voi delle esperienze che derivano da una pratica ormai piuttosto lunga ovviamente non ho conflitti di interessi su questa relazione allora una domanda stupida importante comunicare bene per i sanitari allora un medico nella sua vita professionale gestisce circa 200.000 contatti personali quindi forse sarà meglio saperli gestire bene il 70% delle problematiche medico-legali in medicina interna sono legati a una comunicazione inefficace nel 2018 Joint Commission International ha pubblicato un paper in cui da cui risulta che su 4820 sentinella valutati nell'arco di 15 anni la cattiva comunicazione fra i sanitari aveva un ruolo crociale nel verificarsi dell'errore quindi forse è una buona cosa che noi comunichiamo bene dobbiamo farlo ma è facile farlo un paio d'anni fa ho chiesto ai miei infermieri di scrivermi mettermi per iscritto quali erano i problemi fondamentali che loro trovavano nella gestione quotidiana del reparto come vedete al punto numero 1 i punti erano 5 al punto numero 1 c'è scritto mancanza di comunicazione efficace fra personale medico-infermieristico riguardante il paziente e al punto numero 5 c'è scritto poca comunicazione fra i medici sembra che non si passino le consegne o che non le aggiornino o che non le leggano non va bene direi no? e infatti ci abbiamo lavorato sopra un bel po' allora si fa tanto parlare della comunicazione ma in realtà dentro un reparto d'ospedale per quelli che non lavorano in ospedale credo che fate le differenze del caso i concetti siano più negli stessi chi comunica con chi perché noi sono 30 anni che stiamo parlando del famigerato famoso e famigerato rapporto medico-paziente ma non è mica finita lì prima era dal medico al paziente e basta adesso è diventato tra l'uno e l'altro in tutti e due i versi ma intanto c'è un terzo attore fondamentale che è l'infermiere che è quello che sta più in contatto col paziente che comunica di più con il paziente e deve comunicare col medico fin qua siamo ancora su un piano assolutamente teorico perché se pensate a cosa succede dentro un reparto non c'è un medico un infermiere un paziente c'è un'equipe medica da me sono 17 persone che lavorano in reparto e un'equipe infermieristica ce ne sono circa 60 tutte queste persone interagiscono tra di loro e col paziente sta già diventando una cosa estremamente complessa altro che medico-paziente ma non è finita qua perché poi soprattutto nei reparti come il nostro ci sono i familiari e i caregiver che sono forse il problema fondamentale dal punto di vista comunicativo e anche il familiare caregiver di riferimento interagisce e comunica con tutte queste persone e poi andiamo avanti abbiamo gli altri specialisti quelli che fanno gli esami strumentali e anche questi si devono interfacciare con l'equipe e poi non abbiamo un familiare solo ne abbiamo diversi che piomano il reparto alle 6 di sera durante l'esame di visita fermano il primo che trovano e vogliono avere notizie ovviamente il primo che trovano è il medico di guardia che molto spesso non ne sa praticamente nulla ma l'attesa da parte del familiare è che tutti siano perfettamente informati di tutto quindi siamo in un bel guaio secondo me e non ho messo gli os i fisioterapisti gli assistenti sociali il rapporto con la medicina generale anche qui 30 anni che cerchiamo un modo efficace di comunicare fra dentro e fuori dell'ospedale credo che non l'abbiamo ancora trovato credo che lo troveremo solo se avremo degli strumenti informatici performanti in quel senso ma questo sarebbe un discorso lungo poi da noi ultimamente sono stati introdotti gli infermieri di famiglia comunità che stanno sul territorio entrano in ospedale si interfacciano con tutti quanti perché dovranno seguire il paziente quando tornerà a domicilio allora le frecce sono 23 se li mettiamo tutti non so quante diventano quindi credo che sia veramente una roba difficile e complicata da fare però è importante comunicare bene con chi e perché allora prima di tutto con i medici e gli infermieri della stessa equipe perché? perché se comunichiamo bene curiamo meglio non ci sono malintesi evitiamo errori di gestione banalmente evitiamo di ripetere gli esami no? l'ha chiesto un altro io non lo so domani vi chiedo di nuovo perdiamo meno tempo riduciamo il carico di lavoro e comunichiamo correttamente con i parenti e caregiver forse mai come oggi è diventato fondamentale che tutta l'equip nei confronti del paziente dei suoi caregiver racconti la stessa versione della storia se il medico di ieri ha detto una cosa diversa dal medico di oggi siamo nei guai poi consulenti un altro grosso problema penso che le consulenze spesso siano un problema più che una soluzione cosa fa il consulente? arriva in reparto quando ha finito di fare la sua attività normalmente nel pomeriggio difficilmente incontra quello che gli ha fatto la richiesta si basa su quello che c'è scritto e se deve andare a prendere il bambino all'asilo o deve andare a giocare a calcetto o deve andare a trovare la mamma scriverà una roba interlocutoria il famoso rimbalzo e noi ci troveremo punte da capo quindi la cosa fondamentale è secondo me scrivere chiaramente cosa vuoi dal consulente cioè qual è il quesito clinico perché ti ho chiamato rispondimi su questo punto specifico altrimenti credo che ce ne faremo davvero poco pazienti parenti e caregiver che è forse il problema fondamentale come dicevo perché noi dobbiamo informarli correttamente consentire loro di farsi un'opinione basata su dati reali fare delle scelte consapevoli dare un supporto tecnico ma anche umano ed emotivo perché siamo buoni forse sì ma anche perché ci conviene perché questo ci porterà ad avere meno contenziosi meno stress meno perdite di tempo eccetera se pensiamo a risvolto territoriale vale quello che stava al punto uno se riusciamo a comunicare bene evitiamo malintesi perdiamo meno tempo lavoriamo meglio eccetera anche qui fondamentale che chi sta dentro l'ospedale chi sta fuori dall'ospedale racconti al paziente la stessa versione della storia altrimenti di nuovo siamo nei guai comunicazione comunicazione col paziente parente caregiver dicevo che forse è il punto più critico tant'è vero che spesso diventa una specie di duello western con delle implicazioni abbastanza pesanti perché? perché la società è cambiata io sono un boomer e quelli della mia generazione dicevano ma non te l'ha mica ordinato il dottore che voleva dire questa cosa puoi anche non farla perché se te l'avesse ordinato il dottore è chiaro che tu l'avresti fatta senza discutere questo è un'editeria del Corriere della Sera del mese di giugno non è più così chi prescrive le cure è sfidato da una fiducia che non è condizionata solo dal consunto col dottor Google ma anche da altri e diversi fattori ma non te l'ha mica ordinato il dottore non lo sento più da non so quanto tempo è cambiato il medico è cambiato il paziente perché perché credo che sia brutto da dire ma credo che sia la verità il medico non è più pagato per curare con buona pace di tutta la retorica sul prendere in carico e prendersi cura ma per erogare delle prestazioni devo fare una visita in 15 minuti sarà difficile che possa prendermi cura di qualcuno il medico nel tempo ha perso ruolo ha perso l'autorevolezza perché non è più il solo depositario della conoscenza cioè il dottor Google e forse ha perso anche l'identità io penso che i più anziani fra noi si dicano io sono un medico non sono sicuro che sia ancora così forse oggi noi facciamo il medico non so se riesco a spiegare quello che intendo è diventato forse un po' un lavoro come un altro per certi vedi il paziente è cambiato tantissimo perché lui non viene più per essere curato lui viene per comprare un prodotto lui vuole la prestazione spesso è lui che decide quale prestazione vuole o quantomeno si presenta con delle pretese molto chiare e lui spesso è convinto grazie al dottor Google di avere quasi lo stesso livello di conoscenza e competenza il cosiddetto sapere ignorante non so se avete sentito questa questa locuzione e su questa cosa vi racconto una storiella il sapere ignorante all'effetto Dunning Kruger Pittsburgh 1995 quel signore si chiama Willard MacArthur è dentro una banca ha in mano una pistola e sta rapinando la banca ha rapinato due banche in un pomeriggio a volto scoperto ed è tornato a casa dopo due ore è arrivata la polizia che l'ha arrestato e lui stupito ha chiesto ai poliziotti come avessero fatto a prenderlo e loro dicono dalle telecamere di sorveglianza della banca ti abbiamo identificato e lui dice impossibile perché io ero invisibile ai poliziotti stupefatti ha poi spiegato che la sera prima un suo amico era andato a casa sua e gli aveva fatto vedere il giochino che facevamo da piccoli con il limone il succo di limone scrivi col succo di limone quello che scrivi sparisce compare solo se scaldi il foglio allora lui guardate così ma è una storia vera lui si era cosparso il viso col succo di limone ma siccome non era stupido voleva verificare se davvero era diventato invisibile ma non c'erano i cellulari quindi cosa ha fatto si è fatto una polaroid purtroppo il succo di limone gli è andato negli occhi lui ha alzato la macchina ha fotografato il soffitto ha avuto la polaroid bianca si è convinto di essere invisibile Dunning e Kruger sono due psicologi che pare incuriositi da questa storia assurda sono andati a studiare come fosse possibile avere dei comportamenti di questo tipo e hanno descritto poi il cosiddetto effetto Dunning-Kruger che è una distorsione cognitiva nella quale individui poco esperti e poco competenti in un campo tendono a sovrastimare la propria preparazione giudicandola a torto superiore alla media quindi non solo soggetti sciroccati come il signore di prima ma un po' tutti hanno un comportamento di questo tipo qua mi approccio a un problema non ne so quasi niente ma penso di saperne abbastanza solo se mi metto a studiarlo che poi capisco che in realtà non ne so nulla e che c'è molto da imparare altro problema sono cambiati i pazienti se tu devi spiegare a qualcuno una situazione così non è poi così difficile fornire un quadro comprensibile e interpretabile se spassiamo nella medicina della complessità nella quale stiamo già da molti anni la cosa diventa un po' più difficile se tu devi spiegare a un parente perché l'insufficienza renale è peggiori e il fatto che c'è la BPCO è peggiore la polmonite cominciamo a entrare nel complicato se poi pensiamo ai nostri malati di oggi pensate quanto è complicato dare un quadro che l'interlocutore riesca a comprendere in maniera compiuta siamo passati dalla medicina della semplicità quella della complessità quella che qualcuno chiama medicina del caos ancora la condizione psicologica dei sanitari e dei pazienti care giver è molto diversa e questo influisce molto sulla comunicazione che possiamo avere il sanitario è nel suo ambiente naturale è tranquillo sta facendo il suo lavoro ha più o meno chiaro quale sarà il quadro clinico e la verosimile evoluzione del paziente non è personalmente coinvolto e vive la situazione con un distacco relativo a volte no ma insomma comunque con un relativo distacco diciamo il paziente no e neanche il suo familiare il paziente viene catapultato in un ambiente estraneo che addirittura gli può essere ostile è angosciato vive uno stress psicologico molto forte non sa valutare la gravità della sua situazione non sa prevedere che cosa gli succederà si sente solo e ha paura ha paura di morire ha paura di non essere più autosufficiente ha paura di non poter tornare a casa quindi i sanitari i pazienti e i familiari sono interessati a cose diverse questi due stanno pensando alla malattia del signore steso nel letto ma non stanno pensando alle stesse cose per dirla un po' meglio l'agenda del medico e l'agenda del paziente o del suo parente sono completamente diverse l'agenda del medico è tratta dal contesto della patologia il cosiddetto disease framework e cosa interessa al medico individuare i segni e sintomi fare un interdiagnostico corretto fare la diagnosi decidere la terapia più o meno è finita così il paziente no il paziente si trova nel contesto della malattia il cosiddetto illness framework quindi ha dei sentimenti rispetto alla sua condizione ha dei pensieri delle preoccupazioni delle aspettative deve comprendere che impatto avrà sulla sua vita quello che gli sta succedendo quindi le domande che si fa sono molto diverse dalle nostre sono queste sono la stessa persona adesso che sono malato cambierò con la malattia è colpa mia se mi sono malato ho fatto qualcosa che non dovevo fare guarirò è drammatica questa cosa quando guarirò come? tornerò come prima? cambierà la mia vita? a quali cure mi dovrò sottoporre? quanto dureranno? saranno dolorose? credo che noi direi ci pensiamo poco ma un impatto sul paziente di questo tipo di situazione è veramente pesantissimo quindi sarebbe necessario e utile riuscire a integrare l'agenda del medico e l'agenda del paziente noi in realtà di solito tendiamo a fare questo il contenuto della comunicazione la prendiamo dall'agenda nostra cioè io sono il dottore adesso ti spiego che cosa hai il linguaggio tendiamo a usare un linguaggio tecnico senza preoccuparci tantissimo della comprensione dell'interlocutore per noi sarebbe istintivo fare una comunicazione top down io ti spiego tu mi ascolti però questo fa sì che il paziente alla fine pensa mi sta curando ma non mi ascolta e i miei problemi non gli interessano teoricamente dovrebbero fare una cosa diversa quindi il contenuto dovrebbe essere preso sia dall'agenda del medico che anche da quella del paziente cioè dobbiamo tener conto degli elementi di cui parlavo prima il linguaggio dovrebbe essere sì medico ma comprensibile conversativo è bruttissimo ma non mi veniva un termine idoneo per descrivere quello che volevo dire quindi avere una conversazione quindi andata e ritorno la direzione deve essere birrazionale dal medico al paziente dal paziente al medico e il paziente cosa penserà mi fido di questo medico comprende il mio disagio comprende i miei problemi ovviamente è molto bello da dire è molto difficile da fare in realtà noi avremmo un altro punto di vista credo che ce lo possiamo dire che è più o meno quello del dottor House preferisci un medico che ti tiene una mano quando muori o uno che ti salva la vita a noi ci interessa di salvare la vita il resto un po' meno cioè in altre parole comunicazione not my job forse dovrebbe preoccuparsene qualcun altro no no perché è impossibile non comunicare questa è l'estrema sintesi degli studi sulla comunicazione fine anni 60 inizio anni 70 l'attore principale questo Paul Watzklawicz non so se la pronuncia sia corretta che appunto ha studiato la comunicazione umana e possiamo dire l'ha sintetizzata in cinque assiomi della comunicazione che non vi infliggerò tutti ma alcuni spunti credo che ce li diano il primo assioma della comunicazione è non si può non comunicare la comunicazione continua in interrotta e avviene tramite parole quello che dico testo ma anche silenzio se tu vai al letto del paziente e consulti la cantella con fare pensoso e non parli questo è un messaggio è una comunicazione molto forte attività faccio qualcosa l'interlocutore vede quello che faccio e ne richiava delle impressioni o anche in attività se non faccio niente questo significa per lui qualcosa quindi comunico anche se sto zitto comunico anche se non mi faccio trovare comunico se mentre parlo guardo il telefono e ovviamente comunico qualcosa di sgradevole per il mio interlocutore comunico anche mentre dico che adesso non ho tempo per comunicare sto comunicando che non sei importante c'è qualche cos'altro più importante di te il quarto assioma dice la comunicazione avviene attraverso due diversi canali uso del linguaggio verbale le parole il testo e uso del linguaggio non verbale i gesti l'espressione del volto l'inflessione della voce sequenza ritmo e cadenza delle parole buongiorno signora ho appena visto la sua mamma ha una pulmonite adesso abbiamo incominciato la terapia antibiotica vediamo come risponde buongiorno signora ho appena visto la sua mamma ha una pulmonite abbiamo cominciato la terapia antibiotica vediamo come risponde il testo è uguale ma l'impressione che ne ricava l'interlocutore è completamente diversa qualcuno ha detto che la comunicazione è 7% verbale le parole che io dico 38% vocale volume tono e ritmo di quello che dico 55% fisica quindi anche i gesti le espressioni del viso la postura e la distanza costano tantissimo e attenzione perché il corpo non mente e solo alcune categorie i negoziatori di alto livello i politici gli attori sanno controllare bene il linguaggio del corpo quindi se dobbiamo avere un colloquio che probabilmente sarà difficile cerchiamo di prepararci prima e non farci tradire dal dalla nostra dal nostro linguaggio del corpo qui in modo abbastanza casereccio ho fatto una specie di bigino tratto da alcune esperienze soprattutto in ambito oncologico su come faccio il colloquio col parente col caregiver ovviamente il colloquio di una certa importanza di una certa gravità quando per esempio bisogna comunicare delle cattive notizie preparare il contesto devo possibilmente parlare nello studio medico con la porta chiusa senza interruzioni e senza rispondere al telefono questo ovviamente distrugge il rapporto interpersonale che si dovrebbe formare altra cosa che credo che sia fondamentale è quando ha un poco tempo che c'è così sempre questa cosa va esplicitata ma dare l'impressione che quel tempo è completamente dedicato a loro appoggiati al muro è un suggerimento che mi aveva dato un collega tanti anni fa che si è rivelato assolutamente vincente se tu incontri qualcuno mentre stai andando via dal reparto perché devi fare un'altra cosa urgente e ti fermano non dire due cose a caso e scappi perché questo ha irrimediabilmente compromesso il rapporto tu dici guardi devo andare a fare questa cosa ho due minuti ne riparleremo dopo però mi dica e ti appoggi al muro questo sta a significare che quei due minuti lì sono suoi e predispone il rapporto in una maniera completamente diversa prima di tutto dare la parola al paziente o al suo familiare che cosa sa della situazione che cosa sa delle prospettive di evoluzione la nostra tendenza è di cominciare riversando informazioni su di loro ma loro hanno già delle informazioni spesso sbagliate quindi è importante sapere che cosa pensano perché altrimenti non ci si capisce non cominciare a parlare prima che l'altro abbia finito non dimostrare assenza di interesse per quello che sta dicendo questo è un altro errore che facciamo spesso cioè mi stai raccontando delle cose che so già no non ho mica tempo e questo purtroppo però compromette il rapporto a questo punto correggere eventuali convinzioni errate adeguandosi al livello di comprensione dare informazioni con un linguaggio facile e accessibile verificando la comprensione cioè non conta quello che dico io conta quello che capisce quell'altro qualche mese fa un mio giovane assistente bravissimo stava parlando con la figlia di una signora di una novantina d'anni e ha detto abbiamo fatto l'RCP e abbiamo trovato un ampulloma forse non era proprio una cosa così chiara per l'interlocutore facilitare la persona a esprimere le proprie azioni emotive mostrare empatia e discutere le opzioni possibili concordare una strategia d'azione che significa in realtà mi faccio carico del problema ti capisco e cerchiamo insieme una soluzione ideale per il tuo familiare per te chiaro che questa è la teoria la pratica è un po' diversa e vorrei finire parlandovi due minuti del paziente o caregiver ostile conflittuale complottista no vax no mask ne abbiamo visti di tutti i colori in questi anni recenti cioè quello che parte con una concezione del tipo non mi faccio imbrogliare tu mi vuoi fregare ma a me non la racconti perché io so la verità perché l'ho letta su facebook non so se avete avuto contatto con questi personaggi ma penso che ce ne siano davvero tanti ed è abbastanza incredibile che ci siano posizioni di questo genere no perché mai dovrebbero esserci posizioni forse non è tanto incredibile 55esimo rapporto census la società italiana nel 2021 6% degli italiani crede che il covid non esista per l'11% il vaccino è inutile 20% il 5G è uno strumento per controllare le persone 6% la terra è piatta 10% l'uomo non è mai sbarcato sulla luna queste immagini del luglio del 69 in realtà le aveva girate Stanley Kubrick facendo 2001 di sede dello spazio che è uscito a dicembre dell'anno prima e trovi queste cose in rete e trovi persone che sostengono con convinzione queste cose perché lo fanno e questa è una domandona a cui non sono in grado di dare una risposta più o meno la risposta che mi sono dato io è di questo genere alla fine il mondo fa paura se non sei più che strutturato ci sono cose che spaventano il mondo è incomprensibile incertezza falsità frammentazione per esempio quattro anni fa improvvisamente sembrava di stare in un film di fantascienza è comparso un virus conosciuto che ha sterminato milioni di persone climate change forse moriremo per quello oppure arriva l'intelligenza artificiale tutti perdono il lavoro poi abbiamo visto di tutto capi di stato che mentivano grandi aziende che infrangevano la legge il dieselgate vi ricordate ma aziende famosissime generali che hanno falsificato prove per scatenare guerre servizi segreti che spiano i cittadini qualcuno lo uccidono anche quindi è una roba terrificante se ci fissa conseguenza ho la sensazione di non contare nulla non ho nessun controllo su un mondo del genere quello che accade nel mondo è la mia vita e questo mi dà una situazione in cui sono risentito indignato e tendo non voglio credere più a niente allora cosa faccio cerco una cosa rassicurante una spiegazione rassicurante è rassicurante affidarsi a una spiegazione semplice il covid non esiste non importa se è fondata che renda le cose meno spaventose in più se faccio questo mi do anche un ruolo no? io che mi sento poveraccio in balia degli eventi mi do un ruolo un ruolo di pensatore indipendente io sono contrario al mainstream io ho scoperto la grande bugia e questo in qualche modo gratifica il rapporto Censis di prima diceva le aspettative soggettive tradite provocano la fuga nel pensiero magico ed effettivamente certe situazioni di cui parlavamo confinano nel pensiero magico cosa c'entra questo? niente questo è il primo film che ho visto da grandi che ho visto io quindi pensate che età posso avere e uno dei due protagonisti Gian Maria Volontè a un certo punto pronuncia la famosa frase quando un uomo con la pistola incontra l'uomo col fucile l'uomo con la pistola è un uomo morto raffrasando quando un uomo con un ragionamento incontra un uomo con uno slogan l'uomo con un ragionamento è un uomo morto non cercate di convincerli col ragionamento perché non serve assolutamente a nulla non vogliono ragionare vogliono affermare la propria esistenza in qualche modo quindi direi non tentare di convincere con la logica con le evidenze scientifiche semplicemente perché non è possibile non gliene frega niente delle evidenze scientifiche e non accettare il confronto almeno questo è quello che ritengo io e dichiararlo rimanendo comunque rispettosi c'è una cosa del tipo se lei ha queste opinioni non sarò sicuramente io a fargliele cambiare io le posso esporre quali sono le evidenze scientifiche poi veda lei questo evita di andare allo scontro che può essere comunque deleterio e qualche volta un dubbio ovviamente non funziona sempre e quando non funziona sempre permettetemi l'ultima citazione cinematografica sono 40 anni che aspetto di usarla Claudio francamente me ne infischio grazie grazie a tutti grazie al dottor pomero per l'invito e darei la parola al professor Paolo Mulatero che è uno dei massimi esperti di ipertensione e che ci parlerà dell'approccio all'ipertensione arteriosa resistente grazie ringrazio gli organizzatori in particolare il dottor pomero per il graditissimo invito anzi lo ringrazio per il supporto che dà la scuola di medicina interna accogliendo tutti gli anni dei nostri specializzanti e formandoli da par suo questo è il mio conflitto di interesse la definizione di ipertensione resistente non è variata negli ultimi anni cioè valori di pressione sistolica e o diastolica superiore 140-90 nonostante un'adeguata correzione dello stile di vita è una terapia farmacologica che includa tre classi di farmaci a piena dose di cui uno deve essere un diuretico i numeri apparentemente bassi stanno intorno al 5-15% ma vista la prevalenza di ipertensione arteriosa nella popolazione mondiale parliamo di milioni di persone in ogni nazione e anche in Europa la forbice sta tra il 5-15% sono pazienti che hanno come è facilmente immaginabile degli out-cam peggiori rispetto agli altri fenotipi di ipertensione arteriosa quali sono le cause più frequenti di ipertensione resistenza in antitutto dobbiamo escludere la pseudoresistenza poi dobbiamo escludere delle forme di ipertensione secondarie ignorate dobbiamo valutare che il paziente abbia un tipo di diuretico adatto e un dosaggio adatto dobbiamo escludere la iatrogenia da altri farmaci o da sostanze di uso valutuario rivalutare lo stile di vita che a volte ci dimentichiamo e sicuramente la valutazione della compliance terapeutica per quanto riguarda l'esclusione della pseudipartensione resistente al di là della misurazione corretta con un bracciale di dimensione idonea soprattutto nei soggetti obesi va valutato l'effetto white coat i cosiddetti white coat resistant sono pazienti sì ipertesi ma che alla visita hanno un effetto camice bianco che porta a sovrastimare la prevalenza di ipertensione resistente e poi dobbiamo considerare la compliance del paziente che può essere dovuta a effetti collaterali regimi di prescrizione complessi cattiva interazione e mancata ed educazione del paziente e poi la terapia che può essere inadeguata come dosi come associazioni e soprattutto come inerzia a volte ci innamoriamo questa terapia secondo me doveva funzionare lui ha la pressione alta vabbè non importa avevo sicuramente ragione ecco che quindi le linee guida 2023 della società europea dell'ipertensione ci dicono che da apparente resistente prima di considerarla vera resistente dobbiamo escludere con un monitoraggio della pressione 24 ore che si tratti di un white coat resistant poi dovremmo fare un'attenta anamnesi per escludere tutta questa lunga lista di sostanze che possono causare ipertensione i fans gli steroidi gli antidepressivi oppure la liquirizia prodotti erboristici o la cocaina che se facciamo seccare l'acqua del po' possiamo divertirsi e quindi vuol dire che qualcuno la usa naturalmente l'abuso di sale deve essere sempre ricordato noi sappiamo che gli ipertesi sono più sodio sensibili rispetto ai normotesi e man mano che aumenta l'età la sodio sensibilità aumenta progressivamente il sodio è il cardine del danno cardiovascolare il sistema renina angiotensina aldosterone non farebbe nulla se non ci fosse il sodio gli anomami che vivono in una cultura senza sale hanno la renina l'angiotensina l'aldosterone molto elevati ciò nonostante sono normo ipotesi e non hanno una grande rete di eventi cardio cerebrovascolari per quanto riguarda l'aderenza è un discorso molto complesso che non abbiamo tempo di analizzare nel dettaglio ma sicuramente è una complessa interazione tra paziente medico e sistema sanitario per cui ci possono essere diversi momenti di mancata aderenza perché il paziente ha degli effetti collaterali o perché il paziente pensa che la sua malattia che è spesso asintomatica nel caso dell'ipertensione non gli porterà grossi danni perché le medicine fanno male al fegato e così via o magari perché non riesce a prenotare una visita di controllo il risultato è che vedete la aderenza in prevenzione primaria nelle diverse nei diversi studi è intorno al 50% e non è neanche tanto superiore intorno al 65% quella della terapia in prevenzione secondaria e questo pur con qualche piccola variazione indipendente dal tipo di farmaci anche nel caso dell'ipertensione per esempio i sartani che sono i farmaci più ben tollerati vedete in prevenzione primaria hanno una aderenza intorno al 55-60% e la aderenza tende a decrescere nel tempo quindi un paziente che abbiamo valutato come aderente alla prima visita di controllo non è detto che lo sia dopo un anno o due di terapia vedete c'è un progressivo decrescere pensate che nello studio Denert in cui i pazienti venivano studiati per essere mandati alla denervazione renale quindi un intervento invasivo ebbene soltanto il 50% era totalmente aderente alla terapia farmacologica con un 10-20% che addirittura non assumeva nessuno dei farmaci che invece teoricamente avrebbe dovuto assumere quindi dobbiamo andare incontro a successivi step di rivalutazione del paziente non soltanto all'inizio ma anche nella valutazione della persistenza il problema è come fare ci sono dei questionari già non funzionano con gli anglosassoni che sono più onesti degli italiani gli italiani sono abituati a mentire ai propri partner quindi figuriamoci al dottore e quindi non va bene una strategia potrebbe essere quella di usare un farmaco che contenga trianterene c'è il flus 40-25 in Italia e perché prendendo le urine a sorpresa al paziente mettendole sotto una fonte di raggi UV diventano fluorescenti quindi così sappiamo se il paziente assumevano la terapia però non è una cosa che si può fare proprio tutti i giorni un po' più facile può essere se il paziente aveva avuto un dosaggio di renina aldosterone al baseline se noi gli abbiamo aggiunto per esempio un diuretico o un acinibitore o un sartano dovremmo vedere la renina che sale il rapporto aldosterone e renina che scende esistono dei metodi più complessi che però vengono usati solo nei trial il fatto che ci sia un detettore quando il paziente svita il tappo della confezione o addirittura dei sensori che vengono ingoiati insieme alla pillola e che trasmettono in wireless il segnale tutto questo non è fattibile noi ci avvaliamo di colleghi che al di fuori del servizio sanitario nazionale ci possono dosare i farmaci in cromatografia auspicabilmente un domani come succede per gli immunosoppressori può diventare un tool anche utilizzabile nella pratica clinica sicuramente noi dobbiamo ridurre il numero e la complessità dei farmaci che vengono assunti dal paziente quindi prescritti da noi per quanto riguarda le forme di ipertensione secondaria dobbiamo orientarci sicuramente dal punto di vista della prevalenza maggiore o minore nelle diverse fasce di età tenendo conto che tutto sommato nella maggior parte dei casi i test per lo screening delle forme più frequenti di ipertensione arteriore secondaria sono relativamente banali le forme endocrine si tratta di dosare due o tre ormoni per l'OSAS è forse un po' più complesso la polisonno e un ecodoppler per l'ipertensione nefrovascolare la prevalenza dell'iperaldosteronismo è particolarmente elevata soprattutto negli ipertesi resistenti ecco perché dove varia tra il 10 e il 20 per cento mentre nella popolazione ipertesa generale intorno al 5 ecco perché quando abbiamo steso il consensus della società europea dell'ipertensione abbiamo detto che andavano scrinati tutti gli ipertesi resistenti anche perché sono pazienti che vanno incontro a un'incidenza di eventi cardi-cerebrovascolari significativamente maggiore tuttavia in Italia vengono scrinati solo il 3-4 per cento degli ipertesi e anche peggio fanno gli americani che vedete nell'ipertensione resistente scrinano soltanto l'1,6 per cento dei pazienti attenzione perché le nuove linee guida della società europea di cardiologia finalmente hanno detto addirittura tutti gli ipertesi devono essere scrinati con un dosaggio di aldosterone renina quindi adesso non abbiamo più scuse per evitare questo screening per quanto riguarda l'ipertensione nefrovascolare sappiamo che colpisce un po' i due estremi del range di età i giovani ipertensione da displasia e fibromuscolare gli anziani da aterosclerosi come selezioniamo i pazienti beh e i giovani mi verrebbe da dire un ecodoppler possiamo farlo a tutti anche perché non è così rara i donatori di reni le casistiche dei donatori di reni ci dicono che il 4% di essi aveva una displasia fibromuscolare non so se noi nel 4% dei giovani abbiamo questo tipo di prevalenza nei nostri ambulatori per quanto riguarda invece la parte aterosclerotica teniamo conto che tanto più il paziente ha delle placche tanto è più probabile che abbia una placca anche sull'arteria renale la terosclerosi è centrifuga quindi per esempio se abbiamo un'arteriopatia obliterante periferica è probabile che ci sia anche una stenosi delle arterie renali invece un po' più selezionati i pazienti da studiare per il feocromocitoma che in genere però ci pensiamo un po' di più per le caratteristiche che abbiamo studiato all'università crisi pertensive e così via e la sindrome di Cushing che nella forma conclamata è rara esistono molti pazienti che hanno un Cushing subclinico la sindrome delle apneostruttive è un po' dibattuta se considerarla una vera forma di ipertensione arteriosa secondaria perché poi quando mettiamo la C-PAP non diventano normotesi quindi è spesso una componente dell'ipertensione soprattutto nei pazienti obesi teniamo conto che però nei resistenti un 30 di indice apnea ipopnea si riscontra in addirittura la metà dei pazienti con ipertensione arteriosa resistente bene come ci comportiamo dal punto di vista della terapia in coloro che assumono già un inibitore del RAS un calcio antagonista e un diuretico a piena dose se il filtrato renale è superiore a 30 dobbiamo aggiungere un antagonista del recettore mineral corticoideo con lo spironolattone come farmaco preferito e poi in quinta battuta un beta bloccante un alfa bloccante poi ancora un centrale e solo quando proprio non siamo riusciti a trovare la quadra possiamo considerare la denervazione renale se il filtrato è superiore a 40 quando il filtrato invece è inferiore a 30 il diuretico deve essere un diuretico dell'ansa e deve essere se la furosemide è somministrato almeno due volte al giorno vista l'emivita e poi come primo farmaco quindi in quarta battuta viene consigliato il clortalidone vi mostrerò tra poco perché e poi dopo beta o alfa bloccante i farmaci sono gli stessi non è contemplata in questo caso la denervazione le linee guida della cardiologia dicono sostanzialmente le stesse cose quindi le possiamo saltare alcuni autori hanno cercato di ancora scomporre come farmaco di quintalina a seconda della frequenza cardiaca se è bradicardico gli do un alfa bloccante dopo lo spironolattone se invece è tachicardico gli do un beta bloccante tra 60 e 80 fate un po' voi come mai lo spironolattone è il farmaco di quarta scelta se i pazienti assumono un diuretico hanno tutti un iperaldosteronismo secondario l'iperaldosteronismo secondario determina sodioritenzione e questa riduce l'efficacia della terapia antipertensiva e quindi io posso ottenere un beneficio proprio andando a bloccare l'effetto dell'aldosterone e al di là del concetto fisiopatologico l'ha dimostrato lo studio patua in cui i pazienti che facevano la triplice terapia sono stati randomizzati a spironolattone bisoprololo o doxazosina ha vinto alla grande lo spironolattone che tra l'altro funzionava molto bene ancora di più rispetto alla media in coloro che avevano un rapporto aldosterone rinina elevato forse perché c'erano dei pazienti con l'iperaldo che non erano stati diagnosticati vi ho detto del clortalidone perché in questo trial pubblicato tre anni fa ha dimostrato di essere efficace nel ridurre la pressione nonostante noi avevamo un po' questo concetto sotto 30 solo furosemide sopra 30 i diuretici tiazidici invece no il clortalidone lo possiamo aggiungere come farmaco di quarta scelta dopodiché cominciamo a utilizzare dei farmaci alla disperata il minoxidil che però va adatto se c'è già in terapia il diuretico e se c'è un betabloccante perché tachicardizza da morire i nitrati possono essere utilizzati ricordiamoci delle somministrazioni multiple soprattutto sono efficaci nell'ipertensione sistolica isolata e poi andiamo alle associazioni non convenzionali esiste anche la possibilità di combinare il calcio antagonista di idro e non di idro piridinico e questo studio aveva dimostrato che la somma dei due era maggiore dell'efficacia single possiamo utilizzare il blocco sequenziale nel nefrone utilizzando diversi tipi di diuretici che vanno appunto ad agire in segmenti diversi del nefrone questa strategia ha dimostrato di essere superiore a quella del blocco sequenziale del sistema renina angiotensina aldosterone in questo studio come siamo messi con i nuovi farmaci beh sicuramente gli SGLT2 inibitori che vanno bene per tutto però non vanno bene per la terapia nell'ipertensione resistente vedete l'efficacia del farmaco è davvero minima quindi li utilizziamo per altre indicazioni invece il sacubitri il valsartan potrebbe avere un'efficacia non è delibato quindi non lo possiamo utilizzare però in Asia per esempio lo usano come antipertensivo magari quando scadrà il brevetto potrà essere utilizzato abbiamo la procitentan che ha finito ed è stato pubblicato lo studio di fase 3 è un bloccante dei recettori dell'endotelina doppio sia A e B ha un problema riduce la pressione ma determina ritenzione di liquidi quindi sono pazienti che hanno edemi importanti soprattutto agli arti inferiori che considerato che raggiungiamo al calcio antagonista spesso può essere poi un motivo di ridotta compliance del paziente una possibilità per il futuro forse per i non complianti il zilebesirang è un'iniezione di un interferente dell'RNA che si fa una volta ogni sei mesi e ha un'efficacia terapeutica prolungata rimane da vedere come si potrà combinare con gli altri farmaci e poi le grosse novità sono tutte in campo aldosterone inibitori dell'aldosterone sintasi o altri bloccanti del recettore mineral corticoidea partendo da questi ultimi abbiamo l'Ocedure nonne che però il suo sviluppo è stato bloccato dalla Novo Nordics per il fallimento del trial di fase 3 in fase 2 sembrava uno spettacolo il Balcin renone che è utilizzato non per l'ipertensione al momento la Pararenone l'esaxerenone è il finerenone che è quello già più vicino all'utilizzo l'esaxerenone è molto utilizzato in Giappone dove viene utilizzato come Adon Therapy e vedete la sua efficacia a dosi progressivamente crescenti sicuramente può essere utile ed è stato anche utilizzato in trial nell'iperaldosteronismo primario l'Apararenone invece è stato targettato per la nefropatia diabetica ma nei diabetici ipertesi ha dimostrato di essere un buon antipertensivo infine il finerenone anche lui è stato utilizzato nei pazienti diabetici con insufficienza renale vedete che comunque ha una certa efficacia di riduzione dei valori pressori però sembrerebbe essere meno efficace dello spironolattone concludo con gli inibitori dell'aldosterone sintasi quelli che hanno dei trial pubblicati sono Baxdrostat Lorundrostat e Dexfadrostat il Baxdrostat ha un trial di fase 2 nell'ipertensione resistente vedete una riduzione dose risposta dei valori pressori il Dexfadrostat lo abbiamo testato in uno studio europeo che abbiamo coordinato noi di Torino vedete la riduzione dei valori pressori molto importante questo è monitoraggio pressore del 24 ore nei pazienti con iperaldosteronismo primitivo e Lorundrostat che è stato utilizzato negli ipertesi di difficile controllo dove però funzionava di più negli obesi e in coloro che assumevano diuretico tiazzidico per quanto riguarda la terapia non farmacologica invasiva ci sono diversi tipi di strategie ma l'unica che è stata studiata approfonditamente è la denervazione renale prevalentemente con radiofrequenze anche se si stanno sviluppando quella ultrasuoni iniezione alcolica intravascolare le linee guida della società dell'ipertensione dicono che può essere considerata nei pazienti appunto con ipertensione vera resistente filtrato superiore a 40 e il suo utilizzo deve essere riservato a centri specialistici che prima quindi abbiano valutato attentamente i pazienti per questo tipo di indicazione e anche le linee guida della società europea di cardiologia sostanzialmente appena pubblicate dicono la stessa cosa concludo dicendo che partiamo dall'iperteso apparentemente resistente dobbiamo escludere la pseudoresistenza valutare l'aderenza escludere le forme di ipertensione arteriosa secondaria e poi solo dopo cercheremo di ottimizzare la terapia farmacologica magari in futuro utilizzando nuovi farmaci antipertensivi o se come estrema razio anche la terapia di denervazione renale non sono più con loro ma l'ipertensione l'ho sempre fatta col gruppo del professor Veglio e quindi ringrazio loro con i quali continuo a fare ricerca grazie a voi grazie a voi diamo la parola al dottor Manfellotto nostro attuale presidente della fondazione Fadoia ex presidente della società scientifica e ora in medicina con il direttore dell'isola della medicina dell'isola Tiberina grazie 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 Paola grazie Fulvio già l'anno scorso mi ripeto ho detto questa frase che secondo me è molto corretto il sottotitolo che tu dai clinica e ricerca si incontrano perché è un po' il mantra diciamo della nostra società scientifica quello che da tanti anni abbiamo cercato di portare avanti ed è quello che tu anche stai incarnando perfettamente come direttore proprio della ricerca della Fadoi o adiuvato dall'ottima Paola Piccolo che ti siede vicino e con cui io lavoro da una vita e devo dire che anche il programma che hai messo su per questo convegno così prestigioso così apprezzato e ormai diventato un appuntamento obbligatorio segnala proprio questo tipo di impostazione e questo tipo di ricerca di formazione di educazione cercando di coniugare clinica e ricerca come noi facciamo anche quotidianamente nella nostra attività non ho conflitti di interesse e vorrei partire per affrontare in questi 20 minuti che mi sono stati assegnati e poi devo dire che all'una purtroppo ho il transfer per andare a Caselle quindi temo di non fare in tempo a partecipare alla discussione ma malgremo ha diciamo la medicina moderna si sta modificando in tanti aspetti ma anche dal punto di vista nosografico dal punto di vista della definizione delle malattie perché voi vedete qui elencate la sindrome metabolica la sindrome cardiocerebrovascolare la sindrome fotorenale la sindrome cardiorenale cardiorenale anemia sindrome nella quale era appunto era stata inserita l'anemia come elemento prognostico negativo la cardiorenal malnutrition la lung kidney sindrome arrivando poi adesso alle evoluzioni della malattia epatica dalla vecchia steatosi alla NASH alla MAPHLD non so Paola ci anticiperai qualche nuova sigla che stai studiando la cardiorenal metabolic syndrome la cardiovascular kidney metabolic syndrome di cui dirò qualche parola in più fra qualche diapositiva ma di che stiamo parlando? stiamo parlando dei pazienti complessi dei pazienti nostri cioè perché noi sappiamo e lavoriamo su questo noi ci definiamo noi internisti gli specialisti della complessità complessità è la qualità di qualcosa che è intricata e composita e quindi anche in un sistema le complicazioni del sistema oppure delle componenti del sistema il grado di interazione fra i vari aspetti di questa sindrome il grado di articolazione di rete i tipi che ci sono e poi questo va coniugato eventualmente con la fragilità che è altro concetto perché la fragilità può esserci nella complessità la complessità ci può essere senza fragilità e la fragilità è lo stato vulnerabile di salute legato a una complessa interazione di aspetti medici e sociali fisici mentali nutrizionali di fragilità sociale aspetto che tutte le scale tutte le definizioni tutte le modalità di approcciare dal punto di vista nosologico la complessità e la fragilità tendono a sottolineare che ci vuole necessariamente anche una condizione di fragilità dal punto di vista sociale per parlare di fragilità in senso lato ma oggi è emerso anche l'altro concetto quello della sindemia sindemics è una teoria nuova è molto proposta adesso in ambito epistemologico è la teoria della sindemia che è la sinergia di condizioni che sono fondamentali per capire perché una malattia compare come quando ma anche perché queste si manifestano insieme perché interagiscono ma soprattutto questo è il concetto base della sindemia condividono alcuni o più fattori fondamentali che portano alla loro insorgenza la loro interazione e quindi ancora una volta strutturali sociali culturali ecologici economici quindi perché sindemia proprio perché noi andiamo a pensare a situazioni nelle quali anche i fattori di rischio e i fattori patogenetici sono comuni storicamente noi queste condizioni le abbiamo affrontate con tantissimi farmaci io ho ritrovato il combetin i più vecchi di voi vedo qualcuno con i capelli bianchi che sorride il combetin era diciamo la panacea combetin levocombetin teofillina e combetin cioè non c'era altro c'era casomai un po' di furosemide c'era il combetin che è un glicoside cardioattivo è un farmaco derivato sostanzialmente dalla è qui ecco qua appunto dalla digitale e poi appunto c'era la digitale e poi l'aspirina e poi le statine cioè sono tutti farmaci che sono stati utilizzati in condizioni complesse anche per un motivo molto semplice che noi conoscevamo un meccanismo d'azione ma poi vedevamo effetti secondari ed effetti di questi farmaci che erano anche inattesi scoperti in un momento successivo e anche in qualche modo che noi vedevamo come effetto ma di cui non capivamo dal punto di vista farmacologico come si sviluppasse e quindi è lo stesso discorso che in qualche modo abbiamo per le gliflozine qui Jim Brownwald in questo famoso editoriale dice SGLT2 inhibitors sono le statine del ventunesimo secolo da quando è stata sono state scoperte sono state sono entrate sul mercato la prima Cana poi Dapa ed Empa l'anno successivo hanno dimostrato questa capacità di interferire grazie alla derivazione vegetale della florizina dalla corteccia della mela e quindi con un'azione sostanzialmente capace di inibire la fermentazione e la permeabilità intestinale renale verso il glucosio le gliflozine agiscono prevalentemente su questo meccanismo molto ben conosciuto di interferenza con questo meccanismo di cotrasporto a livello del tubulo per il quale il 90% del glucosio che filtra viene eliminato e viene con il blocco grazie alle gliflozine viene eliminato nel lume tubolare e viene eliminato con le urine questo è il meccanismo principale che ha fatto introdurre questi farmaci così ormai popolari e importanti come farmaci antidiabetici ma in realtà questa è una diapositiva presa da un primo studio 2014 su empagliflozine che mostrava appunto sottolineava come il meccanismo d'azione e il blocco di questo sistema di cotrasporto e però qui anche veniva insinuato un dubbio e veniva sottolineato però noi vediamo effetti sistemici perché abbiamo una riduzione dell'acido urico abbiamo una riduzione del peso della pressione la riduzione dell'esistenza all'insulina eccetera 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 cioè una serie di effetti sistemici che noi osserviamo nei pazienti azione principale descritta sul tubulo ma poi che cosa succede qui arriviamo alla definizione su cui mi dilungherò adesso un pochino che è questa sindrome che ho anticipato cardiovascolare renale metabolica è una malattia attribuita alla connessione fra obesità diabete malattia renala cronica malattia cardiovascolare che comprende l'insufficienza cardiaca la fibrillazione la coronaropatia lo stroke l'arteriopatia periferica e in questa articolo dello scorso anno esattamente un anno fa che era novembre dello scorso anno quindi un anno è qualcosa era stato pubblicato su circulation questo statement una dichiarazione ufficiale dell'associazione americana dell'american heart association che dice signori esiste nasce viene battezzata questa cardiovascular kidney metabolic syndrome che cos'è è una malattia nella quale c'è una condizione cronica di malattia infiammazione tutti gli aspetti fondamentali della cronicità però c'è l'ipertensione c'è il coinvolgimento del grasso disfunzionale c'è l'insufficienza cardiaca c'è la malattia renale c'è la malattia vascolare ecco questo insieme di cose che portano a questa malattia che rappresenta un impatto importante sulla salute dei pazienti e dei pazienti cronici e con comorbidità soprattutto ma guardate e qui ritorno al concetto di fragilità questi pazienti sono ufficialmente definiti fragili perché c'è la predisposizione ma gli aspetti relazionali di comunità e fattori sociali quindi sono pazienti fragili complessi e fragili ora noi l'ho già detto prima in quel lavoro che riguardava EMPA l'evidenza ha dimostrato che gli SGLT2 però sono attivi in condizioni di diabete ma anche nei non diabetici cioè questo effetto che noi sfruttiamo il blocco del recettore SGLT2 che sfruttiamo per il diabete però ha anche si manifesta anche nei pazienti non diabetici quindi nei pazienti di cui non è necessaria una eccessiva riduzione della glicemia però si manifestano tutti questi altri aspetti e quindi sono meccanismi potenziali attraverso i quali l'inibizione di questi recettori riduce il rischio dell'ospedalizzazione per l'insufficienza cardiaca e questi meccanismi questo è un lavoro dell'anno scorso non sono chiaramente compresi e la ricerca di Sanderway la ricerca è in corso un altro aspetto che però è stato identificato e mi fa ripensare alla storia degli ACE inibitori quando noi studiavamo e guardo l'amico Paolo Mulatero quando studiavamo molto gli effetti sul glomerulo e sull'arterio lafferente e deferente degli ACE inibitori vedendo quanto interferissero i farmaci anti-ipertensivi con la vasocostrizione e la vasodilatazione di queste due arterie che regolano la pressione e il filtrato glomerulare nel singolo nefrone perché se io dilato l'arteriola afferente più sangue entra nel glomerulo e il glomerulo lavora di più se l'arteriola efferente è ristretta questa pressione nel singolo glomerulo aumenta se io invece riduco anche la pressione nell'arteriola efferente il sangue viene lavato fuori del washout del sangue viene eliminato si riduce la pressione all'interno del glomerulo si riduce il filtrato nel singolo glomerulo e si ha l'effetto che era tipico con ACE inibitori meno con i sartani nei quali si poteva avere quella insufficienza renale acuta in pazienti ipovolemici i pazienti disidratati in pazienti in trattamento con altri farmaci nei quali questo effetto brusco a livello glomerulare portava a una riduzione brusca della pressione e del filtrato nel singolo glomerulo moltiplicato per il milione di glomeruli che hanno i nostri reni portavano insufficienza renale acuta fenomeno analogo studiato per l'SGL di due inibitori nei quali abbiamo lo sappiamo e noto tutta una serie di effetti pleiotropici come dicevamo anche per le statine e per altri farmaci dove c'è all'inizio dell'inibizione una riduzione anche significativa del filtrato glomerulare con un aumento della creatinina ma poi questo avviene nel tempo si risolve nel tempo e porta ad un vantaggio che è lo stesso vantaggio che si verifica anche con gli ace inibitori quando noi li diamo e all'inizio paghiamo in certi casi un prezzo in termini di filtrato ma poi nel tempo il vantaggio di funzione renale e mille studi l'hanno documentato sulla protezione della malattia della malattia renale ora gli studi clinici che sono stati condotti su queste molecole DAPA EMPA CANA in particolare mi riferisco a DAPA ed EMPA per i quali i lavori anche diciamo sull'effetto extra diabetico extra glicemico e sull'effetto sistemico soprattutto nelle malattie di cuore una malattia renale cronica è stato maggiormente studiato questi sono gli studi che hanno utilizzato vari criteri considerando tutto quello che era necessario e dando anche delle indicazioni poi chiare pratiche per la prescrizione anche al di sopra di limiti di filtrato che potevano sembrare inizialmente non raccomandabili quindi addirittura a livelli di filtrato di 20 e di 30 millilitri al minuto di filtrato glomerulare considerando gli aspetti anche della deplezione di volume che è sempre lo accennava adesso mulatero per la parte del sodio del volume che è così fondamentale che è fondamentale ancora per questi farmaci che sono entrati poi fortemente nella terapia della insufficienza cardiaca dello scompenso cardiaco inizialmente studiato per la funzione per la funzione per la funzione sistolica ridotta e poi successivamente anche nella preserved nella funzione la frazione di aiezione conservata che è quella lo sappiamo tipica della complessità dei nostri pazienti tipica del paziente complesso del paziente con tante comorbidità che ha un'insufficienza cardiaca frazione di aiezione conservata e ritorno ancora una volta al sodio perché questo è un meccanismo considerato fondamentale ed è fondamentale nei pazienti che hanno una congestione nei pazienti che sono edematosi perché è il meccanismo anche che va a in qualche modo viene considerato uno di quelli fondamentali ma ce ne sono tanti altri la ricerca è underway siamo in fase di studio di definizione gli SGLT2 inibitori agiscono a livello del sistema del compartimento extracellulare non soltanto attraverso questo meccanismo che provoca perdita di molecole di glucosio e quindi diuresi osmotica passaggio dal compartimento interstiziale al compartimento plasmatico e quindi diuresi osmotica e contribuiscono alla diuresi ma non solo siccome è un cotrasporto glucosio sodio anche sodio viene eliminato e quindi c'è anche questo aspetto che va tenuto presente anche per certi aspetti perché si può ridurre la sodiemia ma soprattutto c'è questo contributo alla diuresi quotidiana che si somma anche a quello che produce la furosemide agendo prevalentemente con un meccanismo che non è osmotico ma che è prevalentemente legato all'azione alla presenza del furosemide nel plasma e quindi nel suo intervento a livello dell'ansadl e quindi ecco gli SGLT2 che cosa producono? Sicuramente la perdita di glucosio diuresi osmotica la perdita di sodio contributo alla diuresi anche a livello intestinale perché poi gli SGLT2 sono a livello intestinale c'è il contributo alla contrazione di volume e quindi anche l'emoconcentrazione che possiamo vedere in questi pazienti meccanismi che riducono questi outcome l'ospedalizzazione il peggioramento dell'insufficienza cardiaca ma anche la riduzione dei peptidi antiruretici e lo stato congestivo ma rene e polmoni si parlano come sappiamo si parlano e si parlano non soltanto in condizioni diciamo di rischio di insufficienza renale acuta ma anche nel paziente cronico fino al quadro descritto ampiamente del polmone uremico ma si parlano anche nella bruchite cronica ostruttiva questo è un lavoro molto bello che mi ha segnalato Leo Fabri grande amico di Fadoi è stato anche il nostro direttore della ricerca alcuni tanti anni fa in cui segnala dopo aver descritto ampiamente la COPD come una malattia multisistemica infiammatoria adesso ha introdotto quel concetto che vi ho descritto all'inizio della sindemicità e quindi dice la COPD è una malattia sindemica è una multimorbidità perché COPD questa è come singola malattia questa è una singola malattia con comorbidità ma dicono Leo Barcelli e gli altri COPD è nel contesto della comorbidità cioè sono condizioni sindemiche che sono sposate e condividono meccanismi patogenetici ma anche gli stessi fattori di rischio perché i fattori di rischio della COPD che conosciamo bene sono anche i fattori di rischio della malattia cardiovascolare della malattia renale ecco di nuovo che ritorna e qui ci sono degli studi in corso con le gliflozine ancora devono essere pubblicati i risultati ma insomma ecco questo è quanto al momento si sta studiando anche nell'ambito della malattia polmonare e poi il campo del coinvolgimento del fegato non entro nel terreno della Paola se no poi mi sgrida che dice io non hai detto bene allora Nash Nafoldi Mufoldi Musseldi ma insomma ovviamente sono definizioni che tendono a dire come cosa che il fegato così come il rene così come il cuore così come tutto l'organismo fanno parte di questa condizione che dal punto di vista metabolico può compromettere questi organi questi parenchimi ma qual è un aspetto importante che voglio sottolineare di questo lavoro su Journal of Epatology di quattro anni fa che nei pazienti con Nash questa era una popolazione di pazienti con Nash c'era una prevalenza di proteinuria e di malattia renale cronica questa è la stadiazione ma insomma guardate queste due colonnine proteinuria e malattia renale cronica decisamente superiore ai pazienti di controllo ai pazienti sani quindi a dire che siamo di fronte veramente a una comorbidità nella quale il fegato coinvolge il rene e viceversa nell'ambito di una sindrome multisistemica a cui non è straneo il grasso viscerale perché poi la steatosi è grasso in un viscere direbbero gli amici gli amici che citavi prima no? del Google Doctor il viscere ma insomma il grasso viscerale il grasso del fegato sia a livello locale che a livello sistemico sia nel grasso perivascolare pericardiaco il grasso perirenale cioè sono tutte tessuti grassi disfunzionali che producono molecole e sostanze con azione endocrine che hanno un'azione negativa per interferire in questo ambito vado rapidamente alla conclusione citando altri due aspetti importanti questo sono le linee guida intersocietare per la multimorbidità e la polifarmacoterapia problema che noi affrontiamo e che anche la nostra Paola Piccolo ha fatto a parte di questo gruppo di lavoro che ha pubblicato proprio quest'anno il review sulla medicazioni e le possibilità di deprescrizione di deprescribilità e ha partecipato per conto di Fadoi con un gruppo in cui c'era come coordinamento l'istituto superiore di sanità e l'amico Graziano Graziano Onder che cosa hanno sottolineato l'importanza dell'attenzione alla multiterapia alla polifarmacoterapia e a vedere lì dove possiamo ridurla in qualche modo allora come aiutano le gliflozine sia Sia EMPA sia DAPA hanno quest'azione documentata di ipouricemizzante questo è un un lavoro che che mostra come il la terapia con SGLT2 rispetto alla terapia con sulfaniurea questi erano pazienti trattati con metformina porta a una incidenza di gotta molto inferiore e a un'incidenza cumulativa di ospedalizzazione e di ricoveri per per gotta addirittura molto inferiore ecco quindi un effetto che si aggiungeva significativo dal punto di vista clinico a pazienti che erano in trattamento con metformina ma non solo questo è un sottostudio del Deliver da Paglifozin insieme ai diuretici ha mostrato questi risultati fondamentali il farmaco era comunque sicuro a prescindere dalla terapia diuretica la dose di diuretici era rimasta stabile oppure in certi casi poteva essere ridotta comunque non doveva essere aumentata se c'era la terapia con l'SGLT2 inibitore e poi riduceva anche l'inizio di una terapia diuretica ma comunque il 32% dei pazienti non avevano dovuto interrompere o sospendere altro aspetto importante è sempre sottostudio del Deliver l'importanza nei rapporti con la polifarmacoterapia della quale stavo parlando un attimo fa il farm la dapaglifosine ha ridotto dato che è noto che c'è un aumento del rischio di morte cardiovascolare e di scompenso cardiaco all'aumento della terapia distinguendo i pazienti in pazienti che facevano una politerapia una polifarmacoterapia fino a 9 farmaci e pazienti che oltre 10 farmaci iperpolifarmacoterapia ecco la terapia con glifosine aggiunta a questa terapia ha mostrato che c'era un beneficio anche nei pazienti che facevano terapia iperpolifarmacoterapia quindi più di 10 farmaci dove dire che l'ad-on therapy delle gliflozine di EMPA e di DAPA significativamente impatta anche in pazienti estremamente trattati estremamente complessi e estremamente trattati chiudo con questo aspetto relativo all'importanza del timing quando dare questi farmaci sicuramente nel paziente cronico ma noi dobbiamo imparare a darli precocemente il più rapidamente possibile nei pazienti ricoverati una volta stabilizzati perché la prescrizione precoce aumenta la fase di ottimizzazione e la possibilità di portare poi questi pazienti al meglio della terapia guidata dalle linee guida e quindi i meccanismi protettivi di azione sono i meccanismi pleiotropici di questi farmaci ipoglicemizzanti antinfiammatori antiossidanti emodinamici sui lipidi sul peso corporeo sull'anatriuresi sul danno ischemia riperfusione renale cioè sono veramente meccanismi noti meccanismi che abbiamo verificato meccanismi che stiamo studiando nelle loro modalità di insorgenza dal punto di vista farmacologico e fisiopatologico ma che danno a questi farmaci veramente e questo giusto denominazione di statine del ventunesimo secolo ma di farmaci molto importanti e che noi stiamo imparando a utilizzare al meglio grazie anche alla prescrivibilità ormai ottenuta sia per empa sia per data dapa per insufficienza cardiaca e per la malattia renale cronica io ho sforato due minuti vi ringrazio e ringrazio ancora Fulvio per l'attenzione abbiamo quindi il dottor Flavio Tangiano oltre che un carissimo amico è un internista direi completo e sicuramente esperto per quanto riguarda lo scompenso perdito buongiorno a tutti in quest'ora prima di pranzo spero di potervi dare qualche notizia che vi possa aiutare diciamo in quello che fate tutti i giorni Fulvio mi ha chiesto di occuparmi di quella che è il paziente oltre le glifozine avete visto Dario ci ha fatto vedere come le glifozine siamo veramente utili per tantissime cose giustamente se andiamo a vedere le linee guida per lo scompenso cardiaco vedete che oltre quattro pilastri e al fatto che le glifozine ci hanno dato una mano anche in quei fenotipi di scompenso cardiaco dove prima non potevamo fare nulla per cui quella moderatamente ridotta e quella preservata noi abbiamo dei pazienti che nonostante tutte le terapie necessitano qualche volta di impiantare un ICD oppure di fare una terapia resincronizzante ma nonostante questo i pazienti che spesso arrivano in medicina sono pazienti che nonostante la terapia resincronizzante non vanno ancora bene non vanno ancora bene perché nella realtà vedete come nonostante noi possiamo fare tutte le terapie migliori del mondo esiste un rischio residuo di questi pazienti cioè nonostante i pilastri vediamo come il 16 16,3% dei pazienti nei due anni successivi hanno la possibilità di sperimentare la morte cardiovascolare oppure delle ospedalizzazioni e il fatto di sperimentare delle ospedalizzazioni fa sì che questi pazienti comunque abbiano veramente una qualità di vita residua non particolarmente buona e soprattutto che possono andare in contramorte per cui una volta che i sintomi sono ancora presenti noi abbiamo l'indicazione di andare a prescrivere dei farmaci di classe seconda ovviamente non sono qui a raccontarvi della digitale piuttosto che dell'ivibradina piuttosto che di questi farmaci perché fondamentalmente non li vedo come dei farmaci che abbiano un interessamento sistemico Dario ha fatto bene a far vedere che la COPD come lo scompenso cardiaco sono delle malattie sistemiche per cui probabilmente unire tanti farmaci nella terapia di queste patologie è perché probabilmente la patologia è il più ad ampio raggio e per cui bisogna prendere tanti spunti e quindi tanti farmaci che agiscono in tanti punti diversi per poter andare a controllare la patologia per cui detto questo vedete come nel contesto dei quattro pilastri ci possa essere la necessità di implementazione con il Vericiguat il Vericiguat che rispetto agli altri non è un inibitore ma uno stimolatore della guanoinato ciclasi solubile e vedete che ha la possibilità di lavorare sia in assenza di ossino nitrico che con la presenza di ossino nitrico questo significa che ci può servire sia negli scompensi non avanzati ma anche negli scompensi avanzati e gli effetti sono quelli di una riduzione della fibrosi una riduzione dell'ipertrofia del cardiomiocita una riduzione del rimodellamento ventricolare nonché ovviamente riduzione delle resistenze periferiche e della funzione cardiovascolare il tutto era partito nel 2015 dove si è visto che questa molecola faceva sì che in questi pazienti ci fosse una riduzione importante di quello che era il BNP per cui un effetto anche dal punto di vista natrioretico e vedete come la titolazione del dosaggio da 2,5 giornaliero al 10 faceva sì che questa riduzione fosse veramente importante una riduzione importante che poi ci interessa soprattutto se poi il farmaco non ha dei grandi effetti colaterali e vedete qui come dal punto di vista pressorio dal punto di vista della frequenza cardiaca non ci sono particolari differenze nelle due popolazioni non da meno il fatto che non ci sia un movimento della troponina e un peggioramento della funzione renale per cui nel 2020 viene fuori lo studio Vittoria che è uno studio che ha preso una popolazione veramente importante che i pazienti con peggioramento cardiaco che avevano già una terapia on top per vedere se su questi si poteva agire in qualche modo per ridurre quelle che potevano essere la morte cardiovascolare e le ospedalizzazioni e vedete come effettivamente se prendiamo il primario che è il composito di tempo alla morte cardiovascolare e alla prima ospedalizzazione abbiamo una riduzione di rischio assoluto del 4-2% che dobbiamo sommare a quello che è il lavoro fatto dagli altri 4 pilastri in questi pazienti che è tradotto clinicamente e noi dobbiamo trattare 24 pazienti per evitare un evento che mi sembra un risultato assolutamente del tutto dignitoso tra gli adcan secondari vediamo come la faccia da padrone è il fatto che vengano ridotte le ospedalizzazioni e il composito ospedalizzazioni e tutte le case di mortalità veniva a ridursi in questi pazienti se andiamo nello specifico nelle subanalisi vediamo come questo farmaco abbia un'efficacia abbastanza importante in quei quartieri di BNP che erano fino ai 5.000 per cui dei pazienti probabilmente non troppo compromessi anche perché nei vari studi effettivamente la classe quarta non era presente in un'analisi successiva vediamo come forse i valori di BNP potevano arrivare anche gli 8.000 ed era assolutamente efficace questo farmaco anche nei pazienti con meno di 8.000 di BNP se spalmiamo tutto questo nella frazione di eiezione dei pazienti che erano stati trattati vediamo come non ci sia una differenza sulla frazione di eiezione di partenza di questi pazienti per cui il farmaco comunque era efficace guardando la curva andiamo a vedere che la significatività e quindi la maggiore efficacia ce l'abbiamo su quei quartili inferiori al 24% quindi più il paziente ha una disfunzione ventricolare più questo comunque beneficia dall'inserimento del farmaco una cosa importante è che vi è una riduzione dei volumi cardiaci una riduzione dei volumi cardiaci e vedete come i volumi cardiaci siano decisamente correlati a degli Atkins favorevoli a un aumento della mortalità e a un aumento delle ospedalizzazioni quindi una delle motivazioni probabilmente è perché per varie motivazioni riduzione della pressione idrostatica riduzione della contrariettività miocardica riduzione della fibrosi questi pazienti comunque vanno a migliorare anche le volumetrie questa era una provocazione che due anni fa faceva pische in una delle relazioni che ho avuto il piacere di sentire cioè che noi siamo nella curva più alta cioè andiamo a trattare i pazienti che hanno un peggioramento quindi una ricutilizzazione dello scompenso andando comunque a guadagnarci qualcosa dal punto di vista di quelle che sono ospedalizzazioni e morte in realtà forse andando a trattare i pazienti più precocemente avremo un guadagno decisamente più importante nella riduzione di questi effetti nei pazienti e questo ovviamente è quello che sta studiando lo studio Victor attualmente nei pazienti in cui questo trattamento viene inserito in maniera più precoce andiamo a vedere poi quello che è ovviamente la sicurezza del trattamento e vediamo come gli spauracchi perché poi nel bugiardino voi vedete attenzione alle ipotensioni in realtà non c'è una differenza significativa sulle ipotensioni in questi due gruppi di pazienti men che meno nella sincope addirittura possiamo dire che la funzione renale rimane assolutamente neutra e non ci sono movimenti dal punto di vista degli elettroliti se andiamo nuovamente a spalmare tutti questi effetti collaterali a livello delle varie frazioni di aiezioni possiamo vedere come a prescindere frazioni di aiezione gli effetti collaterali siano assolutamente non presenti questa diapositiva vi farà vedere che non c'è una lotta tra una molecola piuttosto che l'altra queste sono tutte molecole aggiuntive sono tutte molecole che noi dobbiamo inserire nel paziente vedete che man mano che inseriamo una molecola andiamo a ridurre quello che è il rischio assoluto di morti e ospedalizzazioni in questi pazienti quindi bisogna sempre fare un ragionamento a 160 gradi e capire che forse come vi farò vedere dopo l'inserimento di uno agevola anche l'inserimento degli altri farmaci tant'è che dopo tutto questo preambolo comunque le linee guida ci dicono che il vericicolo è inserito in classe 2b con livello di evidenza b e può essere utilizzato in questi pazienti questo era il trial poi nella vita reale e di questo sarò contento se qualcuno di voi ha esperienza per poter chiacchierare su quello che sono le evidenze da parte vostra ci sono tanti gruppi italiani il gruppo di Napoli il gruppo della Puglia Roma che hanno fatto dei lavori questo è un lavoro del gruppo di Bologna che ha fatto vedere che probabilmente il 20 watt non ha solo un effetto dal punto di vista cardiaco anche perché quello che vi ho detto prima è che ci spostiamo su farmaci che abbiano un effetto a livello sistemico d'altronde il GMP è presente ovunque nel nostro organismo qui si è visto come un indice che è decisamente correlato a quella che è un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente della funzionale cardiaca che è quello l'indice di resistenza dell'arteria renale si ha un indice che viene ridotto in 60 giorni dall'inserimento in terapia del veliciguat per cui riducendo quello verosimilmente si aiuta la funzionalità renale e si aiuta in generale l'organismo a migliorare la sua condizione questo è un altro abstract fatto vedere se non sbaglio all'American Art dove vediamo che è stata utilizzata la molecola nei pazienti con insufficienza cardiaca avanzata vedete come non ci sono differenze tra i pazienti che avevano più di 30 di filtrato e meno di 30 di filtrato vedete come i miglioramenti sono evidenti sia dal punto di vista della frazione di aiezione sia dal punto di vista della frazione di accorciamento che dal punto di vista dei volumi in i diastolici indicizzati io sono un grande appassionato di fisiopatologia polmonare cardiaca per cui ci sono tutti quei lavori con cateterismi destri e è stato bello vedere questo piccolo lavoro con alcuni pazienti che ha evidenziato come ci fosse nei pazienti che prendevano la terapia una riduzione di quella che è la pressione di incuniamento polmonare e quindi rende ragione sia di una riduzione della pressione polmonare che di una riduzione da parte della volumetria delle sezioni sinistre senza andare a intaccare quello che è l'indice cardiaco e quindi la funzione sistolica del nostro cuore e soprattutto vedete che non sono interessate le resistenze periferiche né le resistenze polmonari nonostante il vericiguato derivi da molecole come il riociguato che sono state studiate nell'ipertensione polmonare altro lavoro sempre di questo tipo ci evidenzia come importante sia l'effetto a livello del cuore destro con una riduzione del disaccoppiamento ventricolo destro pressione polmonare dove abbiamo un miglioramento importante di quella che è l'indice TAPS e PAPS quindi veramente importante per quello che è poi il risvolto clinico dal punto di vista della dispnea e della torrenza dello sforzo dei pazienti con compenso cardiaco e questo era a prescindere dal fatto che i pazienti avesse o non avesse la quadruplice terapia tornando alla questione sistemica questo è un lavoro abbastanza vecchio ormai quelli del 2020 diventano lavori vecchi in quest'ambito e dove era valutato i valori di acido urico e i valori di proteina C reattiva ultrasensibile vedete come l'inserimento di questo farmaco rende conto della riduzione di quelli che sono degli indici di infiammazione del nostro organismo per cui probabilmente oltre all'effetto cardiaco c'è un effetto sistemico di questo farmaco che rende ragione di quelli che saranno poi eventualmente nuovi lavori successivi che ci faranno vedere che magari avranno utilità in qualsivoglia altra patologia il problema qual è? è che molte volte ci si sente dire che il paziente internistico è troppo complicato per doverci inserire dei nuovi farmaci effettivamente questa è la media del nostro paziente che ha di tutto e di più e soprattutto nel momento in cui andiamo a scontrarci con quella che è la funzionalità renale vedete come le sicurezze in quello che funziona e quello che non funziona sono decisamente poche se andiamo a guardare degli autoconimpattanti come la morte o l'ospedalizzazione è per questo che vi ho portato i dati di questo Veritas Study che è un registro tedesco è uscito il 18 di agosto per cui ho avuto la possibilità di farvelo vedere perché è molto interessante perché i pazienti messi in questo registro erano i nostri tipici pazienti vedete come hanno tantissima vpco diabete insufficienza renale fibrillazione atriale sono ischemici sono valvolari sono un po' di tutto un po' dei nostri pazienti vedete soprattutto che la maggior parte stanno nelle classinia 2 e 3 cosa importante un dato che poi vi prenderò nuovamente in considerazione è il fatto che questi pazienti avevano ovviamente un numero di ospedalizzazioni o visite per peggioramento che era di 1 e 9 con una differenza standard di 1 e 3 che vi farò rivedere successivamente questi sono sempre quei dati ah l'importante è che questi pazienti erano veramente in quadrupice terapia mentre nello studio Victoria possiamo dire che era il periodo in cui le glifosine stavano salendo in auce per cui la percentuale di glifosine in quei pazienti non era altissima in questo caso le glifosine sono quasi al sono il 96% di pazienti che prendono le glifosine per cui è veramente probante vedere poi l'effetto di questo farmaco in questi pazienti e cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che in un follow up di più di 6 mesi la media eravamo quasi sui 10 sui 10 mesi vedete come abbiamo un miglioramento della classenia in questi pazienti passiamo da un 67% in classenia terza a un 22% in classenia terza addirittura dopo 6 mesi compaiono anche i pazienti in classenia 1 devo spoilerarvi una cosa è solo un paziente è quello quindi date il beneficio del dubbio a quella classenia 1 dal punto di vista invece dei farmaci associati ecco vi faccio vedere che inserire il vericicolato in questi pazienti faceva sì che i pazienti con sacubito e vasartan potessero aumentare il dosaggio quindi andare a titolazione di questo farmaco cosa molto molto importante dal punto di vista anche dell'effetto del farmaco altra cosa per cui il consiglio spassionato è sempre quello di valutare i pazienti nell'arco dei primi due mesi in maniera abbastanza sistematica è che questi pazienti poi vanno incontro a una riduzione del fabbisogno di furosemide questa è una cosa ottima perché evitiamo di dare queste botte di diuretico ai pazienti e fare in modo che la funzione renale tenda comunque a conservarsi dal punto di vista della qualità della vita anche qui vi dico che dopo sei mesi abbiamo pazienti che avevano una qualità di vita una qualità di sintomi decisamente migliorata risultato è che passiamo da quell'1,9 di eventi di ospedalizzazione e bisogno di visita a un numero che va allo 0,79 quindi abbastanza significativo questi pazienti monitorati poi hanno avuto solo il 38% la necessità di avere un'ospedalizzazione piuttosto che l'utilizzo di diuretico in vena con una mortalità decisamente ridotta non era quello il significato di questo studio in conclusione chi beneficia del delici guatt i pazienti con frazione di deiezione inferiore al 45% i pazienti stabili e attualmente dopo un peggioramento dello scompenso cardiaco emodinamicamente stabili mi raccomando questo assolutamente non devono avere una ipotensione sintomatica la funzione renale deve essere almeno di 15 ml minuto e il BNP non dovrebbe essere superiore agli 8000 ovviamente capite bene che qui c'è un limite per noi esiste paziente con 10.000 di BNP ed è un tipo di paziente esiste un altro paziente con 10.000 di BNP ed è un altro di BNP questa non può essere un'indicazione a dire quel paziente sì e quel paziente no ma la valutazione deve essere sempre a 360 gradi provocazione è il paziente complesso della medicina probabilmente abbiamo quelli che non possono fare arni per una questione di pressione per una questione di funzione renale quelli che non possono fare glifozine sembra strano anche perché verosimente sono veramente pochi ma in realtà ne abbiamo pazienti con catetere vesicale con ureterostomie con altre motivazioni per cui effettivamente non potranno fare la glifozina quelli che non possono fare betabloccante perché partono da 45 di frequenza cardiaca quelli che non possono fare il potassio perché nonostante i binding rimangono sempre a valori alti vi dico di recente ho trovato un paziente con un 6 e mezzo di potassio l'unica sua colpa è che l'estate di mangiare le pesche mangiava un chilo e mezzo di pesche al giorno io non mi spiegavo perché fosse rimasto stabile per quasi un anno e poi un certo punto che era partito alla fine ha ammesso che mangiava veramente tante di quelle pesche perché la banante gliele sbucciava e allora è quasi morto di iperpotassemia per un suo vizio in conclusione quello che noi vogliamo dire è che per utilizzare questi nuovi farmaci è importante la medicina di precisione cioè quella medicina che tenga in conto veramente tutte le caratteristiche del paziente e cercare di dare a ogni paziente quelli che sono i farmaci qualche volta concedetemelo cercando di dare la terapia a quel paziente prima che ritorni per l'ennesima volta in ospedale per una riacutizzazione perché ogni riacutizzazione come capitana BPCO potrebbe essere la prima potrebbe essere anche ultima per i nostri pazienti e con questo ho concluso grazie a tutti chiamiamo il dottor Montagnani oltre che essere direttore della medicina interna di Grossetto e oltre ad essere un carissimo amico tra poco più di un anno sarà quello che ci rappresenterà in termini di Fadoi perché sarà il nostro nuovo presidente Fadoi grazie Paola grazie moderatrice io inizio ringraziando il dottor Pomero dell'invito e questo l'hanno fatto tutti lo faccio con il cuore grazie della modifica del programma facendo congressi so che non è facile però ha facilitato impegni personali e mi scuso con tutti voi per abusare della vostra pazienza e vado dritto al dunque allora l'argomento certamente come dire ha assunto una vivacità negli ultimi anni grazie all'introduzione di nuove molecole che cerchiamo un attimino affrontare anche abbastanza rapidamente quindi del tutto in maniera così inefficace ma è giusto parlarne ma perché la ricerca ha continuato come dire a produrre evidenze perché si tratta di di un argomento impattante a livello mondiale a livello della popolazione mondiale la malattia cardiovascolare la terosclerotica sicuramente è il fattore o anzi è il motivo di mortalità più importante già adesso e lo sarà sicuramente nel prossimo futuro e perché questo legame tra i lipidi e la malattia cardiovascolare è sempre più solido anzi direi fra l'LDL e non solo quella ma ora parliamo di quella e la malattia cardiovascolare è evidenziata da veramente una mole di lavori per cui non possiamo cioè ci viene spontaneo pensarlo però quando lo pensiamo dobbiamo pensare anche a questo che questo diciamo è un concetto che man mano si sta sviluppando cioè quello di intervenire prima perché il beneficio che ho in questo tipo di paziente è certamente maggiore se io intervengo prima piuttosto che dopo e quindi lo slogan the soon the better che poi vedremo fa un altro slogan e però devo intervenire cercando quali target per cui il target è un elemento che mi fa scegliere il tipo di terapia e vedremo poi come il target è legato al livello di rischio cardiovascolare che le linee guida ci hanno evidenziato bene già nel 2019 e continuiamo come dire a cercare di definirlo sempre meglio la storia ci ha portato già dagli anni fine anni 90 le statine abbiamo visto come la statina del futuro è la glifozina ma come dire è un benchmark vuol dire che la statina ci ha aiutato moltissimo e abbiamo diverse molecole di statine forse in un utilizzo comune utilizziamo più due tre quattro molecole ma ce ne sono tante altre però anche le statine hanno dei limiti l'intolleranza alle statine che sia una intolleranza reale cioè con un aumento del cpk che sia una sintomatica che basta comunque è un limite alle statine stesse l'efficacia delle statine come già aveva fatto vedere mio amico Flavio per altre molecole c'è un rischio residuo che rimane e quindi è chiaro che la ricerca va a trovare qualche rimedio nell'abbassare questo rischio residuo e quindi qui intervenire prima e poi the lower the better cioè e questo già avevamo il concetto l'LDL più basso è meglio è e quindi quali sono le novità questo è tutta una timeline di dagli anni 90 alle statine fino agli ultimi studi che riguardano le due tre classi ma ce ne sono tante altre che arriveranno e che andremo a vedere questo panel riassume rapidamente diciamo ne parleremo prevalentemente dell'acido benpedoico e le molecole vanno a intervenire con il PCS K9 quindi l'acido benpedoico tra l'altro va a interferire con la stessa linea produttiva o dove situazione delle statine anzi un livello superiore tende innanzitutto è un profarmaco quindi deve essere attivato non ha un'affinità per il tessuto muscolare e va a interferire a inibire l'enzima TPA citrato gli asi e quindi blocca la sintesi del colesterolo come lo bloccava le statine a un livello diverso uscito i studi questa è una pubblicazione in New England che porta questi dati diciamo il programma CLEAR e questi sono i risultati sul diciamo il MACE forcia che prende in considerazione quattro elementi cardiovascolari comunque ha una riduzione del rischio assoluto all'1,6% rispetto a una ovviamente a una terapia ottimale definita come placebo in pazienti altamente cioè con rischio attivascolare elevato o molto elevato e questo è un sottogruppo dello stesso studio che prende 4.000 pazienti che non hanno avuto un evento ma sono altissimo rischio e quindi una prevenzione primaria anche si vede che c'è una riduzione del 30% stessa pubblicazione qui a destra al pane è considerato lo stesso risultato con una riduzione del 30-36% se si considera soltanto il MES3 cioè togliamo la parte della rivascolizzazione coronaria altro dato presentato lo scorso anno a ESC in cui vedeva che nei pazienti più gravi l'introduzione dell'aceo benpedoico dava risultati migliori e ancora meglio è se l'aceo benpedoico viene associato e questo lo vediamo dall'ultima colonna con le zetimibe proprio perché avendo meccanismi di azione questo un po' è come dire il meccanismo è il ragionamento che si fa anche associando le zetimibe alle statine danno una complementarietà di effetto effetto laterale dell'aceo benpedoico quello più noto è sull'aumento dell'acido urico nel programma clear non ci sono stati drop out significativi per iperleucemia nemmeno per gotta quindi però è un come dire un piccolo pensiero che il clinico deve avere prima di introdurre il paziente acido benpedoico comunque tenendo ben presente che negli studi registrativi questo elemento non ha dato problemi significativi così come la collelitiasi ha una maggiore incidenza nei pazienti trattati acido benpedoico ma senza creare problemi eventi avversi seri quindi questo è come dire un suggerimento di come introdurre il paziente acido benpedoico ovviamente non ci sono necessità di aggiustamento per paziente insufficienza renale insufficienza epatica bisogna monitorare l'acido urico prima e quindi poi soprattutto dopo e poi introdurre il farmaco insieme alle statine oppure con altri farmaci poi vedremo le linee di scelta andiamo ai farmaci che interferiscono con il PCS K9 e sono quelli che sia possono bloccare con gli anticorpi antimonoclonali sia quelli che possono interferire proprio con la produzione del PCS K9 ovviamente il PCS K9 è un elemento importante per la degradazione del recettore LDL quindi inibendo il PCS K9 aumento i recettori e aumento la clearance dell'LDL da parte del fegato questo è il programma Proficio che ha studiato uno dei due anticorpi monoclonali contro il PCS K9 e questo è il programma dell'Alirocomab scusate che è l'Odist Program quindi vediamo che sono tanti gli studi prevalentemente in pazienti a altissimo rischio cardiovascolare e soprattutto in popolazioni affette da ipercolestromia tipo familiare cioè quelli che non rispondono o hanno rispondono alle statine o rispondono poco o che hanno bisogno di arrivare a livelli di LDL molto bassi a sinistra l'Evolocomab mentre a destra l'Alirocomab e vediamo la capacità di ridurre l'LDL del 60% in questo tipo di popolazione che porta poi all'outcome cardiovascolare con una riduzione del primo e del secondo significativa di circa il 20-25% per entrambi qual è l'avvento avverso di questi tipi di farmaci è il sito di iniezione sottocutaneo che può avere è un evento non frequente anzi direi piuttosto raro ma da tenere presente questa è la posologia a modalità di somministrazione che hanno ma insomma per brevità la mostro ma non la spiego l'inclisiran invece è una molecola che all'interno della cellula epatica va a interferire proprio con la produzione del PCSK9 quindi non abbiamo la produzione del PCSK9 e quindi abbiamo un effetto come l'altra molecola che blocca in questo caso proprio non avendo una una clearance dell'LDL recettore avrò un aumento della clearance invece del colesterolo questo il programma di studio dell'Orient e del Victorian Program anche queste le popolazioni sono le stesse quindi vediamo sulla destra la riduzione del 52 o del 49% nei vari studi americani o europei comunque un'efficacia importante che questo studio pubblicato su Lancet mostra come l'effetto nei primi 200 giorni viene mantenuto poi successivamente a 1440 giorni quindi un effetto importante all'inizio che viene mantenuto dalla somministrazione continua del farmaco in questo caso come anche gli altri la dimostrazione della riduzione degli eventi ovviamente è l'art point fondamentale e anche qui si ha una riduzione del 25% in questo tipo di pazienti anche qui c'è uno schema terapeutico in cui si ha una prima dose iniziale e a tre mesi una seconda dose e poi il dosaggio passa a intervalli semestrali certamente sono molecole a alto costo che l'AIFA come dire gestisce con i piani terapeutici limitandoli a determinate categorie che sono soprattutto pazienti altissimo rischio alto altissimo rischio pazienti in prevenzione primaria se hanno delle caratteristiche come l'ipercolse ormila familiare terrozigote o hanno valori di LDL particolarmente elevati e non rispondenti a terapie di prima seconda linea o in prevenzione secondaria è interessante ricordare il fast track del post ischemia miocardica comunque abbiamo diverse arme questo un cartuch che fa vedere come posso modulare l'introduzione anche dei diversi molecole statine azetimibe l'acido vempedoico e l'inibitore del PCSK9 fino a raggiungere anche efficacia del 70 80 85% e questo è importante qui illustravo più o meno tre modalità di approccio cioè la step by step quindi introduco i farmaci sempre più efficaci in sequenza però se io ho pazienti importanti e quindi devo avere un'efficacia sopra il 50 60% ovviamente devo o posso comunque iniziare già con un secondo livello saltando il primo e questo è anche un altro suggerimento dell'international lipid expert panel pubblicato recentemente che divide ovviamente le popolazioni chi ha una ipercostromina familiare ovviamente è resistente alla terapia e quindi posso iniziare con una terapia di combinazione prima di altri così che è in prevenzione secondaria e soprattutto chi è intollerante alle statine ovviamente avrò la possibilità di prescrizione di questo tipo di farmaci quindi molte armi dico soluzioni ho risolto tutto beh i dati epidemiologici ci fanno vedere che chi fa questi farmaci diciamo non risponde sempre e non ha una compliance così soddisfacente in uno studio da Vinci vediamo che solo tutti i pazienti tutta la proporzione che fanno questo tipo di farmaco solo il 33% raggiunge l'obiettivo prefissato che determina il vantaggio sull'art point ma quelli che stanno anche cioè che sono ancora più a rischio quindi quelli che hanno già avuto l'evento solo il 18% e questo certamente non è colpa dei farmaci perché probabilmente è proprio la compliance o il fare o non fare il farmaco che come dire può determinare questo questo problema questo è un bellissimo panel pubblicato sul New England che fa vedere quante altre cose sono in ballo perché noi abbiamo parlato solo di questa colonnina qui e ci sono altri fattori da preconciazioni dell'EPA piccolo i trigliceridi la questione di tutte le molecole antinfiammatorie la colpicina è già venuta fuori anche dall'ultimo ESC insomma ci sono studi importanti certamente ci sarà anche un approccio futuro con vaccinazione e come dire modifica genetica proprio che possono aiutarci ma questo veramente sarà il futuro e forse come dire ne riparleremo nel 2025 2026 se dottor Pomero con la pazienza mi invita è un posto veramente meraviglioso sia all'ospedale che il contesto quindi ringrazio tutti e mi scuso veramente della vostra di aver abusato di voi e introduco il dottor Stefano Mercandelli che è il coordinatore infecteristico presso la struttura complessa di medicina interna dell'ospedale di Biella ed è il delegato animo di Piemonte e Valle d'Aosta lo rivedrete ovviamente lo rivedrete noi al nostro convegno regionale del prossimo 18 ottobre qui c'è questo prego grazie Gian Lorenzo grazie al dottor Pomero per l'invito ringrazio e credo sia importante la presenza anche infermieristica in questo convegno in una data importante come quella di oggi oggi è il trentennale dell'emanazione del profilo professionale degli infermieri quindi è un orgoglio essere qua come infermiere come animo porto i ringraziamenti e i saluti della presidente nazionale la dottoressa Tesei che non è potuta essere presente e ringrazio ancora il dottor Pomero i complimenti per l'organizzazione oggi vi parlo dello screening nutrizionale in medicina interna per quanto riguarda la malnutrizione e la sarcopenia non ho conflitti di interessi e vorrei iniziare questa relazione un po' riflettendo sulle caratteristiche che i pazienti internistici portano con sé i pazienti afferenti alle nostre unità operative sono solitamente anziani o grandi anziani sono pazienti pluripatologici affetti da patologie acute e croniche sottoposti a polifarmacoterapia e non di rado portano con sé problematiche di natura sociale quindi queste caratteristiche fanno del paziente internistico un paziente di per sé fragile senza contare che appunto durante il ricovero nelle nostre degenze sono affetti da una malattia a fase acuta e durante il ricovero ma anche nella loro quotidianità hanno una ridotta funzione cognitiva una vita tendenzialmente sedentaria se non non sono allettati problematiche deglutitorie masticatorie in generale dipendenza nell'attività di vita quotidiana e quindi una dipendenza nell'alimentazione nella detersione cura del cavorale come se non bastasse appunto l'ospedale che dovrebbe essere il luogo di permanenze brevi proprio per le caratteristiche del paziente internistico questo si trova a essere sottoposto ad agenze prolungate quindi con un cambio di contesto e un cambio di abitudini alimentari tutta questa serie di cause che vi ho elencato fanno tra le altre cose aumentare il rischio di di presentare o peggiorare una condizione di malnutrizione cosa intendiamo quando parliamo di malnutrizione uno stato di alterazione funzionale strutturale di sviluppo dell'organismo conseguente a una discrepanza ovvero quella tra i fabisogni e gli effettivi introiti e utilizzo dei nutrienti ricordiamoci come sappiamo che la malnutrizione proteico-calorica insieme al deficit di minerali proteini di vitamine è fortemente diffusa nell'anziano specialmente nell'anziano ospedalizzato e istituzionalizzato di che tipo di malnutrizione stiamo parlando stiamo parlando di una malnutrizione malattia correlata a infiammazione quindi una malnutrizione più grave più severa ha un'evoluzione molto più rapida e risponde meno agli interventi nutrizionali senza contare il fatto che i nostri degenti non di rado sono soventemente sottoposti a restrizioni dietetiche se non digiuni in virtù delle condizioni cliniche in virtù di esami diagnostici o eventuali interventi chirurgici tutta questa serie di cause le più disparate patologie correlate età correlate o sociale ambientale psicologiche fanno sì che questo problema riguardi dal 30 al 50% delle persone ospedalizzate che presentano una condizione di malnutrizione a diversi livelli potete possiamo immaginare come questa condizione di malnutrizione abbia delle ripercussioni negative sui nostri degenti appunto per quanto riguarda sia la condizione clinica il ritardo nella guarigione ma anche la possibilità di sviluppare eventi avversi ma anche a livello organizzativo con un maggior numero di ospedalizzazioni aumento delle giornate di degenza e in generale aumento dei costi sanitari per la gestione di questi malati per dare un'idea del problema appunto su 10 pazienti che ricoveriamo in medicina interna circa 6 li dimettiamo in una condizione di malnutrizione a vari livelli sempre andando un po' indagare scopriamo che di questi 10 almeno 3 erano in una condizione di malnutrizione pre ricovero e 3 erano in una condizione di rischio di malnutrizione questi pazienti o non sono stati intercettati o non sono stati non è stata presa a sufficienza in carico il problema della malnutrizione infatti teniamo a mente che ancora ad oggi nonostante tutte le evidenze e tutto quello che abbiamo quello che sappiamo ancora ad oggi i nostri pazienti che vengono istituzionalizzati o ospedalizzati rischiano di sviluppare una condizione di malnutrizione o appunto di peggiorarla capite come sia fondamentale per questi pazienti l'individuazione precoce appunto attraverso uno screening proprio perché vengono individuati i pazienti a rischio e vengono successivamente indirizzati verso una diagnostica più approfondita e un eventuale appunto supporto nutrizionale che cos'è lo screening nutrizionale non è altro che un semplice e rapido una semplice rapida serie di test che ha l'obiettivo appunto di individuare scremare questo genere di pazienti appunto è una serie di test di rapida e semplice esecuzione da eseguire preferibilmente nelle prime 24-48 ore dal contatto col paziente e ha l'obiettivo di rilevare condizioni già insite nel paziente di malnutrizione individuare i pazienti a rischio di sviluppare una condizione di malnutrizione in modo tale da avviare precocemente una valutazione dello stato nutrizionale più approfondita e appunto avviare un protocollo di trattamento adeguato ricordiamo che importanti linee guida raccomandano come livello di raccomandazione forte l'esecuzione del test di screening nutrizionale a chi dobbiamo farlo questo screening nutrizionale essenzialmente a tutti i nostri ricoverati dato appunto la semplicità e la rapidità dell'esecuzione in particolare ci sono delle fasce a rischio che la letteratura ci sottolinea che però che tuttavia rappresentano una gran parte dei nostri ricoverati quindi pazienti oncologici pazienti anziani quindi superiori ai 70 anni pazienti obesi o cacchettici pazienti allettati e pazienti per la quale si prevede un insufficiente introito alimentare per più di 5 giorni in virtù delle condizioni cliniche in virtù del percorso diagnostico-terapeutico quindi vedete come la gran parte dei nostri ricoverati si colloca in queste categorie lo screening è ovviamente un primo gradino di una scala ben più ampia però è un primo passo obbligato appunto per rilevare pazienti a rischio di malnutrizione o pazienti malnutriti è un momento fondamentale dell'iter diagnostico-terapeutico che non dovrebbe essere assolutamente trascurato anzi dovrebbe essere condotto in maniera approfondita e attenta come possiamo fare questo screening abbiamo numerosi strumenti a disposizione dai dati anamnestici alle valutazioni cliniche ai questionari adesso andiamo un po' a vedere che possibilità abbiamo per fare questo screening inizia tutto da tre semplici strumenti che credo che ogni medicina interna abbia in dotazione una pesa un altimetro un metronastro e il primo passo per la valutazione per lo screening nutrizionale è il calcolo del BMI come tutti sappiamo un dato importante è un dato che ci dà un'idea dello stato nutrizionale del paziente ma un dato che non basta infatti è importante che nelle anamnesi dei nostri pazienti siano previste domande specifiche domande mirate sulle abitudini alimentari ma soprattutto sulla perdita di peso involontaria negli ultimi mesi la letteratura ci dice come il calo ponderale involontario sia uno dei principali parametri clinici per la valutazione della malnutrizione per difetto quindi anche un'anamnesi mirata che preveda questo tipo di domande è fondamentale per i pazienti che non riescono a reggersi in posizione retta quindi non riescono ad essere pesati con una semplice bilancia o rilevata all'altezza in posizione retta abbiamo delle strumentazioni che anche qui credo che ogni medicina sia dotata il sollevatore dotato di pesa per i pazienti allettati non in grado di mantenere la posizione retta e il metronastro per la misurazione dell'altezza da sdraiato ricordandoci che c'è una minima reazione da in piedi e sdraiato ancora per i pazienti che proprio non possono essere mobilizzati dal letto mi vengono in mente i pazienti con problematiche ortopediche pazienti con problematiche del rachide abbiamo un'altra misura che ci può aiutare nella stima del BMI è la MUAC la Mind Upper Arm Circonference che non è altro che la circonferenza del braccio la letteratura ci dice come sia una misurazione importante e un preditore importante che cos'è questa MUAC non è altro che la misurazione media del braccio che se inferiore ai 23 cm probabilmente il BMI sarà inferiore ai 20 cm mentre con una circonferenza superiore ai 32 cm probabilmente il BMI sarà superiore ai 30 cm quindi abbiamo le più svariate possibilità e strumenti per questo screening nutrizionale ma la malnutrizione non è l'unico elemento che andiamo a monitorare e valutare nei nostri degenti infatti vediamo come questa serie di condizioni intercorrelate fra di loro sia molto presente nei nostri ricoverati la malnutrizione fino al 50% ma anche la sarcopenia fortemente correlata alla malnutrizione ma per ultimo ma non per importanza anche la disfagia anch'essa correlata al rischio di sviluppare una malnutrizione la disfagia arriva fino all'82% dei pazienti istituzionalizzati o ricoverati quindi l'entità del problema è grosso cosa intendiamo quando parliamo di sarcopenia brevemente appunto sarcopenia dal greco povertà di carne povertà di muscolo è proprio la perdita di masse di funzione muscolare che si ha con l'avanzare dell'età un termine cognato alla fine degli anni 80 per indicare appunto questa perdita con l'avanzare dell'età ma non solo la sarcopenia è fortemente correlata alla mancanza di esercizio fisico pensiamo alla sedentarietà dei nostri ricoverati ma anche con la malnutrizione quindi è importante valutare e rilevare questa condizione proprio perché presenta importanti comorbilità con patologie cardiovascolari deterioramento cognitivo fino alla demenza una delle più autorevole definizioni di sarcopenia la definisce come una sindrome clinica caratterizzata dalla progressiva e generalizzata perdita di massa muscolare scheletrica e anche di funzionalità muscolare associata a un elevato rischio di eventi avversi come lo sviluppo di disabilità fisica il deterioramento cognitivo e in generale il peggioramento della qualità di vita per fare screening di sarcopenia dobbiamo rilevare la copresenza di tre fattori principali la ridotta massa muscolare come vedete nell'immagine che si può valutare attraverso esami specifici la ridotta forza muscolare e la ridotta funzionalità muscolare o prestazione fisica occhio non facciamoci ingannare dall'aspetto del paziente a un primo impatto una valutazione clinica superficiale nell'immaginario collettivo il paziente sarcopenico potrebbe essere immaginato come un paziente cacchettico molto magro invece negli ultimi anni si è sempre più fatta strada la definizione di obesità sarcopenica quindi non facciamoci ingannare da una valutazione clinica superficiale in egual misura anche la malnutrizione sappiamo come si possa verificare in tutte le estremità dello spettro del BMI e anzi è molto meno evidente nei pazienti obesi quindi appunto servono approfondimenti e valutazioni specialistiche ritornando al discorso di screening allora mi sento di raccomandare lo screening di queste tre condizioni cliniche abbiamo numerosi strumenti a disposizione per orientare il nostro agire professionale la sarcopenia ovviamente tutto parte dalla valutazione clinica ma abbiamo anche scale come la SARC F o test specifici che vanno a misurare specifici aspetti della sarcopenia la SARC F è una scala validata un questionario validato il SARC F è l'acronimo delle voci che la scala va a monitorare la forza muscolare il cammino l'abilità dell'alzarsi della sedia salire le scale le cadute nell'ultimo anno compilando questa scala abbiamo un punteggio predittivo meno della condizione di sarcopenia mentre invece abbiamo dei test specifici che vanno a monitorare condizioni aspetti specifici della sarcopenia per esempio la ridotta forza muscolare che si può misurare tramite l'end grip test una misurazione della forza della presa attraverso un dinamometro portatile calibrato la letteratura ci dice come la forza di presa sia un elemento predittivo per gli outcome del paziente ancora se vogliamo andare a monitorare la forza muscolare del paziente il chair stand test che è un esame molto semplice che può essere condotto da tutti che consiste nel far sedere e alzare il paziente per cinque volte e contare quanti secondi impiega il paziente per compiere questo esercizio se il paziente impiega più di 15 secondi è un valore predittivo di forza muscolare bassa e ancora per esempio ma esistono tanti altri per valutare la prestazione fisica il test del cammino che credo che tutti conosciamo se la velocità è inferiore a 08 metri al secondo è considerato un indicatore di bassa performance fisica ovviamente ci tengo a sottolineare che tutti questi sono esami prediagnostici la diagnosi viene poi fatta con percorsi diagnostici specifici ed esami specifici e non trattiamo qui perché parliamo di screening per quanto riguarda la malnutrizione anche qui abbiamo svariati svariati possibilità oltre ovviamente a una valutazione clinica approfondita abbiamo delle scale validate questi strumenti validati cosa utilizzano? non utilizzano altro che associazioni standardizzate di indicatori di malnutrizione essenzialmente il BMI il calo ponderale e l'intecca alimentare e sono in grado di formulare un punteggio valutativo per il rischio di malnutrizione le scale principali che oggi voglio presentarvi sono la malnutrition universal screening tool la MAST che appunto prende in considerazione il BMI il calo ponderale e gli intake alimentari ancora la MST la malnutrition screening tool anche questa con le medesime voci prende in considerazione appunto i medesimi aspetti e fornisce un punteggio che indica il rischio di malnutrizione la mini nutritional assessment short form che è un po' più approfondita ma anch'essa fornisce un punteggio che ci indica il rischio di malnutrizione e poi la più conosciuta forse la più diffusa fra le nostre unità operativa la NRS 2000 2002 che attraverso la presa in considerazione del BMI degli introiti alimentari e della condizione patologica del paziente dà un punteggio di rischio di malnutrizione riassumendo appunto l'importante è eseguire questo screening la letteratura non ci dice quale strumento è più idoneo rispetto ad altri la letteratura ci dice l'importanza di eseguire e ripetere in maniera sistematica questo tipo di screening in fine ma non per importanza appunto lo screening per la disfagia che tutti sappiamo si esegue attraverso il test del bolo d'acqua ma appunto non è banale eseguirlo a tappeto su tutti i nostri ricoverati in modo tale da pianificare un percorso nutrizionale adeguato anche per questi pazienti vi faccio una domanda i pazienti individuati attraverso lo screening cosa ne facciamo di questi pazienti ovviamente come dicevo prima lo screening è solo un primo passo di un percorso nutrizionale deve seguire assolutamente una valutazione nutrizionale approfondita specialistica con la definizione di un piano nutrizionale il monitoraggio degli introiti e un adeguamento del piano di trattamento ovviamente tutto ciò non può prescindere dall'educazione del paziente e della famiglia attraverso il counseling nutrizionale e dei follow up lo screening è un primo passo che porterà una diagnosi porterà in realtà una valutazione più approfondita una valutazione specialistica e poi a una diagnosi anche qui importanti linee guida ci sottolineano come sia importante in pazienti con screening nutrizionale anormale pianificare un assessment nutrizionale questo è un po' il percorso nutrizionale corretto che dovrebbero compiere i nostri degenti all'interno delle nostre unità operative quindi da uno screening a un assessment e monitoraggio fino al trattamento in realtà no monitoraggio si è spaginato scusate concludendo il messaggio che vorrei passare oggi appunto è l'importanza dell'esecuzione dello screening nutrizionale soprattutto nei nostri ricoverati per le caratteristiche che portano con loro ricordarvi che la malnutrizione può e deve essere identificata precocemente e basta l'utilizzo di semplici strumenti devono essere studiate documentate pratiche per documentare l'introito alimentare dei pazienti a rischio di malnutrizione l'alimentazione per os per bocca deve essere sempre la scelta primaria per correggere questo stato e il supporto nutrizionale artificiale deve essere solo avviato quando siamo sicuri e certi che la nutrizione per os non è più sufficiente ovviamente l'educazione al paziente è un aspetto al paziente o al caregiver è un aspetto fondamentale l'aspetto nutrizionale appunto dei nostri pazienti internistici è un aspetto fondamentale da prendere in considerazione da prendere in carico non a livello di singolo specialista ma a livello di team multiprofessionale e multidisciplinare è una parte di una visione strategica del percorso di salute all'interno di un'attività clinico-assistenziale di qualità e vi ringrazio per l'attenzione a tutto punto invito la dottoressa Dallacosta ponendole la domanda che non vuole essere provocatoria ma è proprio vero che la nutrizione parenterale deve essere impostata come ultima razio oppure quali sono i criteri di utilizzo in medicina interna andiamo a vedere spero alla fine di dare una risposta poi magari mi rifà delle domande ma spero di dare una risposta a questo allora appositamente ho fatto una slide di congiunzione con la relazione precedente sapevo che si sarebbe parlato di screening della malnutrizione a livello europeo la nostra società emetterà dei nuovi dati a novembre in cui si conferma il 30% non di rischio di malnutrizione ma di diagnosi di malnutrizione all'ingresso dei reparti di medicina interna ecco in questo ambito in cui sempre maggiore la competenza del comparto e penso che proprio i relatori che mi hanno preceduto l'hanno manifestato anche in termini di percorsi non sempre questo corrisponde ha un altrettanto aumento di competenza da parte invece dei medici perché perché siamo comunque in un sistema sanitario forse uno dei migliori del mondo in cui si parla tanto di diritto al cibo tanto di diritto alla salute ma ancora troppo poco si parla di diritto alle cure di accesso alle cure nutrizionali questo è sì un problema delle singole istituzioni siamo qua penso che appunto se ne sta tanto parlando ma banalmente a medicina nessuno insegna nutrizione ancora oggi nel 2024 si finisce medicina guardo ovviamente tutti voi ma corsi definiti per i medici non ci sono i posti per gli specializzanti sono troppo pochi e questo chiaramente causa poche competenze che tra l'altro molti volenterosi poi si creano nel loro corso di studio ma assolutamente poi insufficienti a creare dei team di persone dedicate comunque con competenze superiori detto questo che sapevo essere un aggancio arrivo appunto al titolo della mia relazione cioè quando occorre iniziare una nutrizione parenterale allora e per sviluppare questo argomento ho utilizzato un articolo che è una consensus però della società americana del 2017 leggermente vecchia ma molto importante secondo me nell'iviscerare i punti chiave che devo concludere in meno di 20 minuti a questo punto allora partiamo dalla prima domanda qual è la diagnosi per cui io devo iniziare una nutrizione parenterale nessuna cioè non esiste una diagnosi clinica per cui io debba iniziare una nutrizione parenterale ma sostanzialmente devo sempre valutare la fattibilità di avviare una nutrizione interale perché l'essere umano è fatto per infiniti motivi per essere nutrito attraverso l'apparato gastroenterico sistema ormonale sistema enzimatico microflora intestinale e via dicendo però esistono delle condizioni cliniche e sono molte in cui la nutrizione parenterale è la via comunque ottimale per riuscire a raggiungere i fabbisogni come abbiamo già detto è un'intolleranza ad arrivare non tanto a un volume adeguato ma mi verrebbe più da dire a una quantità energetica che copra i fabbisogni del paziente una controindicazione reale alla nutrizione enterale e una funzionalità intestinale insufficiente andrò abbastanza rapida queste diciamo sono le macro aree in cui è verosimile che noi non riusciamo con l'enterale arrivare i fabbisogni quindi intestini cordi fissola intestinale patologie mucosali che sostanzialmente danno riduzione della capacità di assorbire o comunque perdita di nutrienti ostruzioni meccaniche e disturbi di motilità generalmente comunque caratterizzati dal vomito necessità di riposo gastrico ecco la necessità di riposo gastrico guardate sono sempre meno a parte gli schemi intestinali in fasi acute ad esempio le fasi perioperatorie chirurgiche si stanno quasi azzerando considerate che nella chirurgia maggiore ormai le indicazioni ad esempio dopo un colmo una resezione colica ormai siamo a uno due giorni di digiuno postoperatorio quindi tempi veramente minimi di digiuno postoperatorio rimangono qualche giorno in più proprio per gli interventi di chirurgia addominale alta quindi per intenderci gastroesofagea e sostanzialmente non abbiamo quasi più indicazioni a dei riposi importanti intestinali e come abbiamo già detto prima ovviamente il fallimento della nutrizione interale dire e parlare di insufficienza intestinale non è questo il luogo per farlo ma esistono tante classificazioni qua oggi con voi mi sembrava importante dare qualche idea sulla classificazione legata più alla tempistica perché in un reparto di medicina interna per lo più noi andiamo vediamo delle insufficienze intestinali acute cioè pazienti che hanno una condizione che generalmente si risolve in 14 giorni o che al massimo come la tipo 2 diciamo un'acuta che si prolunga per condizioni di sepsi importante ma in cui immaginiamo che la condizione del paziente la necessità di nutrizione parenterale termini completamente diverso invece la cosiddetto tipo 3 che è la condizione di insufficienza intestinale cronica dove il paziente è stabile e il paziente non sarà più ovviamente ricoverato ma sarà generalmente a casa o comunque se viene ricoverato viene ricoverato per qualche altro motivo e questi sono pazienti di cui appunto non parleremo oggi che saranno a casa e che sono trattati in realtà da centri specialistici in cui la nutrizione parenterale serve anche tutta la vita proprio condizione quad vitam possiamo avere però oltre delle controindicazioni cliniche alla nutrizione enterale possiamo avere delle controindicazioni al posizionare gli accessi perché io posso avere una peritonite posso avere un'ostruzione meccanica posso avere un sanguinamento al tratto gastrointestinale non riesco a posizionare nessun tipo di accesso enterale così come posso avere la controindicazione a posizionare un sondino nasogastrico allora qua non compare l'agitazione che spesso è forse la prima controindicazione a posizionare l'impossibilità a posizionare un sondino nasogastrico anche se adesso esistono delle briglie non so se qualcuno l'ha già viste di voi che fissano passano diciamo dietro le coane nasali e fissano in maniera decisamente più stabile il sondino nasogastrico ma spesso è il primo motivo per cui uno non posiziona un sondino nasogastrico in un paziente posso avere dei traumi ovviamente facciali che mi impediscono il posizionamento in un sondino nasogastrico così come ad esempio le lesioni esofaggee e le varici esofaggee che comunque richiedono un ritardo di posizionamento di almeno 72 ore e poi posso invece non poter mettere una peg in maniera endoscopica in maniera chirurgica perché ho ascite perché sono emodinematicamente stabile perché sono obeso se ho panicoli grandi non riesco a posizionare una peg perché non esistono diciamo anche in commercio dei tubi diciamo adeguati oppure non metto una peg perché penso che il paziente in due tre settimane riprenda ad alimentarsi o comunque raggiunga i fabbisogni e quindi non posso non vado a mettere un accesso gastrico in un paziente in cui l'enterale è prevista per poco tempo punto fondamentale quando è che devo realmente iniziare una nutrizione parenterale qua i dati di bibliografia sono piuttosto chiari allora se il paziente non è malnutrito io devo pensare di iniziare una parenterale dopo sette giorni di diciamo digiuno o comunque apporti per ossi inferiore al 50% quindi per intenderci spesso negli ambienti chirurgici il paziente che ha una durata di ricovero diciamo breve può non essere supplementato se il paziente invece è a rischio di malnutrizione tre cinque giorni senza avviare la nutrizione parenterale ma invece devo iniziarla subito se il paziente è già malnutrito quindi nei pazienti con malnutrizione io devo se il paziente non ho possibilità di fare enterale io devo iniziare subito e questo penso che sia un punto piuttosto cardine la nutrizione parenterale invece devo ritardarla laddove un paziente con grave instabilità metabolica perché comunque la nutrizione parenterale crea un'ulteriore instabilità metabolica quindi di base dobbiamo prima stabilizzare diciamo dei grossi squilibri elettolitici diciamo non minimi ma comunque importanti e poi avviare la nutrizione parenterale la scelta del dispositivo vascolare per la nutrizione allora questa è una una questione tra l'altro so che ieri mattina si è parlato mi ha raccontato qualcosa anche al riguardo allora penso che la prima cosa a cui pensare sia il pensare a quanto tempo il paziente deve avere questo dispositivo venoso perché io devo fare dei ragionamenti completamente diversi se il paziente potrebbe andare a casa con quel dispositivo perché a quel punto paradossalmente la scelta passa quasi in mano al paziente in base alla sua vita che lavoro fa qual è la sua mobilizzazione quali sono i suoi desiderata quindi attenzione innanzitutto pensare a se viene dimesso perché ovviamente si passa nella categoria dei cateteri diciamo almeno a medio termine ma si può anche pensare al posizionamento dei cateteri poi il long term su pazienti che hanno qualità di vita particolarmente alte quindi è la prima cosa e poi chiaramente bisogna valutare i rischi e i benefici di ciascun dispositivo in generale però ricordiamoci il dispositivo deve essere più piccolo possibile questo per la trombola il rischio di trombosi e col minor numero di vie necessarie e questo per il rischio infettivo se possibile e qua dedicare una via alla somministrazione della nutrizione parenterale perché perché la nutrizione parenterale non è compatibile con nulla quindi è chiaro che se io ho un catetere monovia e il paziente fa nutrizione parenterale io devo pensare che non ci posso mettere in seconda via nel bicarbonato nell'antibiotico e questo chiaramente fa sì che in teoria se un paziente fa parenterale abbia necessità di un catetere bilume catetere bilume con tutto ciò che comporta catetere più grande e più vie di somministrazione per essere considerato un centrale è fondamentale pensare che la punta del catetere deve essere in giunzione cavo atriale 5 cm sopra in vena cava come tra l'altro normalmente referto nei radiologi non è un catetere venoso centrale le linee guida non danno come mandatorio il rieffettuare una lastra ogni volta che io inizio una nutrizione da centrale però soprattutto per chi lavora in medicina interna quanti RX torace si fanno controllate se potete l'ultimo RX torace per controllare la punta del catetere che tra l'altro se non è da posizionamento di catetere non viene neanche refertata spesso dal radiologo pensate che si stima il 10% di posizionamenti a 6 mesi di un catetere venoso centrale da colpi di tossi da mobilizzazione quindi è utile se avete degli RX torace di andare comunque a controllare l'ultimo proprio per controllare che il catetere sia nel punto la punta del catetere sia nel punto corretto quando è indicata una nutrizione periferica beh sostanzialmente quando ho difficoltà nel posizionare un accesso venoso centrale o dei fattori intrinseci nel paziente magari non ho chi mi gestisce adeguatamente un accesso venoso centrale quando ho una durata di terapia comunque al di sotto delle due settimane quando magari sono in attesa mi posizionano il catetere tra 4-5-6 giorni o tra un'infezione una sepsi e l'altra allora un accesso venoso periferico e posso pensare di utilizzarlo ricordiamoci che è ipocalorica quindi difficilmente anzi non si raggiungono i fabbisogni con una nutrizione da periferica necessita dei grandi volumi idrici dei grandi volumi le formule non sono concentrate e generalmente l'energia è quasi tutta da lipidi proprio perché altrimenti non si arriva ad avere un minimo di quantità energetica quindi non abbiamo proteine tanti lipidi anche per abbassare l'osmolarità e proprio per contenere sempre l'osmolarità sono nutrizioni che hanno basso contenuto di elettroliti non vanno ovviamente per i pazienti che hanno insomma che sono ipermetabolici ipercatabolici come spesso è il paziente ricoverato devono essere stabili a livelli elettrolitici e soprattutto devono avere una funzione renale stabile io lotto sempre non ne vedo in sala ma con i nefrologi perché quando mi dicono non abbiamo un centrale devi nutrire il paziente con un cateter periferico li dico lasciamo perdere perché insomma ne guadagniamo tutti quanti due rive importanti vado in fretta in cui comunque danno la sicurezza della nutrizione parenterale periferica ma bisogna dire che è ben esplicitato che sono senza aggiunte di elettroliti in sacca e con osmolarità meno di 760 miliosmoli al litro e arriviamo alle ultime linee guida del Gavecelt Gavecelt è la società italiana di dispositivi venosi centrali ma è una società molto forte a livello mondiale spesso sono i primi che poi insomma danno le idee nel mondo in questo ambito siamo molto forti noi italiani e sostanzialmente il limite per la nutrizione parenterale da periferica è stato passato da 900 che c'era fino sostanzialmente a un paio d'anni fa a 800 il che fa sì che tutte le sacche comunque siano sempre al limite tra l'altro sono state anche cambiate alcune formulazioni per entrare in questi cut off ma il rischio ovviamente di TVP e di febiti è particolarmente elevato e chiudo su quello che forse è la parte più spinosa cioè quali sono le complicanze della nutrizione parenterale qua ci vorrebbe un giorno per addentrarci ma allora la prima è sicuramente l'iperglicemia noi abbiamo 200 grammi di destrosio che entra direttamente in circolo nel paziente 200 di media qualcuna un po' di meno e altre anche di più l'ipertrigliceridemia abbiamo anche qua trigliceride adesso le nuove sacche tendono a avere sempre meno olio di soia che era diciamo il principale fattore scatenante l'ipergliceridemia che sono convertiti in parte olio di pesce in parte olio d'oliva rifidi in sindrome perché noi abbiamo una sacca il paziente malnutrito l'attacchiamo e più ne abbiamo più meglio è ma ovviamente rischi di sostanzialmente ipofoseremia e ipopotassimia anche mortali complicanze epatobiliari aumento sostanzialmente degli enzimi epatici e delle colestasi che il più delle volte soprattutto in un reparto di medicina interna però non è causato dalla nutrizione parenterale queste sono complicanze che noi riscontriamo per lo più nei long term cioè in quegli intestini corti cronici di cui vi parlavo prima la tvp più che altro correlata appunto a cateteri miscele che dovrebbero andare in centrale attraverso scusate in vena centrale che vengono invece fatte in periferica e poi le infezioni da catetere ho preparato una diciamo una super slide conclusiva sul rischio infettivo e mi dicono che ieri mattina è stata detta diversa quindi questo è particolarmente interessante penso che sia un po' l'argomento del futuro questi sono i trial importanti su puriste molto importanti pubblicate negli ultimi dieci anni che confrontano però attenzione pazienti in parenterale verso centrale in terapia intensiva io so che noi parliamo di medicina interna ma i trial sono stati fatti tutti in terapia intensiva penso perché tutti i pazienti hanno un accesso centrale mentre in medicina chiaramente qualcuno ce l'ha e qualcuno no mentre invece in terapia intensiva tutti hanno comunque un centrale queste sono le ultime linee guida 2022 della società americana di nutrizione interale artificiale e all'interno di queste linee guida compare questa metanalisi in cui come vedete non c'è differenza in termini di batteria mia dei pazienti che fanno nutrizione parenterale verso la nutrizione interale a sottolineare chiaramente insomma poi il futuro ci dirà insomma dove sta la verità quanto comunque non è tanto la nutrizione parenterale a dare rischio infettivo quanto il fatto di avere un dispositivo venoso che invece come sappiamo le infezioni ce ne porta e ce ne porta anche tante grazie a tutti e quindi direi di aprire quest'ultima sessione chiamando il dottor grosso che ci parlerà dell'artrite reumatoide ma vista dagli occhi di chi reumatologo non è grazie grazie per la presentazione e mi accodo ai ringraziamenti per l'invito a parlare di questo argomento non ho conflitti di interesse riguardanti questo argomento chi c'era l'anno scorso si ricorda che ho iniziato la mia relazione parlando di diversi tipologie di mele ho scoperto che è un argomento estremamente divisivo ancora oggi molti di voi me l'hanno detto e quindi quest'anno la metafora è diametralmente opposta e parliamo di crowd surfing che è il gesto in cui durante i concerti una persona o più vengono sollevate sopra la folla e passate di mano in mano pare che sia stato inventato dai ghip hop in un concerto negli anni 70 in cui lui è sceso dal palco salendo sulle mani della folla ed è stato trasportato secondo me è un'eccellente metafora per essere malati di artrite reumatoidi e ve lo dimostro con una comparazione molto semplice intanto chi parte sul crowd surfing e chi si scopre malato di artrite reumatoide non può tornare indietro volontariamente sono gli altri che devono riportarlo a una condizione di normalità inoltre non decide dove va a finire è sempre la folla sotto di lui o nel caso dell'artrite reumatoide la malattia che lo porta da qualche parte entrambi possono danneggiare le vostre articolazioni non provateli senza le dovute cautele poi c'è qualche differenza è vero il crowd surfing per la maggior parte delle situazioni è piacevole l'artrite reumatoide ahimè di sicuro no per l'artrite reumatoide sono necessari farmaci anche più di uno nel crowd surfing lascio decidere al partecipante se vuole assumere quali sostanze per migliorare l'esperienza quello che gli accomuna è che sia chi fa crowd surfing sia chi ha l'artrite reumatoide deve riporre la fiducia nelle mani di tantissime persone perché per un paziente che ha l'artrite reumatoide ci sono tutta una serie di professionisti sanitari e anche non sanitari che devono dargli un supporto adeguato e devono farlo in modo coordinato e diciamo correttamente temporizzato perché i risultati come nel crowd surfing ahimè possono variare se non viene fatto correttamente e questa è un'ulteriore metafora perché ancora oggi i pazienti con artrite reumatoide anche diagnosticati in fase precoce hanno un eccesso di mortalità che inizia dal momento della diagnosi e aumenta con la durata di malattia come vedete qui sul grafico la mortalità le curve iniziano a staccarsi dal quinto anno rispetto alla mortalità attesa i pazienti con artrite reumatoide hanno un eccesso di mortalità che prosegue fino a vent'anni dalla data della diagnosi e hanno un rischio di infarto miocardico silente e di morte improvvisa che inizia praticamente nei primi cinque anni dalla diagnosi di malattia e questo non è spiegato soltanto dalla terapia che noi diamo a questi pazienti perché qui abbiamo dei dati a vent'anni dello studio BEST e dello studio IMPROVE che sono due studi storici di trattamento dell'artrite reumatoide svolti in centri di riferimento e con un follow up da trialistica quindi con pazienti trattati energicamente con terapia immunosoppressiva e con visite di follow up più che adeguate ma anche in queste popolazioni nel lungo termine le curve si discostano rispetto a una popolazione di riferimento e la mortalità del paziente con artrite reumatoide è aumentata e dipende da alcuni fattori perché se è vero che è aumentata la mortalità per tutte le cause in tutte le classi di età i principali le principali cause di morte del paziente con artrite reumatoide sono morte per cause respiratorie e dell'apparato cardiovascolare e c'è anche un lieve eccesso di mortalità per alcune forme tumorali così come è aumentata la mortalità è aumentata anche l'ospedalizzazione di questi pazienti questo studio da registro ha dimostrato peraltro che l'ospedalizzazione in eccesso inizia ancora prima della diagnosi di artrite reumatoide come vedete nel grafico l'index year la barra 0 è il momento della diagnosi di artrite reumatoide ma anche negli anni precedenti qui sono dati che venivano da un registro di ospedalizzazione di uno stato è dimostrato che l'ospedalizzazione inizia ad aumentare quindi il paziente con artrite reumatoide ancora prima di sapere di avere l'artrite reumatoide è già a rischio aumentato di fare un giro nei reparti principalmente di medicina interna perché come vedete il rischio aumenta principalmente per riacutizzazione di BPCO e questo sicuramente in parte spiegato dal fatto che il fumo è anche un fattore di rischio per sviluppare artrite reumatoide e poi anche da infezioni con la polmonite e le infezioni del tratto urinario come quelle più frequenti come le preveniamo queste cose ci sono alcune cose che possiamo fare per quanto riguarda le vaccinazioni possiamo proporne una serie al paziente e proprio quest'anno sono state pubblicate le linee guida della società italiana di reumatologia sul sistema nazionale linee guida il rischio di infezioni nel paziente con artrite reumatoide dipende da alcuni fattori alla vostra sinistra vedete il rischio di infezioni sulla base dell'attività di malattia a sinistra nei pazienti che utilizzavano glucocorticoidi in cronico e un po' più a destra nei pazienti che utilizzavano scusate nella sinistra i pazienti che non utilizzavano glucocorticoidi e più in centro i pazienti che utilizzavano glucocorticoidi come vedete il principale determinante dell'aumento del rischio infettivo è l'attività di malattia stessa cioè la malattia artrite reumatoide quando è attiva aumenta per una serie di motivi il rischio del paziente di contrarre infezioni in questo setting il glucocorticoide sembra addirittura ridurre leggermente il rischio di infezioni probabilmente perché riduce l'attività di malattia ma se noi andiamo a prendere pazienti in terapia stabile che è il grafico alla vostra destra e li confrontiamo tra chi fa terapia convenzionale la prima barra chi fa terapia convenzionale più glucocorticoidi oppure chi fa terapia biotecnologica quindi la seconda linea di terapia attuale e alla fine la terapia biologica più glucocorticoidi vediamo che aggiungere glucocorticoide dà sempre un fattore di rischio in più indipendentemente dalla dose a questi pazienti di infettarsi e proprio sulla base del fatto che alcune terapie aumentano il rischio di infezione è consigliabile trattare e vaccinare i pazienti che fanno terapia immunosoppressiva per alcune tipologie di patogeni in particolare sono consigliate dalle linee guida SIR il vaccino antinfluenzale la vaccinazione antipnomococcica quella per herpes zoster e quella per il papillomavirus dove appropriato fin qui non sono raccomandazioni straordinarie ce le potevamo aspettare estendono semplicemente delle raccomandazioni che ci sono già per età in alcune categorie di pazienti quello che mi preme sottolineare è che ci sono alcuni cambiamenti rispetto allo storico adesso è stato sottolineato che l'attività di malattia non è più un driver di scelta se vaccinare o meno il paziente come abbiamo visto la malattia attiva non è più una controindicazione vaccinare il paziente è stato detto dai reumatologi per tanti anni ma almeno per quanto riguarda l'artrite reumatoide non è più vero e abbiamo visto che il paziente con alta attività di malattia è proprio quello a maggior rischio di infettarsi quindi si inizia a vaccinare il prima possibile quando appropriato la cosomministrazione di più vaccini nella stessa seduta è consigliata sulla base di un'evidenza bassa ma sulla base del fatto che non ci sono evidenze di danno devo sospendere poi la terapia cioè come devo gestire la terapia nei pazienti che vado a vaccinare per i vaccini che ho citato prima escluso quello influenzale non è necessario fare modifiche della terapia per il vaccino anti-influenzale è consigliato saltare il metotrexate per una o due settimane dopo la vaccinazione questo per aumentare le probabilità di rispondere alla vaccinazione fa eccezione il paziente trattato con rituximab che per fortuna sono sempre meno nell'artrite reumatoide perché ovviamente il rituximab va a depletare le cellule B e quindi riduce moltissimo le probabilità del paziente di rispondere a una vaccinazione per cui la vaccinazione va programmata sulla base del prossimo trattamento di rituximab e il trattamento va differito per almeno due settimane dopo la somministrazione del vaccino quello che invece è molto più frequente è come gestire la terapia con glucocorticoidi prima della vaccinazione le linee guida ci vengono in aiuto dicendoci che possiamo vaccinare tutti i pazienti che fanno un dosaggio uguale o inferiore a 10 mg al giorno di equivalente per nisonico è da valutare se vaccinare un paziente tra 10 e 20 mg al giorno quindi se è assolutamente necessario lo possiamo vaccinare ma ci possiamo aspettare un minor tasso di risposta e quindi se possiamo aspettare a somministrare il vaccino perché abbiamo in programma un giusto decalage steroideo possiamo aspettare qualche settimana nei pazienti con terapia maggiore di 20 mg al giorno che per fortuna per l'artrite reumatoide dovrebbero essere sempre meno è sconsigliata la vaccinazione in quel momento ma è consigliato prima ridurre la terapia con steroid per quanto riguarda la vaccinazione anti SARS-CoV-2 la revisione sistematica sulla quale si basano queste linee guida non aveva ancora evidenze sufficienti per esprimere un parere per cui è stato dato un parere di good clinical practice del pannello che comunque consiglia la vaccinazione anti-COVID alla stregua della vaccinazione anti-influenzale e quindi per quanto riguarda le infezioni facciamo un riassunto è necessario che il paziente per l'artrite reumatoide venga scrinato per HPV HCV HIV e quando appropriato per la tubercolosi è sempre utile ridurre la terapia con cortisone e sospenderla quando non è più necessaria perché come abbiamo visto è un fattore di rischio indipendente una volta che iniziamo a trattare la malattia è sempre utile consigliare questi vaccini quando sono appropriati e vaccinare tutti i pazienti quando fanno una terapia steroidea inferiore a 10 mg andando a differire la vaccinazione soltanto nel caso in cui facciano terapia con rituximab e allora in quel caso programmandola sulla base del nostro programma terapeuta il secondo driver di mortalità è la malattia interstiziale l'artrite reumatoide può coinvolgere il polmone e l'esordio della malattia polmonare può avvenire prima al corso della diagnosi e in corso del follow up quindi non è sbagliato screenare il paziente anche al momento della diagnosi se sospettiamo un interessamento polmonare nella maggior parte dei casi di artrite reumatoide l'interessamento polmonare è una usual interstitial pneumonia un altro terzo circa dei pazienti avrà un pattern N-SIP e i pattern meno frequenti ma comunque che possiamo vedere nella nostra pratica clinica sono i pattern da organizing pneumonia e da danno alveolare diffuso queste sono complicanze di malattia che quando si verificano sono a rischio vita per il paziente anche se non sempre sono così gravi perché abbiamo pazienti che hanno degli interessamenti minimi che se li portano avanti stabili anche per decenni e pazienti invece che sono dei rapid progressor quindi che dal momento in cui riscontriamo la patologia siamo già un po' in ritardo per trattarla quali sono le possibilità di trattamento beh allora ovviamente consigliare e reiterare nel tempo la necessità di smettere di fumare al paziente fare un adeguato screening ricordando che appunto l'esordio articolare di malattia può anche essere successivo all'esordio polmonare quindi se ci troviamo di fronte a un'interstiziopatia ricordarsi sempre che potrebbe essere secondaria una malattia che ancora non è stata diagnosticata poi trattare chi ne ha bisogno e monitorare i casi lievi come ho detto non tutti progrediscono rapidamente ma necessariamente se un paziente è ricoverato aspettatevi che progredisca rapidamente in questi casi quando ci sono segni TAC di un'infiammazione acuta la terapia è sicuramente con steroidi un milligrammo pro chilo o addirittura i boli per tre giorni nei casi severi e poi eventualmente andando ad aggiungere degli immunosoppressori che abbiano dimostrato più di altri di ridurre o bloccare l'interessamento polmonare questi oggi per l'artrite reumatoide sono principalmente la Batacept il Rituximab e forse i GEC inibitori vanno evitate invece i farmaci che hanno avuto dei case report di riattivazione dell'interstiziopatia come ad esempio gli inibitori del TNF quando invece è preponderante la parte fibrotica che solitamente è più lenta nei pazienti con artrite reumatoide gli antifibrotici in particolare il nitidamib vanno considerati collegialmente con lo specialista pneumologo per quanto riguarda invece la parte cardiaca che l'artrite reumatoide si porta di eccesso di mortalità è dimostrato che i pazienti con artrite reumatoide hanno un rischio aumentato di scompenso cardiaco indipendente dal genere questo rischio inizia alla diagnosi di artrite reumatoide e va avanti per tutta la durata di malattia in particolare in questo studio per oltre 46 anni si è vista questo eccesso di rischio che progressivamente incrementava i pazienti con artrite reumatoide che hanno lo scompenso cardiaco l'abbiamo visto anche in una relazione in questa mattina vanno peggio di chi non ha l'artrite reumatoide questo per una serie di motivi sia perché l'attività infiammatoria cronica peggiora lo scompenso cardiaco aumentando il carico di lavoro del cuore sia perché il trattamento con antinfiammatori e con terapia steroidea che probabilmente un paziente con artrite reumatoide spesso si trova a dover affrontare peggiora anche lo scompenso cardiaco e quindi anche la mortalità dovuta a scompenso cardiaco i pazienti con artrite reumatoide hanno inoltre un rischio cardiovascolare aumentato questo ormai è stato ampiamente dimostrato vi presento qui per completezza una meta-analisi che dimostra che sia la malattia ischemica cardiaca che gli incidenti cerebrovascolari sono più frequenti in tutti i pazienti con artrite reumatoide quindi come trattiamo questo interessamento sicuramente con lo screening ho messo una volta all'anno non tanto per dire che va rifatto tutto lo screening una volta all'anno che sarebbe fosse un eccesso di zelo ma una volta all'anno quando viene visto un paziente da artrite reumatoide nei nostri ambulatori reumatologici dobbiamo porci questo problema cioè lo sto scrinando adeguatamente ho tutti i dati posso fare di più per ridurre il suo rischio cardiovascolare anche in questo caso ridurre e sospendere lo steroide quando è possibile è sempre una buona cosa e istruire il paziente ad evitare gli antinfiammatori non steroidei il trattamento preventivo del rischio cardiovascolare dello scompenso cardiaco poi non differisce significativamente rispetto ai pazienti senza artrite reumatoide e quindi ci si rifà le linee guida regionali per quando riguarda invece la terapia di fondo dell'artrite reumatoide per prevenire il rischio cardiovascolare sono da preferire farmaci che hanno dimostrato una prevenzione efficace tra cui il metotrexate la bataceb gli inibitori dell'enterlochina 6 gli inibitori del tnf hanno dimostrato di ridurre il rischio cardiovascolare ma possono peggiorare uno scompenso cardiaco quando è in classe nia terza e quarta e quindi nel paziente che è già in quelle classi o che è borderline o ad alto rischio di peggioramento sono da evitare sempre la società italiana di reumatologia ha recentemente pubblicato delle linee guida per la prevenzione del rischio cardiovascolare che si rifanno al progetto cuore come algoritmo di stima del rischio ma che ricordano che nel paziente con artrite reumatoide il risultato dell'algoritmo cuore va moltiplicato per 1,5 per ottenere la giusta stima del rischio su cui basare poi le nostre scelte terapeutiche per quanto riguarda invece il rischio oncologico dei nostri pazienti è aumentato ma per alcune categorie di tumore da uno studio di popolazione molto ampio nazionale è stato riscontrato un aumento del rischio di tumori al polmone alla vescica alla cervice della sfera otorino lieve dei reni e del melanoma mentre è ridotto il rischio di tumore del pancreas e del colon questo si suppone per un uso aumentato di farmaci antisteroidei che la popolazione con artrite reumatoide inevitabilmente fa sono poi aumentate quasi tutte le neoplasie ematologiche sia linfomi Hodgkin che non Hodgkin ma questo rischio dipende dalla malattia o dipende dalla terapia che noi diamo ai pazienti questa è una domanda che negli anni è stata reiterata ai reumatologi e adesso spesso sono stati farmaci biotecnologici prima di essere usciti gli antitnf a essere stati chiamati in causa come colpevoli di un rischio aumentato di neoplasia ematologica dopo tanti anni che li diamo ormai più di 20 si è scoperto da studi ampi di popolazione che sia per quanto riguarda il trattamento delle IBD per il trattamento delle artriti non c'è un aumento del rischio di neoplasie ematologiche e non c'è un aumento dei non melanoma skin cancer nel trattamento con inibitori del tnf e il rischio di recidiva di tumori già avvenuti nel paziente anche prima dell'esordio dell'artrite reumatoide non è aumentato se noi lo trattiamo con l'inibitore del tnf sia che questa terapia inizi entro 5 anni dalla remissione della problematica oncologica sia che noi aspettiamo dopo 5 anni che è spesso un cut off che viene riportato anche in alcune linee guida derivato un po' dall'expert opinion e dal buon senso in realtà quando noi trattiamo bene seguiamo bene il paziente con farmaci biotecnologici il rischio di neoplasia nel corso degli anni dopo la diagnosi di artrite reumatoide è ridotto rispetto alla terapia convenzionale questo in parte perché facciamo più screening perché lo consideriamo un pochino più a rischio ma anche perché andare a bloccare l'attività di malattia previene almeno le neoplasie della sfera ematologica qui ovviamente non è possibile fare un sunto sul trattamento delle neoplasie nell'artrite reumatoide ma bisogna ricordare che bisogna fare sempre uno screening adeguato per genere d'età ed individualizzare le scelte di trattamento di concerto con lo specialista oncologo due parole sull'osteoporosi perché è un rischio di mortalità sappiamo tutti che le fratture osteoporotiche aumentano significativamente il rischio di mortalità dei pazienti con età maggiore di 65 anni forse non tutti ci ricordiamo sempre che l'artrite reumatoide è un rischio per osteoporosi è un rischio sia per motivi gli atrogeni la terapia con corticosteroidi in primis ma è un rischio anche per una ridotta densità minerale ossa per fenomeni ormonali che vengono causati dall'infiammazione cronica dalle citochine proinfiammatorie che favoriscono il riassorbimento dell'osso trabecolare dalle erosioni osse che la malattia nel corso del tempo causa e dall'inattività del paziente perché un paziente che ha tante articolazioni dolenti e tumefatte sarà meno portato a caricare su quelle articolazioni e quindi perderà nel tempo massa ossea la densità minerale ossea è ridotta già al momento della diagnosi nei pazienti con artrite reumatoide in particolare nei pazienti sieropositivi per anticorpi antipetide citrulinato ciclico e fattore reumatoide quindi inizia molto precocemente rispetto a quello che ci aspetteremmo in un paziente che non ha artrite reumatoide e noi se diamo terapia steroidea non possiamo che andare a peggiorare questo circolo vizioso perché praticamente tutte le fratture osteoporotiche sono aumentate a seconda del dosaggio di terapia steroidea che noi diamo per un tempo prolungato quindi anche qui bisogna ricordarsi che è necessario fare uno screening adeguato ricordando che abbiamo un paziente che è già a rischio dal momento della diagnosi di sviluppare osteoporosi e fratture ridurre sempre la terapia steroidea quando possibile supplementare vitamina D e calcio quando appropriato e utilizzare farmaci antiriassorbitivi quando il rischio di fratture è alto una parola sull'interessamento cutaneo anche per collegarmi poi a una relazione successiva lo vediamo sempre meno perché probabilmente più trattiamo precocemente il paziente più lo preveniamo ma quando lo vediamo soprattutto la vasculite reumatoide è una bella gatta da pelare perché risponde molto poco alla maggior parte dei trattamenti immunosoppressivi mentre la dermatosi neutrofilica reumatoide di solito risponde a una terapia steroidea topica o sistemica invece la vasculite reumatoide richiede di rivalutare tutta la terapia che solitamente non funziona se è esordita la vasculite reumatoide ci sono pochi dati in letteratura però sono concordi nel dire che il metotrexate se non era già stato utilizzato è un farmaco efficace sulla vasculite reumatoide come farmaci di seconda scelta sono da preferire il rituxima blabatacep e probabilmente i gecchini vitori solo che ci sono meno dati per questi ultimi perché sono usciti da meno anni ed è un interessamento per fortuna sempre meno frequente concludendo torniamo al crowd surfing è vero che l'ha invitato Iggy Pop ma Peter Gabriel è quello che l'ha fatto più volte nei suoi concerti e Peter Gabriel ha detto che l'idea gli è venuta dal trust fall cioè dalla caduta di fiducia che si fa durante le terapie per aumentare la fiducia in un gruppo e quindi l'ha fatto per avvicinare il musicista al suo pubblico ecco nello stesso modo noi dovremmo supportare i pazienti e indurli a fidarci di noi e fidarci anche noi tra di noi perché come vedete nella vignetta di Snoopy spesso anche quando è sotto che sorregge il paziente il medico può sentirsi da solo se non è aiutato dai suoi colleghi e quindi chiamerei l'amico Giovanni Gollè con cui condividiamo da anni anni ormai l'esperienza reumatologica nell'ospedale di Cuneo e ci parlerà delle vasculite l'approccio alle vasculite dei grandi vasi io ringrazio il dottor Pomero per l'invito e ormai è una piacevole consuetudine essere presente a questo congresso a questa sessione reumatologica mi ha fatto anche particolarmente piacere quando mi ha telefonato per chiedermi se non mi occupavo se facevo una presentazione sulle vasculite perché in anni passati quando ancora lavoravamo insieme avevamo iniziato a scrivere e a raccogliere un po' di dati poi le strade si sono divise lui ha percorso altri sentieri e sono contento che ci sia anche il dottor Perotti qua che è stato mio primario nei primi anni 90 che all'epoca mi diceva ma Gianni nostro primario inizia a interessarti un po' di vasculite che è importante quindi vediamo se riesco a fare qualcosa di interessante pensavo di proporre questa presentazione cercando di rispondere a questa domanda se l'arterite di l'accaiaso e l'arterite gigantocellulare che sono le due vasculite di grandi vasi sono delle differenti di età cliniche oppure sono l'ospetto di una stessa malattia magari valutando le peculiarità di ciascuna quindi cercando di dare una risposta ecco non si può prescindere nel parlare di vasculiti senza proiettare questa consensus che non ha una validazione classificativa ma semplicemente una descrizione nosografica che divide le vasculiti in grandi medi e piccoli vasi tutte queste forme qui sono forme caratterizzate da un denominatore comune che è dato dalla flogosi della parete vasculare ci occuperemo appunto di queste due qua fondamentalmente e sono troppo avanti indietro ecco scusate ma riesco a portarmeli indietro alla terza ancora indietro ancora indietro ancora indietro ancora 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 ok sono stati editi recentemente nel 2020 nuovi criteri classificativi che come ricordo a tutti non sono sicuramente diagnostici giacché servono semplicemente per omologare tipi di pazienti che vengono poi valutati nei vasi infatti qui la diagnosi è già a essere fatta vanno soprattutto esclusi i mimickers e fondamentalmente danno un po' segno di sé di quella che è che sono la sintomatologia più eclatante vado a dire che l'arterite gigantocellulare probabilmente ha alcuni fenotipi uno classicamente con una sintomatologia craniale che vedete prevalentemente descritta lì una sintomatologia anche più periferica con distribuzione di vasi più periferici con interessamento flogistico più periferico e una forma un pochettino overlap qui vedete che sono danno maggiormente evidenza quelli che sono i sintomi della forma craniale con la classica rigidità mattutina l'embricazione con la polimialgia reumatica la perdita dell'acuità visiva fino alla cecità che in un 20% dei pazienti è che la classica urgenza una delle poche urgenze reumatologiche che poi arrivano di solito in reparto il venerdì pomeriggio la claudicazio masticatoria la claudicazio agli arti inferiori quindi sono dei sintomi a cui vengono dati un punteggio che caratteristicamente riflettono quella che è l'interessamento prevalentemente craniale anche qui ci sono i nuovi criteri classificativi sempre col discorso di prima dell'arterite di Takayasu che generalmente è molto più appannaggio della giovane età e anche qui riflette probabilmente una distribuzione più periferica quindi tanto sesso femminile più sbilanciata verso il genere e la distribuzione periferica con coinvolgimento cardiaco e soprattutto dei vasi della orta discendente della orta toracica con un'ipopulsatilità una differenza dei valori pressori quindi tutta una sintomatologia diciamo un pochettino più periferica e dicevo prima dei mimicker ci sono molte malattie sistemiche che poi hanno un interessamento flogistico articolare che vanno dalle forme parainfettive che vedete sottolineate lì alle forme autoimmuni fino alle forme paraneoplastiche quindi quando ci approcciamo questo tipo di pazienti è importante fare un abbondante e una approfondita diagnosi differenziale proprio per non incorrere poi in gravi problemi anche dal punto di vista terapeutico con le varie complicanze la scaletta potrebbe essere un pochettino questa parlare di epidemiologia genetica patogenesi e via discorrento per quanto riguarda le differenze sostanziali dal punto di vista epidemiologico l'artirite gigantocellulare vedete che è prevalentemente appannaggio dell'età senile non troverete mai pazienti al di sotto di 50 anni e l'incidenza incrementa in modo importante con l'aumentare dell'età con uno sbilanciamento del sesso 3 a 1 nelle donne sicuramente risente nettamente della latitudine molto più presente nelle popolazioni nord europee nel Minnesota che ricordo è una zona di immigrazione nord europea quindi sicuramente maggiormente sviluppata ci sono a validare questi due studi uno della meioclinica e uno in Italia che vedete che l'incidenza scende dal 18% per 100.000 abitanti all'8% per esempio in Reggio Emilia e molto meno rappresentati sono nell'est asiatico al contrario la takayasu è una malattia delle giovani donne vedete che nettamente più sbilanciata nel genere 9 a 1 e i criteri nuovi avete visto vedono la malattia anche lì sotto dei 60 anni ma è molto più facilmente rilevabile nelle giovani donne anche qui la distribuzione è planetaria però risente anche qui di una distribuzione nord-sud tra cui vedete uno studio nuovo della meioclinica da un 2-6% verso in Italia da 0,5% sviluppata maggiore ecco qui siamo a numero incidenza per milioni di abitanti e non per 100.000 abitanti quindi una netta differenza questa è molto più io credo nella nostra pratica clinica ne avremmo visto un paio forse non di più perché comunque è decisamente inferiore diversa anche la genetica la GCA è prevalentemente associata ai geni della classe 2 l'HLA 2 viceversa l'attaccaiaso dell'1 c'è un unico polimorfismo vicino all'interleuchina 12b che sembra predire tutte e due le malattie la patogenesi la patogenesi non spaventatevi per questo cartoon sicuramente la ventizia dovrebbe essere un tessuto privilegiato dal punto di vista autoimmune in realtà non è così il classico antigene viene presentato la cellula acrofagica c'è un'espansione dei CD4 e CD8 che poi diventano cellule multinucleate giganti che migrano a formare dei glanuromi prevalentemente della ventizia e c'è un'overproduzione di interleuchina 6 più sviluppata maggiormente espansa soprattutto nell'arterite gigantocellulare e di TNF maggiormente espanso e sviluppato nell'arterite di Takayasu che saranno poi anche dei target di terapia e in effetti c'è anche una differenza sostanziale nella formazione del granuloma vedete prevalentemente formato nella ventizia con una maggior predilezione per quanto riguarda l'età di Takayasu dei CD8 degli NK che danno forse segno di una maggiore tossicità a livello di questa malattia nettamente meno presenti sono i CD8 prevalentemente espressi sono i CD4 tutti e quanti nella media e dal punto di vista istologico ci sono poche differenze se non che nella Takayasu la ventizia è decisamente più sviluppata si formano dei granulomi prevalentemente nella media e nell'intima c'è anche una perdita di cellule muscolari in entrambe le malattie che dà poi origine alle varie complicanze prevalentemente aneurismatiche per la GCA e stenotiche per l'arterite di Takayasu quindi differenze nel genere differenze nella epidemiologia differenze nella formazione del granuloma pur essendo due vasculite dei grandi vasi sintomatologia in parte ve l'ho già annunciata la GCA esordisce nella forma più prevalentemente craniale con una mal di testa di nuova insorgenza una dolorabilità del cuoio capelluto una claudicazio masticatoria è una normalità se volete con una nodularità una dolorabilità a livello dell'arteria temporale cosa che non si trovano nell'arterite di Takayasu se mai avete dei sintomi cranici perché magari c'è una puntata ipertensiva legata all'astenosi di altri distretti vascolari la sintomatologia sistemica fondamentalmente si accavalla anche se maggiormente rappresentata nella GCA il rischio importante di arrivare a cecità per una neurite ottica ischemica anteriore è decisamente più prevalente nell'arterite di giganto cellulare e così pure la claudicazio dell'estremità può essere sostanzialmente sovrapponibile ha decisamente maggiore la possibilità di trovare dei soffi vascolari e delle differenze di pressione nella Takayasu rispetto all'altra forma e questo da un pochettino questo è un lavoro fatto dalla Mayo Clinic vedete che sicuramente la prevalenza e la distribuzione è maggiore in quella che è la Takayasu decisamente inferiore così come la discrepanza dei valori pressori è maggiore nella Takayasu quindi anche qui la differenza rispetto all'arterite giganto cellulare caratteristicamente la Takayasu coinvolge questi distretti soprattutto la succlavia però vedete la orta toracica addominale e non frequentemente le arterie polmonari nella forma classica come ci siamo detti l'arterite giganto cellulare soprattutto l'arteria oftalmica le succlavie e l'arteria ascellare così pure come la orta però caratteristicamente la distribuzione è decisamente più appannaggio della Takayasu manifestazioni extravascolari sicuramente lo sapete tutti è gravata da intersecazioni diciamo con la polimia algea reumatica in una percentuale piuttosto elevata dei pazienti viceversa nella Takayasu spesso ci sono delle altre algea ma non troverete mai delle vere e proprie artriti come trovate magari nella GCA quelle famose sinoviti di cui i reumatologi si occupano che sono date dalle sette no sinoviti soprattutto a livello delle mali e gli arti superiore caratteristicamente in una percentuale così non trascurabile di manifestazione extraarticolare extravascolare scusate nell'Atacayasu ci può essere un'associazione con le impie ancora tutte e due questo nei nostri reparti di medicina spesso lo abbiamo visto si possono presentare come fuo come febbre di origine sconosciuta quindi sono molto importanti gli approfondimenti diagnostici e lo screening dei vari mimicas che possono confondere prima di arrivare una diagnosi e instaurare una terapia di una certa importanza che sarà sicuramente su base steroidea per fare la diagnosi sicuramente ci si avvale di una certa espartice clinica quindi bisogna mettere insieme la clinica la sintomatologia che avete visto la sierologia che qualche volta non ci può dare delle grosse indicazioni e l'imaging fondamentalmente l'ecografia è molto importante e lo vedremo nell'arterite giganto cellulare e le varie indagini di imaging che sono l'angiotac l'angiorisonanza e la PET che poi negli ultimi anni ha permesso di ampliare le ipotesi diagnostiche e anche differenziali l'angiografia di per sé non ci dà dei grossi vantaggi e un'ampia zona di grigi sarà se volete ne parliamo in discussione quello di monitorare la malattia nella sua evoluzione soprattutto con l'imaging perché non ci sono una serie di grigi non è così facile soltanto con l'imaging fare un follow up di questo tipo della malattia queste qui sono le indagini che vedete è importante come dicevo prima soprattutto l'utilizzo dell'ecografia che ci permette di fare una diagnosi molto precoce utilizzando la sonda a livello della temporale e anche della cellari è diventata forse il primo step di indagine perché per chi sa maneggiare la sonda credo che non ci voglia una grossa curva di apprendimento si può valutare l'edema circostante all'arteria temporale che può essere scrinata in tutto il suo spessore e l'incomprimibilità e questo ci permette di avvalerci di diagnosi molto precoce di trattare soprattutto quei pazienti che vanno incontro a una cecità precoce quindi di utilizzare senza ombra di dubbio una terapia appropriata e di un certo peso fin dall'inizio vedete qui l'ecografia sicuramente di rapido accesso facilmente riproducibile e ripeto la curva di apprendimento non credo che sia così difficoltosa infatti nelle varie cliniche ormai non si può prescindere dall'utilizzo di questa metodica per fare una diagnosi precoce con una buona sensibilità e sicuramente una buona specificità il gold standard rimane pur sempre la biopsia dell'arteria temporale con tutti i limiti nel senso che bisogna trovare un vascolare piuttosto che un neurochirurgo con una minima invasibilità anche se non c'è una grossa morbidità e sicuramente il gold standard perché si va a classificare e a detectare quelli che sono i granulomi che sono tipici della malattia e ci sono dei limiti come per esempio nell'arteria temporale le lesioni sono a skip quindi bisogna prendere almeno un centimetro di tessuto per poter essere sicuri di non avere dei falsi negativi e questo in chi non ha purtroppo la possibilità di utilizzare altre immagini tutto sommato non ci sono anche dei grossi ritardi se il paziente ha già iniziato la terapia perché pare che fino a 2-3 settimane non ci siano poi delle grosse alterazioni a livello istologico oppure magari avendo già introdotto la terapia steroidea questa è una bella review della Mayo Clinic che prende in considerazione almeno 4 studi comparando le due popolazioni vedete che soprattutto le carotidi le mesenteriche le renalie sono di prevalente pertinenza come estensione dell'attacca di aso e viceversa l'arteria scellare prevalentemente espressa coinvolta nell'arterite gigante cellulare questi sono altri due lavori sempre uno della Mayo Clinic e uno italiano che anche qui dà un'idea della distribuzione che è maggiore vascolare per quanto riguarda l'attacca di aso e soprattutto una maggiore aggressività con la formazione di lesioni stenotiche rispetto e occlusive nell'attacca a iasus rispetto alle aneurismatiche che sono più di pertinenza dell'articolo e gli esiti è decisamente una malattia più aggressiva meno frequente questo è un lavoro fatto in Italia recentemente che maggiormente va incontro a FLIR che maggiormente come ho detto va incontro a complicanze vascolari stenotiche che comporta una dose accumulativa di steroide maggiore rispetto all'altra vasculite con maggior necessità di utilizzo di farmaci biologici e maggior necessità di procedure vascolari in questi casi qui ormai abbiamo una certa confidenza con i nostri chirurghi vascolari bisogna cercare di fare delle PTCA ma non inserire degli stent perché sempre delle malattie granulomatose c'è il rischio che poi i granulomi persistano e vanno ulteriormente ad inficiare quello che può essere una terapia e stiamo arrivando rapidamente alla conclusione ci sono ormai varie linee guida tutte concordano anche molto recenti nel dire che la terapia fondamentale rimane lo steroide utilizzato ad alte dosi 40-60 mg previsione equivalenti fino a cercare di raggiungere una remissione entrambe le malattie a seguire poi si cerca di fare un rapido tapering in 2-3 mesi mantenendo però una dose in considerazione del discorso che l'arterite di Takayasu è più aggressiva intorno ai 10 mg 10-15 mg rispetto alla possibilità di scendere più rapidamente fino a 5 mg nell'arterite a questo punto bisogna farsi una domanda ne ha parlato prima Vittorio in pazienti con così le dicono le linee guida fortemente a rischio di dosi cumulative di steroide o che vanno incontro maggiori possibilità di relapse soprattutto nella GCA che possono essere la perdita dell'acuita visiva gli stroke marcati nel territorio delle vertebrali o anche delle minime relapse si può pensare di fare una terapia aggiuntiva con il tocilizum o con il metodotato sono sicuramente dei dati maggiormente evidenti rispetto al tocilizum e rispetto al metodotato che hanno meno potenza che ha meno potenza negli studi e che ha sdoganato cosa è stato sdoganato nel 2017 l'utilizzo del tocilizum è stato questo lavoro che ha consentito di valutare che in chi associa piuttosto rapidamente il tocilizum c'è la possibilità di mantenere maggiormente in remissione la malattia preservando una dose cumulativa arrivando a una dose cumulativa nettamente inferiore rispetto ai pazienti solo trattati e queste sono le linee guida dell'American College che fondamentalmente si allineano a tutte le altre mi preme soltanto sottolineare che in certi casi quando il venerdì pomeriggio arriva il paziente dal pronto soccorso con una ridotta acquita vigiva in cui probabilmente siamo indotti a pensare che stia sviluppando un'arterite di questo tipo è possibile utilizzare dei boli di steroide non ci sono degli studi randomizzati controllati a giustificarlo nella praticaccia clinica però quando si trovi come si troviamo spesso viene fatto si fanno dei boli da 500 a 1 grammo per 2-3 giorni e poi si attacca questo è l'algoritmo terapeutico nella Takayasu che è molto simile vedete che qui come ho detto prima maggiore over espressione del TNF per cui secondo anche queste linee guida qui è possibile affiancare o sostituire alla terapia da induzione dell'osteroide addirittura il TNF magari ancora prima dell'utilizzo del tocilizuma che blocca l'interleuchina 6 questi sono gli studi randomizzati e controllati sulle due vasculiti uno l'ho già citato quello del metotrexate tre lavori che sicuramente riducono il flare che hanno una minimazione di risparmio dell'osteroide quello sdoganato dal tocilizum nel 2017 poi con gli studi in aperto che sicuramente permette di mantenere la remissione a un considerevole risparmio dell'accumulo di steroidi non ci sono ovviamente grossi studi anche per l'epidemiologia o pochi casi su milioni c'è uno studio giapponese che ha utilizzato il tocilizuma che ha visto che tutto sommato non ha una grossa efficacia sui relapse e così sul risparmio di steroide ha una qualche efficacia con una buona percentuale di stabilizzare o migliorare le lesioni valutate in angiotac questo è stato valutato in aperto a 96 questi sono gli studi in aperto case series sono state utilizzate varie molecole su pochi casi quindi con alterne vicende mi permetto di sottolineare questo è uno studio retrospettivo importante che ha valutato al fallimento del TOCI l'utilizzo del TNF con una buona percentuale di risposta di remissione e questo è uno studio italiano retrospettivo che anche qui in un fallimento un primo TNF lo switch su un secondo TNF ha permesso di ottenere dei buoni risultati altri studi prospettici però rispetto i numeri sono talmente pochi che non si può dire e quindi spero di avere arrivando alla conclusione di avervi fatto pensare che sono due vasculiti diverse che hanno una patogenese una epidemiologia insomma delle caratteristiche che sono di aggressività che sono diverse e quindi richiedono degli approcci e arrivo alla fine consentitemi di proiettare questa diapositiva questa è una citazione di uno dei padri della medicina e arrivando ormai a sei mesi dalla pensione mi sento di condividerla il giovane medico inizia con 20 farmaci per ciascuna malattia e nel caso delle vasculiti il vecchio medico come chiamava ormai la dottoressa e io vorrei direlo il cortisone è forse ancora una delle terapie più attuali più convenzionali nello studio delle vasculiti e vi ringrazio adesso chiamo l'ultima relatrice la dottoressa Bertello che ci parlerà dell'espressione cutanea delle malattie ai sistemi buongiorno a tutti ringrazio dottor Pomera per avermi invitato e mi è stato chiesto di parlarvi di alcune delle patologie cutanee che si associano a malattie internistiche e io cercherò di portarvi in questo mondo cercando di affascinarvi quanto queste patologie possono affascinare dermatologi torniamo un po' indietro nel tempo siamo nel 1947 quando un dermatologo americano Kurt Wiener nel tentativo di classificare tutte le patologie dermatologiche con interessamento sistemico conia un termine nuovo che devo dire è poco conosciuto anche tra i dermatologi il termine è dermadroms indica proprio tutto l'insieme delle manifestazioni cutanee è un manuale che raccoglie più di 3.000 citazioni quindi questo vi fa capire quanto sia stato il lavoro a doverle classificare tutte è un insieme un lavoro utile sia a noi dermatologi ma anche a medici di medicina generale internisti e io oggi ovviamente non posso ripercorrele tutte ho deciso di scegliere quelle che secondo me sono più esemplificative quelle che rappresentano delle entità dermatologiche a sé stanti e che molto spesso invece sono spia di un disordine internistico nella speranza che magari quando vi trovate di fronte a un caso del genere anche senza fare una diagnosi possa accendersi una lampadina allora partiamo col mix edema pretibiale anche detta dermopatia tiroidea è una manifestazione rara della malattia di Graves e si associa in misura variabile alla tiropatia o all'ossalmopatia di solito è una manifestazione più frequentemente nelle donne più frequente nelle donne di solito a giovani adulte si manifesta con queste placche eritematobrunastre infiltrate che hanno un aspetto caratteristico a buccia d'arancia con l'acute circostante indurita fibrotica e che in alcuni casi può associarsi all'infedema o addirittura a forme elefantisiache si localizzano come dice il nome prevalentemente nella regione pretibiale ma possono localizzarsi in altre sedi corporee specialmente superfici estensorie caviglie e gomiti per quanto riguarda la patogenesi non è completamente chiarita anche se l'associazione della manifestazione cutanea alla tiropatia riporta un 100% dei casi di positività per gli autoanticorpi anti TSH recettori quindi sembrerebbe dovuta appunto all'attività degli anticorpi che scatenano una cascata citochinica che induce l'accumulo di acido glialuronico e altri chicosaminiclicani nel derma provocando appunto le manifestazioni in particolare non c'è un'associazione tra la funzionalità tiroidea e le manifestazioni cutanee quindi i pazienti possono essere sia ipo che iperteroidei in questa slide vedete alcuni quadri inveterati che arrivano fino all'elefantiasi e dal punto di vista estologico vedete bene sia in ematossilineosina che con le colorazioni per la mucina cosa si verifica a livello del delma papillare reticolare e poi del sottocutaneo lo vedete bene con la colorazione in alcian blu dove i filamenti blu astri tra le fibre di collagene sono sostanzialmente dei positi di mucina che la colorazione evidenzia non sempre necessario ricorrere alla biopsia di solito lo si fa nei casi atipici quindi localizzazioni atipiche oppure assenza di una correlazione con la patologia tiroidea per quanto riguarda il trattamento ovviamente misure generali di controllo della funzione tiroidea e poi le terapie dirette all'acute quindi corticosteroidi topici intralesionali la resezione chirurgica di solito non è di battuta l'utilità perché sembrerebbe associata al rischio di progressione lungo le cicatrici e poi altri trattamenti devo dire solo riportati in case report come ad esempio il trepotunumab che è un anticorpo anti-insulingrofactor receptor che è stato utilizzato come tentativo dopo l'approvazione per il trattamento dell'oftalmopatia gli altri trattamenti appunto sono veramente case report sono più che altro tentativi di trattamento nelle forme inveterate la necrobiosi lipoidica anche conosciuta come necrobiosi lipoidica diabeticorum è una malattia granulomatosa cronica tipicamente che insorge nella regione pretibiale anche se non è l'unica sede di localizzazione si manifesta con queste placche brunastre margini molto ben definiti con tendenza all'ulcerazione che con il progredito della malattia diventano sempre più atrofiche con una colorazione giallastra e sul cato da finite dell'angiectasia è caratteristica per il fenomeno di Cobbler che è quella manifestazione per cui la patologia progredisce lungo le cicatrici cutanee o lungo i segni le zone di traumatismo di solito è una patologia del paziente giovane o adulto nei casi di associazione lo vedremo a breve con il diabete ammellito tipo 1 si ritrovano anche casi a esordio giovanile l'associazione più comune quella più diciamo emblematica è quella con il diabete ammellito 1 o 2 fino a un 65% dei casi anche se rimane una manifestazione rarissima intorno all'1% sul totale dei pazienti diabetici per quanto riguarda il valore prognostico nel paziente diabetico è un dato non certo quello che si sa è che tende a insorgere in quei casi in cui i valori di insulina per compensare il diabete sono alti le altre associazioni sono con la terapotia autoimmune e poi tutte le altre comorbidità tendenzialmente del paziente diabetico quindi partenzione arteriosa scompenso e tutte le vostre diciamo patologie a quali voi siete affezionati la patogenesi non è chiara sembrerebbe dovuta ricondegandosi un po' al discorso del diabete al deposito di proteine glicose di latte a livello della parete vasale che dà un quadro di microangiopatia la diagnosi tendenzialmente clinica può ricorrere alla necessità di una biopsia nei casi di localizzazione non tipica come vedete sulle mani su altre zone corporee diciamo che oppure non associate al diabete dal punto di vista istologico è caratteristica questa stratificazione con aspetto astrati di torta dove vediamo una degenerazione del collagene che i patologi chiamano microbiotico e alternati a strati di dermatite granulomatosa palizzata con formazione dei classici granulomi a palizzata in basso a destra vedete il dermatoscopio perché è molto caratteristico apprezzare al dermatoscopio un colorito giallastro con queste finite l'angiectasia dal punto di vista del management ovviamente screening per il diabete mellito trattamento del disordine sottostante evitare il trauma perché come ho detto è possibile il fenomeno di Koebner e poi le terapie dirette all'acute corticosteroidi topici ad alta potenza prevalentemente in occlusione intralesionali quindi triamcinolone inibitori topici della calcineurina gli altri trattamenti sono in seconda linea per le forme refrattarie con trattamenti fisici come puva terapia o terapia fotodinamica e poi sterosparing immunosoppressori fino ad arrivare nei casi proprio inveterati a farmaci biologici l'acantosis nigricans è una patologia abbastanza comune invece si manifesta con queste placche ipercheratosiche vellutate con un aspetto iperpigmentato si localizzano prevalentemente alle pieghe corporee quindi alle pieghe del collo alle ascelle alla regione inguinale anche se ci sono casi atipici di localizzazione in zone estensorie o sulle prominenze osse ed è molto frequente nell'etnia nera in particolar modo si associa a tutte quelle manifestazioni che hanno come etiopatogenesi un'insulina resistenza quindi diabete tipo 2 obesità sindrome metabolica ma anche tutta l'endocrinopatia legata a un'alterazione del metabolismo glucidico-lipidico come caching o PCOS forme familiari oppure sindrome genetiche come la trisomia 21 e ancora le farmaco indotte sostanzialmente di nuovo dovute a farmaci che interferiscono con quel tipo di metabolismo quindi insulina corticosteroidi contraccettivi ormonali eccetera ci sono casi paraneoplastici la neoplasia più frequentemente associata al cappagastrico di solito come in tutte le forme malattie cutanee paranoplastiche l'esordio è diverso dalla patologia a etiopatogenesi diopatica di solito un esordio acuto in paziente anziano che non è obeso ma ha un calo ponderale improvviso e le sedi di solito sono atipiche non sono quelle classiche in questa slide vedete un caso di acantosi negricansi in un paziente con cute bianca di etnia caucasica mentre in basso vedete delle localizzazioni atipiche in regione estensoria sulle prominenze osse dal punto di vista istrologico si vede l'acantosi e l'ipercheratosi quindi l'espessimento dello strato corneo che insieme alla pigmentazione dei cheratinociti basali è responsabile di quell'aspetto scuro che volgarmente viene detto sporco dell'acute per cui di solito il paziente arriva in visita dal punto di vista del management ovviamente scrinare tutte le patologie in associazione che ho elencato trattare il disordine di base e poi le terapie di retta all'acute che sostanzialmente si basano su agenti sfoglianti quindi retinoidi topici fino ad arrivare retinoidi sistemici e poi trattamenti topici come ammonio lattato sodio lattato vitamina D oppure trattamenti fisici peeling e laser devo dire raramente si arriva a fare questi trattamenti l'eritema nodoso è una sindrome infiammatoria con sintomi sistemici non così rara devo dire proprio per via delle sue molteplici associazioni si manifesta con questi noduli e placche molto dolorosi rosso-violace che hanno un aspetto contusiforme come fossero dei libidi di solito si organizzano agli arti inferiori quindi di nuovo la regione pretibiale anche se non è l'unica sede ma possono essere interessati di tutte le sedi con un panicolo adiposo sostanzialmente non so gli arti superiori anche dove c'è un panicolo adiposo importante l'eziologia è molto varia la causa più frequente sono le infezioni soprattutto streptococco tubercolosi e poi ci sono le malattie infiammatorie croniche intestinali quindi retocolite e malattia di Crohn molti farmaci e poi associazioni fortuite come sarcoidosi malattia di Besset oppure la gravidanza e alcune neoplasie la diagnosi tendenzialmente clinica ma può avvalorarsi della biopsia e ovviamente è necessario richiedere tutta una serie di esami ematici o radiologici per andare a screenare eventuali associazioni ho detto che è una malattia sistemica nel senso che evolve in una maniera particolare una fase prodromica in cui non si hanno manifestazioni dermatologiche ma soltanto sintomi sistemici o dolori articolari a volte faringiti evolve in una fase stazionaria in cui però compaiono le manifestazioni cutanee le manifestazioni cutanee hanno un decorso agittate quindi a possè che si ripete per qualche mese e poi una fase risolutiva che diciamo si caratterizza per il fatto di non lasciare non lasciare esiti cicatriziali in questa slide vedete l'istologia che corrisponde a una paniculite settale senza vasculiti ovvero un ispessimento dei setti che nelle forme iniziali è dovuto semplicemente a un edema quindi un infiltrato e un aumento di acqua a livello dei setti mentre nelle fasi più inveterate a livello dei setti si instauri una vera e propria fibrosi le associazioni come vedete sono tantissime infezioni come ho detto prima batteriche ma anche fungine o virali streptococco e tubercolosi sono le più frequenti quindi titolo aso e quantiferon come screening farmaci caratteristici contraccettivi orali quindi estropogestinici sulfamidici raramente TNF dunque e per quanto riguarda le malattie infiammatorie croniche intestinali rispetto a molte altre di queste patologie che vi sto elencando questa è una delle poche manifestazioni cutanee che si associa alle fasi di attività di malattia di Crohn e rettoculite anche se le manifestazioni non sono a livello di gravità ed estensione correlate neoplasie viscerali oppure ematologiche e poi come dicevo prima sarcoidosi malattie di Besset e la gravidanza per quanto riguarda il trattamento per una volta la prima linea non sono i corticosteroidi ma abbiamo l'ibuprofene l'idura di potassio l'indometacina che in realtà da noi non è così usata in seconda linea ovviamente corticosteroidi o intralesionali o orali e poi inibitore della chemiotossi neutrofila perché di fatto è una patologia dermatologica neutrofilica nelle forme rifrattare si possono utilizzare farmaci biologici oppure immunosoppressori corticosteroidi steroid sparing il pedermo cangrenoso è una dermatosi neutrofila rara che si manifesta in forma di papula pussola volte vescicola con tendenza all'ulcerazione l'ulcerazione ha delle caratteristiche particolari quindi un alone eritematoso i margini sottominati e un dolore sproporzionato rispetto alla clinica del paziente può esordire in tutte le età a seconda delle associazioni con alcuni quadri sistemici esistono più varianti e di solito ad ogni variante è associata diciamo una malattia sistemica differente ad esempio le malattie infiammatorie intestinali sono più frequentemente associate alle forme epustolose mentre le neoplasie ematologiche si associano più alle forme bollose sono possibili forme stracutane soprattutto per i cicatrizzali o per i stomali ad esempio il caso che vedete in alto è un caso di un paziente operato per protesi d'anca che ho visto in Toscana e dopo vi farò vedere altri quadri post-chirurgici una caratteristica importante è la patergia ovvero la reattività alla stimolazione chirurgica quindi è dibattuto l'utilizzo della biopsia come metodo diagnostico per quanto riguarda l'istologia il patologo vede semplicemente un infiltrato neutrofilico diffuso al derma senza segni di vasculite le patologie sistemiche si associano in più della metà dei casi di pioderma quindi sono pochi alla fine quelli idiopatici si associano a sindomi autoinfiammatorie aromatologiche la prima causa in associazione sono le malattie infiammatorie croniche intestinali anche se comunque all'interno delle patologie infiammatorie croniche intestinali rimane un'associazione rara di solito si manifesta in fase di attività di crone rettocolite anche se può precedere la diagnosi questo significa che può essere giustificato l'utilizzo di un esame endoscopico in pazienti in cui sospettiamo un volgimento gastrointestinale anche senza subclinico il trattamento del pioderma non sempre va di pari passo col trattamento della patologia questi sono i criteri diagnostici il criterio maggiore l'unico è la biopsia cutanea che come ho detto a volte si tende a non fare proprio per il discorso della patergia sostanzialmente evidenzia il quadro estrologico di infiltrato neutrofilico ed esclude l'infezione quindi sostanzialmente una diagnosi di esclusione poi ci sono criteri anamnestici quindi storia di artrite o malattia infiammatoria cronica intestinale le manifestazioni caratteristiche quindi la formazione di un'ulcera che ha un decorso evolutivo molto rapido la patergia per esempio la tendenza della lesione a guarire con una cicatrice detta cribiforme a carta stropicciata è molto caratteristica e infine il criterio farmacologico cioè la risposta positiva al trattamento con immunosuppressori per quanto riguarda il trattamento ovviamente incentivare la sospensione del fumo corticosterodi sintopici o inibitori della calcina urina che nella mia piccola esperienza servono a poco magari solo in fase diagnostica corticosterodi sistemici inibitori della chimiotassina utrofila quindi dapsone minociclina immunosuppressori oppure farmaci biologici attenzione all'utilizzo delle anti-17 vista l'associazione con le patologie retocolite e cron la sindrome di sweet è una sindrome neutrofilica acuta febbrile questo è il suo eponimo proprio perché si associa frequentemente a sintomi sistemici si caratterizza per la formazione di queste papule soffici quasi orticarioidi che però sono fisse si localizzano in qualsiasi sede dal volto agli arti al dorso quindi non hanno una specificità esistono alcune sotto varianti dermatologiche su cui non mi dilungo e ha veramente tante associazioni il dottor Sweet che l'ha diciamo l'ha descritta per la prima volta le ha identificate con associazioni alla gravidanza ai farmaci o le forme classici che sarebbero quelle associate a tutte le altre manifestazioni internistiche quindi enoplasie ematologiche manifestazioni malette autoimmuni infezioni per quanto riguarda il coinvolgimento sistemico spesso presente lo vedremo dopo e caratteristica è la febbre ovviamente screening con routine ematochimica indici infiammatori eventualmente se lo sospettiamo screening oncologico endoscopia biopsiostomi dollare eccetera dunque anche in questo caso un po' come succedeva nel pioderma può precedere il quadro intestinale pur manifestandosi nelle fasi attive delle malattie però può farci accendere una lampadina e farci pensare a qualche altra associazione è possibile una fotoinduzione questo è un quadro che ho visto recentemente di una paziente che ha avuto una manifestazione di sindrome di suite idiopatica in seguito a un'esposizione solare prolungata dal punto di vista estologico di nuovo c'è un infiltrato neutrofilico a specifico senza vasculite e il trattamento prevede sostanzialmente corticosteroidi sistemici oppure inibitori della chemitossi neutrofile immunosoppressori e farmaci biologici questi sono i criteri maggiori e minori sostanzialmente la clinica quindi l'esordio acuto con la conferma estologica l'associazione con tutte le patologie di cui vi parlavo prima la febbre che è un criterio minore che noi dermatologi tendiamo sempre a considerare come quasi certo e in realtà può mancare le anomalie laboratoristiche quindi una leucocitosi neutrofile con aumento di PCR e poi come per il pioderma una risposta al trattamento con immunosoppressori la dermatite erpetiforme è una patologia bollosa autoimmune che è associata notoriamente all'enteropatia da glutine non mi soffermo sulla diagnosi perché tanto la conoscete meglio di me ha queste manifestazioni in papulo pustole che poi si ulcerano il nome erpetiforme deriva proprio dalla somiglianza con le manifestazioni dell'herpes si associa all'HLA di Q2 di Q8 tipici della celiachia ed è dovuta a una cross-reazione tra la transglutaminasi tessutale e quella epidermica ovviamente la biopsia è necessaria con l'immunofluorescenza per la diagnosi e poi sierologia e insomma tutto il resto gastroscopia biopsia che appunto conoscete ancora meglio di me ovviamente risponde alla terapia con la dieta agglutinata e eventualmente associata all'utilizzo di steroidi topici o sistemici eventualmente antistemici per il prurito il penfigoide bolloso non ve lo descrivo più perché mi avvisano che manca tempo vi do solo un dato sul fatto che non ha un'associazione caratteristica con una malattia in particolare ma si associa senza una causa provata in letteratura a Alzheimer Demenza Parkinson Diabeto Mellito Sclerosi Multiple quindi tutte patologie che vedete abitualmente nei vostri ambulatori in più un dato più recente all'utilizzo di alcuni farmaci come diuretici dell'ansa diuretici tazidici e gli inibitori di pepidilpettidasi e a questo proposito sono andata a vedermi questa revisione di 15 anni di trattamento in pazienti diabetici che ha evidenziato come bisogna preferire la citaglittina rispetto agli altri principi attivi e moderare l'uso soprattutto in pazienti con demenza e utilizzo di inizi azidici o furosemide vado avanti sulla terapia tanto interesserà poco e concludo solo con un quadro che potrebbe stimolare la vostra attenzione queste sono quattro zone pretibiali che possono sembrarvi la stessa cosa partendo dalla sinistra vediamo delle placche contusiformi di aspetto simile a quello dei lividi sulle gambe di solito c'è una sintomatologia sistemica che può esserci dolore e un eritema nodoso a fianco vediamo una placca margini sfumati leggermente papillomatosa traslucida può associarsi alla terapia e in questo caso parliamo di un mix edema pretibiale ancora avanti abbiamo un quadro con una placca margini netti colorito anche se lo vedete poco giallo-aranciato può ulcerarsi frequentemente attenzialmente asintomatica e una necrobiosi lipoidica in un paziente diabetico infine un quadro di una dermatite eczematiforme a manicotto molto caratteristica che sicuramente conoscerete benissimo questa non è una patologia di cui vi ho parlato è un eczema cronico da stasi e concludo grazie 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 grazie